Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Bene, mi dice che c'è il numero legale, pertanto riprendiamo i lavori. Chiedo all'assessore Toffolo di dirigere l'esposizione. Grazie. Grazie Presidente. Riprendiamo la presentazione del nuovo piano regolatore di Pordenone. Ed entriamo nella vera descrizione di questo strumento urbanistico. I lavori proseguiranno con un'introduzione che darà le indicazioni di grande scala e di struttura dello strumento da parte dell'architetto Brunello. Per poi passare invece a una spiegazione delle due componenti che costituiscono il piano regolatore di Pordenone. Ovvero la componente strutturale e la componente operativa. Che verranno presentate legate alle problematiche e quindi individuando le modalità di soluzione di queste problematiche dagli architetti Tosca e Longa. Seguirà la presentazione della valutazione ambientale strategica che è ciò che sostanzia la sostenibilità del piano per lasciare poi la visione complessiva in chiusura all'architetto Giuliani. Quindi passo la parola all'architetto Brunello. Come è stato detto io faccio una breve introduzione che riguarda all'inizio la modalità e il gruppo di lavoro per poi introdurre i temi che verranno declinati secondo precise opportunità o criticità del territorio e si entrerà più nel vivo del piano. Da dove siamo partiti? Noi è da due anni che lavoriamo, da settembre 2013. E quando siamo partiti c'era la variante 77 ma c'era soprattutto il testo unico generato da Pordenone più facile. Ora in questa immagine voi vedete il cubo che era un po' il simbolo di questo percorso di partecipazione che è ricomposto in qualche maniera. Questo non vuol dire che sia finito il percorso di partecipazione e qui mi ricollego a quanto è stato detto dal sindaco stamattina delle parole importanti perché la partecipazione non è semplicemente l'attività di ascolto ma oggi che il piano entra nella sua fase di adozione diventa la partecipazione uno strumento di correzione e perché no ci piace intendere la partecipazione anche come una grande operazione di trasparenza che dà alla cittadinanza gli strumenti per poi usare il piano al meglio, usare le possibilità che il piano apre. Qui vedete alcuni dei soggetti coinvolti in questo percorso che ha generato il testo unico che in qualche maniera hanno le aspettative iniziali dalle quali siamo partite con il gruppo di lavoro che vi illustriamo con questa slide. Qui vedete appunto sopra la lista degli professionisti incaricati che poi in realtà hanno anche altri collaboratori rispetto a quelli che vedete elencati vedete tutti i piani di cui oggi ne abbiamo visti tre che si stanno mettendo a punto contemporaneamente al PRCG ma soprattutto qui vedete la centralità dell'ufficio di piano, cioè il tavolo di coordinamento, la messa in rete delle informazioni, la sovrapposizione proprio per trasformare spesso quelli che siamo abituati a vedere come vincoli in opportunità e nello stesso tempo coinvolgere tutte le componenti che stanno lavorando sui temi della città è stato centrale da parte del responsabile del procedimento Tone Guzzi, ingegner Tone Guzzi e di tutto il team dell'ufficio di piano che ha messo in pratica la piattaforma citata stamattina dall'assessore. Io entrerei direttamente nelle questioni del piano raccontandovi come il pacchetto che va in adozione è composto da una serie di documenti che avete già approvato, che vedete elencati nella parte superiore quindi le invarianti, soprattutto le direttive, oltre che al documento di sintesi che restituisce un po' l'analisi del territorio ma è composto fondamentalmente, come prescritto dalla legge della Regione Friuli, da una componente strutturale che ha la sua relazione del piano, e una componente operativa. Questo non vuol dire ragionare su scale diverse, perché la scale è sempre quella urbana ma su tempistiche in qualche maniera diverse. Cioè la componente operativa si occupa della tempistica a breve termine per cui dovrete guardare le tavole, il 5000, tutti i materiali che sono depositati in quest'ottica mentre invece la componente strutturale ragiona sul medio termine attivare e guidare in qualche maniera le trasformazioni della città. Ci sono degli altri apparati che fanno parte del calcolo della capacità insediativa che è la quantità di abitanti che si prevede, si possono insediare a fronte della realizzazione delle previsioni di piano, un apparato delle norme e infine una grande quantità di schede delle singole aree di trasformazione, come vedrete, che portano già degli indirizzi di tipo progettuale ambientale, soprattutto ambientale, rispetto a tutte le aree di previsione. è un lavoro molto corposo che si completa con le regole sulla flessibilità che sono un po' l'ultimo apparato che sarà oggetto dell'adozione di oggi. Cominciamo in qualche modo a entrare nei contenuti perché oltre che alle metodologie e i materiali ci sono dei contenuti che sono stati portati avanti dei quali io faccio un ricapitolio degli obiettivi. Gli obiettivi non sono delle manifestazioni o dei manifesti, ma sono delle cose molto concrete perché serviranno alla VAS per misurare e valutare la coerenza con gli altri piani anche sovracomunali e sono in qualche maniera la traduzione tecnica delle direttive politiche che si erano ricevute all'inizio del piano, ma soprattutto servono anche la città per capire quali sfide mette in atto il piano. Un po' quella fiducia, quel senso del futuro che veniva citato stamattina. Ma in maniera molto più, cominciamo ad essere più pragmatici, ci sono una serie, le abbiamo divise in quattro macro temi. Il primo macro tema è in quattro ambiti tematici, di cui il primo è il sistema ambientale del paesaggio e se vedete tutte queste azioni che sono in realtà gli obiettivi e le azioni ragionano sempre sulla temporalità a breve termine, quindi connessa al piano operativo di cui si diceva prima, a medio termine, quindi connessa alla componente strutturale del piano. Io faccio una selezione giusto di uno o due punti per ognuno di questi ambiti tematici perché è chiaro che il sistema ambientale del paesaggio parte dal fatto che Pordenone ha 26 metri quadri di verde per abitante. Abbiamo visto dal testo unico che non è percepita come una città verde dagli abitanti pur essendo tra i primi posti in Italia per quantità di verde pro capite. Quindi il passaggio in questo caso deve essere anche qualitativo, per cui all'interno degli obiettivi l'introduzione di un concetto come quello che sentirete approfondito dopo dei sistemi ecotecnologici aiuta un po' a separarsi da quell'idea di verde come parco residuale rispetto alla città, quasi un recinto di quiete rispetto al caos del cemento che sta fuori per invece ragionare in maniera molto più contemporanea su come l'ambiente è parte integrante dello sviluppo urbano, della sua qualità ma anche del suo possibile sviluppo economico grazie a una serie di attività che fanno passare dalla salvaguardia al verde all'uso del sistema ambientale come una risorsa. Quindi a breve termine sicuramente si intendono rafforzare i corridoi ecologici e che badate bene ha anche delle ricadute di miglioramento della qualità ambientale. Pensate alle grandi infrastrutture, la mitigazione ambientale delle infrastrutture, le autostrade, in qualche maniera migliora le case e i pezzi di città che sono sorti a ridosso e queste sono delle azioni che vengono messe in campo fin da subito fino anche a raccomandare i corridoi ecologici come pratica del pubblico ma anche del privato perché esiste una gran quantità di verde privato che può garantire le connessioni per poi arrivare invece al medio termine ad alcune strategie politiche di utilizzo dei sistemi idrici come risorsa energetica, cosa che forse non sapete ma già oggi grazie a sette salti d'acqua a Pordenone viene prodotto più di un megawatt di energia. Se passiamo al sistema insediativo anche qui l'esempio forse più sul quale torneremo perché è un punto cruciale delle città oggi è il tema della rigenerazione. Sì ma come si fa a rigenerare la città? Questo è il tema che stanno provando ad affrontare moltissimi e abbiamo cercato di usare le migliori pratiche e per fare questo abbiamo riguardo alle strategie a breve termine ridotto sensibilmente le zone dove era prevista un'espansione l'avete visto e lo vedrete nei dati quantitativi sicuramente stimolati da una serie di contributi che avete visto stamattina la pericolosità idrogeologica che è introdotta dal PAIL di fatto blocca nelle aree zondabili l'espansione della città e questo nel bilancio complessivo chiaramente porta a diminuire di molto le zone dove prima della variante 77 banalmente erano previste delle zone di espansione quindi si riducono le zone di espansione e ci si preoccupa di legare le zone di espansione che rimangono in ambiti dove la sicurezza è garantita a degli interventi di rigenerazione cioè ci sono alcune parole che vi spiegheremo anche più tardi più precisamente che riguardano il termine della perequazione ma non solo perché è il tema della compensazione che di fatto aiutano, hanno come risvolto la creazione di mitigazioni ambientali di cessioni di aree destinate a servizi del piano operativo quindi urgenti, già oggi e infine questo credito edilizio che si genera dove si legano qualsiasi tipo di nuova costruzione deve per forza rigenerare delle parti della città esistente e questo è un atteggiamento fondamentale per rendere, attivare e liberare questo tipo di energie andiamo avanti il terzo tema è quello del sistema della produzione e del commercio che ha come sfida in sé quello di ragionare non sul breve termine sul breve termine, in questo caso le politiche possono sembrare più semplice ma la vera difficoltà è ragionare sul medio termine e riguarda per di più molti comparti che sono regolati a livello sovracomunale penso agli insediamenti edilizie e commerciali stessi in alcuni casi e gli obiettivi che ci si prefigge è di usare questi volumi esistenti della città e renderli più attrattivi all'attività economica, al lavoro per esempio creandone dei luoghi di produzione energetica voi pensate che ci sono più di 40 ettari di superfici, di tetti, di aree produttive ad oggi vuoti, molte di queste anche inutilizzate che hanno un potenziale, se ne usassimo la metà, di 20 megawatt che è una centrale inattiva che potrebbe aiutare anche il costo energetico delle aziende e tutto questo che già sapete quindi il sistema della produzione e del commercio ha questo grande tema che si può attuare a breve termine mentre sul medio termine sicuramente la sfida è quella della polifunzionalità cioè noi sappiamo che molto spesso queste grandi strutture non corrispondono più alle esigenze di spazio e se le lasciamo rigidamente funzionalizzate ad attività predeterminate a volte rimangono vuote invece lo sfida a medio termine riguarda anche qui una politica sovracomunale il coordinamento con una politica sovracomunale è quello di dare flessibilità a questi spazi andiamo al prossimo questi sono esempi, campionature di punti che poi vi spiegheremo invece come dispositivo operativo ma per darvi un'idea generale il quarto sistema ed è l'ultimo in questo caso è quello tematico è quello del sistema dei servizi e delle infrastrutture chiaramente anche qui il nuovo significato dei servizi è aumentarne la qualità non tanto la quantità non è ipotizzabile pensare di migliorare i servizi della città solamente garantendo nuovi spazi ma bisogna farli funzionare e per questo abbiamo pensato a breve termine anche grazie a quello che abbiamo raccontato prima accennato prima della compensazione a un'acquisizione di spazi e servizi dove servono che non siano frutto dell'esproprio che ha delle dinamiche lunghissime dove quando viene realizzato molto spesso già è cambiata la situazione di contorno ma l'acquisizione tramite meccanismi di compensazione delle aree che semplifica e soprattutto velocizza la presa in carico degli spazi di birra servizi ma soprattutto sul medio termine noi vorremmo lavorare anche qui su una flessibilità e una funzionalità diversa basta immaginare agli esempi che ormai sono presenti di scuole che cominciano ad essere aperte i weekend o anche fuori dall'orario prettamente scolastico e a usare le proprie strutture sportive di spettacolo come riferimento di quartiere e grazie a un'operazione di miglioramento energetico delle scuole stesse pensate a come si abbasserebbero i costi di gestione per rendere possibile e vantaggioso questo tipo di utilizzo degli spazi a fronte della realizzazione di nuovi spazi che invece si moltiplicherebbero e potrebbero servire di meno quindi un discorso estremamente qualitativo sui servizi possiamo andare avanti perché io concludo abbastanza brevemente questa introduzione perché quello che vi ho raccontato sono temi alcuni dei temi che avete visto elencati che sono in realtà gli obiettivi attraverso i quali la VAS valuterà la coerenza del piano però questi temi non calano sul territorio in maniera puntiforme separati tra loro ma ci sono degli ambiti territoriali dove chiaramente i temi si sovrappongono e diventano localizzati per cui noi abbiamo campionato tre porzioni di Pordenone quella a nord quella a sud e quella al centro e tramite delle veloci sovrapposizioni di immagini vi raccontiamo no no vabbè vi raccontiamo che cosa gli obiettivi del piano e cioè quelli per esempio nella fascia nord di un uso diverso dell'agricoltura ed è l'ambiente come limite della città voi sapete benissimo che sia in qualche maniera sfrangiata la città a nord con delle costruzioni che non hanno reti adeguate di servizi che è la densità adeguata per garantire le condizioni e in qualche maniera consolidare l'ambiente lungo questo margine crea un limite che aiuta il contenimento della città come fare questo? voi contate che tramite delle politiche anche di fondi europei per molti agricoltori oggi a volte conviene produrre ambiente invece che produrre alimenti e quindi sovrapporre queste politiche per creare questo margine territoriale a nord con un'agricoltura polifunzionale e di diversa natura sicuramente è uno degli obiettivi l'area sud abbiamo già detto essere oggetto di grandi problematiche legate al PAIL e all'interno di questo però esistono delle grandi infrastrutture urbane a partire dalla ferrovia e dall'autostrada fino anche alle grandi strutture produttive e in questo caso lo stesso l'ambiente per citare il sindaco stamattina usato in attacco e non in difesa può servire a migliorare estremamente la qualità della città esistente che non si allargerà ma sarà più di un livello qualitativo più alto grazie alla mitigazione delle infrastrutture e al possibile utilizzo di questi grandi sistemi ambientali il centro invece ha il cosiddetto sistema ecotecnologico di cui abbiamo parlato in questo caso la valle del moncello che si in qualche maniera contiene un po' tutti gli elementi di regenerazione del tessuto di cui abbiamo parlato prima e cioè valorizza il sistema ambientale usandolo vista la densità abitative che sta intorno a fini energetici e quindi di reperimento di risorse pensate ai discorsi del piano idrogeologico sull'utilizzo dell'acqua di falda poi vedrete degli esempi molto concreti di queste cose io vi sto dando più delle linee generali sul sistema ecotecnologico insistono tre grandi asset della città che sono i cotonifici oggi abbandonati per lo più che in qualche maniera alcuni sono addirittura nell'alve dei fiumi ma devono invece garantire in qualche maniera un'identità di di recupero di queste strutture che sia coerente con i temi della sicurezza e però anche con i temi dello sviluppo e così se ci pensate bene la sintesi di questo che abbiamo evidenziato come sistema ecotecnologico in questa maniera è che oggi quello che potrebbe essere un fronte su cui costruire la città pubblica è un retro cioè oggi nonostante si assestino le scuole i cotonifici grandi aree a servizio proprio sul sistema ambientale del noncello la città in qualche maniera le ha sempre voltato le spalle quando tramite delle politiche di incentivo di disegno ma anche di vantaggio derivante appunto dall'utilizzo del potenziale ambientale ed energetico della presenza dell'acqua e delle aree del noncello questo potrebbe diventare il nuovo fronte pubblico su cui costruire la città pubblica di Pordenone che così troverebbe anche nuovi sbocchi identitari e di sviluppo sicuramente posizionandosi ad un alto livello qualitativo aumentando la sua qualità quindi questo erano un po' come tutti questi temi che qui vedete rappresentati in maniera molto generica ma speriamo che vi rendano l'idea un po' di dove si vorrebbe arrivare adesso invece entriamo come dire nel vivo del piano tramite l'architetto Longa e l'architetto Tosca che ci raccontano in termini di criticità e opportunità strategie che mette in atto il piano molto concretamente delle azioni noi abbiamo preparato un intervento a due in modo che cerchiamo di animarlo un po' di più perché comunque cerchiamo di darvi una guida alla scusate mi sentite ok allora noi cerchiamo di presentarvi i principali temi del piano quindi organizzati rispetto delle criticità e le possibili risoluzioni come diceva stamattina l'assessora il piano non dà risoluzioni l'assessore Toffolo grazie diceva che il piano non dà soluzioni ma ci sono delle azioni che possono mitigare le criticità che sono state riscontrate quindi abbiamo cercato di organizzare una lettura del piano basandosi sulle criticità e una guida pratica per cercare di orientarsi all'interno della corposa quantità di tavole e relazioni che avete trovato in consultazione la prima criticità che riscontriamo su cui vogliamo partire è relativa ai vincoli idrogeologici e del PAIL quindi del piano assetto idrogeologico del bacino dell'ivenza che oggi è stato citato in tutte tutti gli interventi dagli interventi del professor Nicolini al geologo contratti ma anche all'interno dei discorsi praticamente in tutti i discorsi è stato citato quindi è uno degli argomenti più importanti e più sentiti all'interno del piano perché crea una serie di vincoli notevoli più del 50% del territorio è in qualche modo coinvolto all'interno di questo rischio idrogeologico a vario livello e quindi con il piano abbiamo voluto siamo partiti da questo stato di fatto e analizzando le previsioni contenute nella variante 77 quindi nel piano che oggi è in vigore siamo andati a stralciare tutti quegli ambiti che ricadono in tutte le zone ad alto rischio quindi sia nelle zone F che nelle zone P2 P2 e P3 che sono i gradi di vincolo più alti quindi tutte le previsioni che sono state riconfermate perché il piano non introduce nuove aree di espansione ma sono state confermate una serie di previsioni già contenute nel piano attualmente in vigore si concentrano tutte nella parte nord praticamente cioè al di sopra della zona a rischio ovviamente i vincoli idrogeologici interessano anche la città già costruita quindi nelle zone F quindi quelle a grado di vincolo maggiore sono state introdotte una serie di misure di tutela e quindi è stata prevista una zona residenziale specifica che congela le volumetri esistenti e quindi non dà possibilità di possibili ampliamenti e quindi un aumento del carico antropico in aree pericolose ad esempio questo è il caso di via Levada che è nella zona su del territorio quindi lungo il fiume Meduna la seconda criticità con cui ci siamo confrontati nello sviluppo del piano è sicuramente la presenza delle infrastrutture all'interno del sistema urbano generalmente le infrastrutture tagliano da est a ovest il territorio e quindi hanno un impatto notevole rispetto alla vita pubblica della città questo il piano rispetto a questa criticità ha dato un attimo una risposta di questo tipo che riguarda soprattutto lo sviluppo di una fascia di mitigazione infrastrutturale ridosso appunto delle principali infrastrutture è una fascia di mitigazione che ha una importanza abbastanza rilevante perché siamo sempre di fronte a situazioni in cui il tessuto urbano abitato è molto vicino pensiamo ad esempio alla ponte Bana all'infrastruttura stessa quindi la possibilità di poter mitigare questi livelli di infrastrutturazione è consentita attraverso appunto la costruzione di una fascia di mitigazione ambientale di circa 50 metri per lato per ciascuna infrastruttura all'interno del quale è favorito il potenziamento arboreo e la copertura arborea di questa grande area lineare all'interno del quale poi ci sono delle regole specifiche per lo sviluppo edilizio e la costruzione degli edifici sempre riguarda il tema della sicurezza urbana noi siamo partiti abbiamo risuddiviso tutte queste criticità e queste azioni rispetto alle invarianti iniziali per riorientarci e quindi per fare una verifica anche di coerenza rispetto agli obiettivi iniziali sempre rispetto alla sicurezza col termine sicurezza abbiamo inserito anche l'uelfare urbano quindi la necessità della città di dare servizio ai cittadini e quindi di rispondere a dei farbisogni specifici sia di tipo sociale che soprattutto di tipo sociale in particolare qual è la difficoltà sappiamo benissimo che in questi anni la crisi economica le scarse risorse a disposizione hanno compromesso il potere dell'amministrazione pubblica di acquisire le aree quindi abbiamo introdotto un meccanismo che è uno strumento lasciando invariato quindi la dotazione di servizi ma prevedendo un nuovo modo di attuazione mi spiego meglio abbiamo inserito la perequazione e la compensazione che sono due strumenti che nascono da un principio di equità e quindi vanno a palificare le aree a servizi con le aree edificabili anche le aree a servizi hanno una loro dotazione di volumetria che non può essere realizzata in loco ma deve essere delocalizzata e quindi deve essere delocalizzata all'interno delle aree di trasformazione queste aree di trasformazione sono obbligate ad acquisire parte dei diritti volumetrici che derivano dalla perequazione in questo modo noi andiamo a bilanciare lo stato della città cioè prima si aumentano i servizi e poi c'è l'espansione e quindi questi due processi sono legati in modo univoco lo stesso legame poi lo vedremo nel punto successivo viene anche fatto sulla rigenerazione urbana quindi prima un miglioramento della città e poi la possibile espansione questo meccanismo quindi va prima di tutto a trattare in modo più equo i proprietari quindi chi ha aree a servizi ha comunque una sua volumetria ha comunque un valore e ha un valore di mercato questa volumetria viene concessa ai privati cittadini proprietari delle aree a standard nel momento dell'accessione delle aree all'amministrazione pubblica e quindi poi loro lo possono andare a delocalizzare all'interno delle aree di trasformazione e si crea quindi una sorta di mercato che serve appunto a garantire un processo più rapido e meno oneroso per la costruzione dei servizi e soprattutto sempre bilanciato rispetto alle espansioni quindi in via teorica non dovrebbero esserci più le problematiche di una maggiore espansione e i servizi che arrivano in coda in un momento successivo ma la dotazione della città sarà sempre costante quindi attualmente sono state previste all'interno della componente operativa e quindi raccoglie l'esigenza il far bisogno dei servizi nel periodo breve quindi a breve termine circa 11 ettari che creano una volumetria da ricollocare che quindi viene conteggiata ai fini del calcolo della capacità insediativa rispetto alle aree di espansione di circa 40.000 metri cubi quindi le aree sono 11 ettari sono 40.000 dove vanno a ricollocarsi nelle aree di trasformazione di riqualificazione del tessuto esistente quindi sempre all'interno di piani attuativi quindi attuazioni indiretta le aree di trasformazione di recupero del patrimonio edilizio deve acquisire un decimo della volumetria complessiva dai processi di perequazione mentre per le aree greenfield quindi le aree di espansione le aree c devono acquisire un quinto della volumetria totale e quindi all'interno di tutte le aree di trasformazione possono essere ricollocate 67.218 per l'esattezza metri cubi proveniente dalla perequazione le aree standard generano circa 40.000 metri cubi quindi abbiamo uno scarto di circa 26.000 per innestare i processi di rigenerazione del tessuto esistente che ha lo stesso funzionamento della perequazione per le aree a servizio che adesso vi illustrerò una criticità importante con cui ci siamo confrontati nello sviluppo del piano è sicuramente il tema del patrimonio edilizio esistente e come abbiamo già detto altre volte il tema della rigenerazione urbana siamo partiti da questo dato che è emerso nel documento di sintesi ma era già contenuto nel testo unico di pordone più facile ossia la vetustà del patrimonio edilizio attuale di Pordenone abbiamo visto che il larga percentuale sia gli edifici pubblici che gli edifici privati hanno una data di costruzione che si sviluppa intorno agli anni 70-80 quindi in generale abbiamo un patrimonio edilizio che ha una scarsa efficienza energetica pur avendo in molti casi anche delle valenze però architettoniche questo è un tema che ci sta molto a cuore proprio c'è stato molto a cuore proprio nella costruzione del piano perché riuscire a trovare una politica di rigenerazione della città costruita oggi è la vera sfida che aspetta un po' tutte le città spesso e volentieri la rigenerazione urbana è un annuncio ma poi l'attuazione concreta è molto difficile a Pordenone abbiamo provato a mettere in atto poi delle politiche che vi illustreremo per dimostrare un po' la fattibilità concreta di questa politica allora come già detto prima il piano regolatore generale di Pordenone è organizzato in una componente strutturale e in una componente operativa rispetto al tema della rigenerazione la componente strutturale prevede due tipi di meccanismi di rigenerazione urbana ossia un primo meccanismo che si attiva attraverso un efficientamento energetico degli edifici esistenti e il riconoscimento di un diritto volumetrico ossia premio volumetrico da sviluppare in loco quindi direttamente con un incremento di volume sull'edificio stesso una seconda strategia invece è legata al riconoscimento di questo diritto volumetrico attraverso appunto l'efficientamento energetico che però è possibile spostare su un'altra area di trasformazione esterna all'ambito di applicazione di questo tipo di politica diciamo che invece nel piano operativo proprio questa questa strategia è stata recepita anche per evitare delle sovrapposizioni con l'attuale piano casa vigente e quindi ai fini della rigenerazione urbana abbiamo ritenuto molto molto importante riconoscere questo diritto volumetrico che può essere spostato all'interno delle aree di trasformazione quindi abbiamo un forte legame tra la rigenerazione urbana del tessuto urbano esistente e le aree di trasformazione che il piano prevede ecco qui vedete come le due componenti del piano recepiscono queste modalità di attuazione nella componente strutturale vedete l'individuazione di alcune aree di rigenerazione prioritarie che sono state studiate ad hoc attraverso anche le analisi fatte con il piano energetico comunale lo sviluppo del piano energetico comunale mentre nella componente operativa abbiamo l'individuazione delle aree di trasformazione che possono ospitare la volumetria che deriva dalla rigenerazione urbana quindi abbiamo la composizione di un diritto volumetrico che in parte è dato dall'area di trasformazione e in parte deriva dalla rigenerazione del tessuto edilizio esistente abbiamo poi sviluppato una carta geoenergetica dei suoli questo è un approfondimento che il piano ha fatto specifico proprio sulle risorse energetiche che il territorio di Pordenone ha proprio per dare uno strumento ulteriore ai tecnici e ai professionisti ma anche ai cittadini per capire esattamente rispetto alla zona in cui sono e alle modalità di utilizzo e sfruttamento delle energie presenti soprattutto nel sottosuolo del territorio pordenonese le infrastrutture energetiche hanno ricoperto un'importante parte del nostro lavoro soprattutto in questi termini abbiamo cercato di valorizzare la presenza delle proprietà pubbliche delle attrezzature pubbliche come primi possibili spazi dove poter sperimentare queste modalità energetiche alternative ma sostenibili per la produzione energetica e l'alimentazione della cosiddetta città pubblica che Brunello ricordava prima i sistemi possibili sistemi che fino ad ora abbiamo provato a proporre poi chiaramente potrebbero essere molti altri sono sicuramente l'utilizzo dell'acqua di falda per scopi geotermici l'utilizzo dei salti d'acqua attualmente inutilizzati che sono presenti in larga parte sul noncello e sulle rogge e l'impiego dei pannelli fotovoltaici nelle coperture per alimentare questi sistemi energetici che servono appunto per l'alimentazione della città pubblica ora cambiamo argomento e passiamo alla salvaguardia e alla valorizzazione del sistema ambientale abbiamo visto prima la presentazione dell'architetto Brunello Pordenone si caratterizza per un sistema di grande qualità che però ovviamente presenta delle criticità in particolar modo il crescente consumo di suolo che si è sviluppato negli ultimi anni ha determinato una chiusura degli ambiti agricoli cioè una suddivisione del territorio in tre grandi fasce di valore ambientale la fascia nord la fascia centrale che è il sistema ecotecnologico per riprendere sempre il discorso dell'architetto Brunello e la parte sud quindi due ambiti agricoli e l'ambito centrale che è quello che si caratterizza per una qualità maggiore sia dal punto di vista ecosistemico che dal punto di vista biologico infatti questo è un estratto della carta della multifunzionalità dei suoli e quindi mette a sistema tutti i vari valori ambientali e si può vedere che i verdi più brillanti si concentrano nella parte centrale questo che è una grande opportunità per il territorio di Pordenone oggi non è non è ben sfruttato e quindi è proprio c'è una chiusura netta e non ci sono correlazioni tra i tre sistemi e questa è una problematica che abbiamo cercato di risolvere all'interno del piano sia della componente operativa che della componente strutturale e quindi con la creazione di connessioni nord-sud che sono connessioni di tipo ambientale che non hanno niente a che vedere con i parchi pubblici e quindi la fruizione da parte dei cittadini ma serve per garantire una permeabilità dei diversi sistemi quindi utilizzando la risorsa che in Pordenone certo non manca che comunque è il verde privato che se organizzato in modo sistematico e con delle modalità di intervento quindi controllando le trasformazioni di alcune porzioni possono consentire questa permeabilità tra diversi sistemi pur ovviamente mantenendo la loro funzione di giardini privati quindi l'utilizzo di queste aree diventa strategico sono piccole aree all'interno del tessuto consolidato che già esistono ma che ma con piccole modificazioni possono incrementare in modo sostanziale il valore ecosistemico di tutto Pordenone abbassando anche i fenomeni di isola di calore cioè l'inalzamento della temperatura classica delle zone fortemente antropizzate e garantire un incremento di valore ecosistemico e quindi passaggio di fauna e flora su tutto il territorio quindi il corridoio ecologico si può andare a costruire e a governare con delle modalità di intervento specifiche che vi ripeto non prevedono l'esproprio del ma alcuni accorgimenti di tipo ambientale sulle aree individuate quindi non potranno esserci delle cesure dovranno esserci dei sistemi sempre molto permeabili pur garantendo anche la possibilità di delimitare la propria proprietà di grande importanza è anche riattivare un'alleanza con l'agricoltura in particolar modo nella parte nord dove abbiamo un sistema agricolo che è molto frammentario e che si innesta all'interno del tessuto urbano è un sistema unico che oggi presenta grandi interruzioni in realtà può diventare una grande potenzialità quindi un sistema filtro di suddivisione dal sistema agricolo produttivo di grande produzione al sistema urbano e quindi pur mantenendo la loro attività produttiva e quindi l'attività agricola è possibile con una serie di accordi con gli agricoltori individuare alcune culture per privilegiare alcune tipologie di agricoltura che possono aumentare il dialogo tra la parte urbana e la parte ambientale e quindi diventa una sorta di passaggio tra i giardini privati e l'agricoltura intensiva in questa zona tra l'altro a nord abbiamo anche un cono di salvaguardia dei pozzi che stamattina è stato citato dal dottor Contratti è un è un ambito di salvaguardia molto ampio perché il pozzo situato a nord si trova all'interno di un terreno molto poroso quindi ne risente molto di ciò che succede nella parte nord quindi è stato individuato un cono quindi è una zona di salvaguardia per cui non possono essere inserite delle attività inquinanti perché andrebbero a inquinare la falda che viene utilizzata per per i pozzi potabili in questa zona si prevede la possibilità e si incentiva la possibilità di inserire determinate culture che consentono di filtrare meglio l'acqua piovana e quindi è un sistema di salvaguardia delle acque del sottosuolo è questo qua scusate è questo il cono di vincolo dinamico del pozzo è questa sorta di di V un'ulteriore criticità con cui ci siamo confrontati nello sviluppo del piano è sicuramente la capacità attrattiva del sistema urbano chiaramente tutti sappiamo che l'avvento della crisi ha in qualche modo inciso su tutti i sistemi urbani soprattutto delocalizzando molte attività e riducendo anche la capacità di crescita dei tessuti urbani anche a Pordenone abbiamo visto quando siamo arrivati la prima volta le prime analisi che abbiamo sviluppato che la città è cresciuta per parti molto funzionali spesso non direttamente collegate una con l'altra quindi abbiamo i grandi sistemi della residenza nella parte centrale il sistema della produzione a sud le grandi aree commerciali attestate sulla strada statale pontebana queste queste sono criticità notevoli che in qualche modo il piano ha assunto come sfide per poter costruire un nuovo schema di sviluppo chiaramente la soluzione che il piano propone nelle sue due componenti le soluzioni che il piano propone nelle sue componenti sono principalmente legate a un aumento della multifunzionalità dei tessuti urbani quindi favorire la differenziazione funzionale all'interno della città costruita e riequilibrare il sistema dei servizi da questo punto di vista sia il piano strutturale che il piano operativo hanno effettuato una selezione puntuale rispetto al potenziamento dei servizi proprio per aumentare la qualità di cui parlava Brunello in precedenza quindi la qualità dei servizi diventa un elemento cruciale del nuovo piano come ha già detto l'architetto Tosca abbiamo introdotto questo sistema innovativo per l'acquisizione delle aree a standard quindi per le aree a servizi che è legato alla preequazione quindi al riconoscimento di un diritto volumetrico a fronte della disponibilità dell'area per la costruzione di un'attrezzatura pubblica qui abbiamo è importante però fare una differenza sostanziale ossia rispetto alla componente strutturale il nuovo piano individua una rete di servizi potenziali che però possono essere sviluppati nel medio periodo mentre rispetto alla componente operativa sono stati individuati i servizi strettamente necessari nel breve periodo e che sono stati valutati rispetto a una sostenibilità economica ma soprattutto di calattria ambientale e di necessità del sistema urbano come diceva prima appunto l'architetto Longa il territorio è un territorio monofunzionale quindi ci sono scarse connessioni tra le diverse parti della città sia dal punto di vista urbano che dal punto di vista ambientale con l'introduzione quindi la messa in discussione di tutte le previsioni della variante 77 e successive siamo andati a definire quali erano gli obiettivi per ogni singola zona di espansione quindi le zone di espansione non sono viste all'interno di questo piano come una zona in cui si applica semplicemente un indice ma sono componenti di un progetto unitario e che hanno delle funzioni e degli obiettivi specifici per risolvere delle microcriticità o per creare dei miglioramenti all'interno del contesto in cui si applicano quindi all'interno delle aree di trasformazione che noi vediamo quindi le zone di espansione che noi vediamo sia nella componente strutturale che sono relazionati con gli obiettivi di piano che all'interno della componente operativa e che quindi si rifanno a dei parametri urbanistici ben definiti per ogni area di trasformazione è definita una scheda dove ci sono tutti i principi prestazionali la scheda è organizzata in tre parti l'innovazione di questo piano rispetto alla variante 77 è la parte prestazionale è quella in cui indica quali sono gli obiettivi specifici quindi il rapporto che deve avere il nuovo intervento con il contesto e con tutto il sistema urbano quindi connettività ambientali del sistema della viabilità connessione delle rete ciclopedonali ma anche la localizzazione puntuale di servizi e come si devono relazionare con l'immediato intorno quindi la scheda è suddivisa in tre parti come vi dicevo nella prima diciamo la parte più tradizionale dove vengono raccolti tutti gli indici urbanistici ed edizi quindi distanze dei confini indice massimo la quota per equativa quindi c'è la quota di volumetria che dobbiamo acquisire nel processo per equazione o compensazione la seconda parte le destinazioni d'uso nella seconda parte invece la parte prestazionale che abbiamo visto prima un esempio e nell'ultima parte relaziona l'ambito di trasformazione con la fattibilità idrogeologica e quindi dà le informazioni di base per poter attuare l'intervento inoltre durante la costruzione del piano ci siamo sempre relazionati con i tecnici incaricati della valutazione ambientale strategica che devono valutare la sostenibilità dei nostri interventi e abbiamo e quindi abbiamo già recepito alcune indicazioni che vi presenteranno poi nella fase successiva e quindi abbiamo definito dei requisiti minimi che tutte le aree di trasformazione e quindi le nuove espansioni della città devono garantire e queste riguardano non la dotazione di servizi ma il benessere e quindi la sostenibilità dell'intervento secondo vari settori ad esempio energia e diminuzione delle emissioni che è uno degli obiettivi principali di questo piano il comfort degli edifici quindi il comfort interno e il benessere dei cittadini le aree verdi e risorse idriche ma non intese come aree verdi pubbliche ma come risorsa verde quindi superfici permeabili e valori ecosistemici e la coesione sociale quindi l'interesse pubblico che quell'intervento deve garantire per quanto riguarda gli obiettivi di trasformazione per la città costruita anche qui abbiamo ridefinito alcune priorità come si diceva come l'architetto Brunello nel suo intervento ha ben evidenziato il sistema ecotecnologico quindi il sistema ambientale centrale dato dalla rete di canali fiumi e dal sistema ambientale è sempre stato vissuto come il retro della città se voi andate e fate un giro all'interno del del tessuto urbano noterete che i fronti principali quindi quelli degli ingressi su cui si affaccia tutte le funzioni principali danno sulla strada mentre sul retro quindi verso i giardini verso scusate la zona dei laghi io ho in mente il lago San Carlo dove alcuni interventi già si orientano verso questo parco altri invece si raffrontano col parco con gli edifici accessori quindi i garage perché era il retro della proprietà cambiando il paradigma e quindi dando nuova importanza al sistema ambientale che diventa il palinsesto di tutta la città e quindi la rete principale la nuova piazza urbana c'è la necessità di rigirare anche il tessuto esistente quindi ridefinire il fronte e quindi sono stati introdotti all'interno della componente operativa quindi all'interno delle norme degli incentivi per invogliare i privati cittadini i proprietari di edifici che affacciano su sistemi ambientali di riorganizzare il proprio edificio questo è riportato sia nella componente strutturale come un obiettivo principale da perseguire che all'interno della componente operativa a cui corrisponde una specifica norma di incentivo proseguiamo con le criticità allora un'ulteriore criticità con cui ci siamo confrontati è proprio la necessità di introdurre delle misure di tutela per la città costruita di qualità qui abbiamo fatto il lavoro abbastanza attento rispetto alla lettura del territorio per il riconoscimento di quelli che sono i valori identitari ma soprattutto le architetture contemporanee di qualità che possono essere riconosciute all'interno del tessuto urbano edificato in questo senso il piano ha recepito lo studio che è stato fatto dall'ordine degli architetti che ha fatto una prima mappatura una prima scrematura degli edifici costruiti da inizio novecento ad oggi con introducendo questa mappatura all'interno del piano operativo l'obiettivo di questa mappatura è quello di poter tutelare e preservare mettere una misura di attenzione rispetto a questi edifici e al contesto immediato che li circonda quindi all'interno del piano operativo con il colore giallino che vedete qui abbiamo tradotto con una norma di indirizzo proprio questo livello di attenzione vi riproponiamo sempre la tavola del consumo energetico degli edifici è una tavola che ci è piaciuta molto infatti l'abbiamo riproduta parecchie volte in questo caso ovviamente abbiamo una valenza diversa oggi come abbiamo detto siamo in un periodo di scarsità di risorse e quindi è necessario individuare nuovi modi per poter gestire la città nuovi modi per anche captare tutte le opportunità che il territorio ci offre abbiamo già visto all'interno del sistema ecotecnologico quindi adesso lo passo molto velocemente qui abbiamo riportato un esempio l'importanza di riuscire a sfruttare le risorse che il territorio ci offre sono risorse pulite come l'acqua come abbiamo visto la tavola genergetica quindi il geotermico e quindi le prestazioni che garantisce il territorio sono risorse che vanno riscoperte sono sempre state le fonti di energie primarie delle attività produttive di Pordenone e che ancora che oggi sono parzialmente ancora sfruttate ma in misura veramente risoria rispetto alla potenzialità che questi possono offrire inoltre anche all'interno del sistema dei servizi possono essere messe in opera dei sistemi che garantiscono un abbattimento delle spese di gestione dell'energia in particolare abbiamo fatto un'indagine su tutte le aree a parcheggio esistenti pubbliche abbiamo visto quelle su cui è possibile tenendoci facendo una stima per difetto quindi ci siamo tutelati il più possibile e abbiamo verificato su quali aree a parcheggio sarebbe possibile ad oggi installare dei pannelli fotovoltaici questo ovviamente nel rispetto della funzione principale quindi la funzione a parcheggio a noi risulta che potremmo installare circa 18 ettari di pannelli fotovoltaici sulle aree a parcheggio oggi esistenti questo sarebbe una risorsa importantissima per l'amministrazione perché potrebbe andare ad abbattere quel milione e due di spese di energia elettrica che il comune di Pordenone affronta ogni anno un discorso analogo può essere fatto sul sistema edilizio privato ad esempio su il sistema delle aree produttive come già accennato dall'architetto Brunello infatti se noi utilizzassimo tutte le coperture degli edifici produttivi attivi o dismessi avremmo una centrale di 20 ettari di pannelli fotovoltaici questo è molto interessante perché ci fa capire come un utilizzo diverso dell'involucro edilizio quindi totalmente slegato dall'attività in essere perché non va mai a compromettere l'attività principale può essere un'ottima risorsa anche per le aree dismesse quindi già andare a intervenire sull'involucro garantisce un beneficio sia per il privato che per la collettività ultima criticità che abbiamo già visto è l'elevato consumo di suolo dello stato di fatto a questo ovviamente cosa corrisponde corrisponde in realtà una non azione perché sono state stralciate alcune previsioni e quindi la variante 77 determinava un consumo di suolo pari a un incremento dell'1,03% della superficie urbanizzata cioè già un aumento di quello che è costruito dell'1% mentre con le previsioni del nuovo PRGC noi ci abbassiamo allo 0,84 quindi vuol dire che abbiamo eliminato alcune previsioni su aree greenfield la maggior parte sono state eliminate anche per problemi di sicurezza quindi all'interno delle zone a rischio idrogeologico ma non solo sono state fatte anche altri tipi di valutazioni questo è anche coerente rispetto adesso vi presento un paio di dati so che sono sempre un po' noiosi però è la conclusione del piano e quindi alla fine sono numeri sempre sensibili attualmente all'interno della città costruita e calcolando anche i possibili completamenti ad attuazione diretta cioè all'interno delle zone già costruite oggi Pordenone ha una capacità insediativa quindi una capacità di ospitare nuovi abitanti cioè non nuovi abitanti tra residenti e nuovi abitanti all'interno della città già esistente di circa 52.225 abitanti a questo dobbiamo aggiungere l'indotto che deriva dall'attuazione dei piani attuativi che sono in corso di realizzazione cosa vuol dire in corso di realizzazione che sono stati approvati dal punto di vista urbanistico l'approvazione è scaturisce non sono più previsioni ma da lì parte la fase edilizia e quindi la costruzione all'interno di questo numero vengono quindi ricompresi tutti quei piani che non sono ancora totalmente terminati quindi totalmente edificati ma anche dei piani che sono approvati ma non ancora convenzionati all'interno all'attuazione totale di queste previsioni Pordenone potrebbe incrementarsi di 2282 abitanti in realtà questa è una stima in eccesso perché all'interno di questi piani attuativi alcune parti sono già state costruite e quindi rientrano all'interno degli abitanti reali oggi però noi non li abbiamo considerati abbiamo considerato solo in via teorica come se l'attuazione non avesse ancora avuto compimento dopodiché le nuove le nuove previsioni porterebbero un incremento teorico perché ovviamente parliamo sempre di incrementi teorici di circa 2.900 nuovi abitanti quindi la città di Pordenone all'attuazione completa del piano quindi in un tempo molto lungo porterebbe la città a un numero di abitanti di circa 57.400 questo numero è stato rapportato con la quantità di servizi esistenti e previsti quindi sempre nell'attuazione della componente strutturale quindi quelle a breve termine di tutte le aree a servizio quindi l'attuazione quindi non solo il completamento dell'espansione della città ma il completamento della città pubblica e quindi dei servizi porterebbe a un'ottima dotazione perché per l'attrezzatura dell'assistenza alla sanità il minimo di legge è 3 e Pordenone raggiungerebbe il 389 per l'attrezzatura del culto e la vita associativa alla cultura il minimo previsto dalla legislazione è 3 e il progetto prevede il raggiungimento di 8,3 metri quadri dell'abitante quindi un numero superiore al doppio anche l'attrezzatura per l'istruzione il minimo da garantire era 3,5 metri quadri abitante il progetto porterebbe al compimento di più di 4 metri quadri per abitante il verde che è l'attrezzatura per cui Pordenone eccelle già ad oggi l'incremento porterebbe quindi a 26,14 metri quadri abitanti e i parcheggi che il minimo è 3,5 si porterebbe quasi a 8 metri quadri di abitante quindi lo standard totale minimo che deve essere garantito dalla legge sono 28 metri quadri di abitante e Pordenone potrà raggiungere il 50,13 ecco dopo la presentazione di quelle che sono i contenuti del piano che abbiamo optato di appunto mostrare con quelle che erano le criticità che da più in più situazioni erano emerse quelle che sono le proposte di concrete di intervento che il nuovo strumento pianificatorio prevede passiamo la parola alle ingegneri che hanno avuto hanno vinto il bando e hanno quindi avuto l'incarico per la redazione della valutazione ambientale strategica che è uno strumento estremamente importante in quanto è partito parallelamente alla redazione del piano stesso e ha avuto il compito di valutarne gli impatti lungo tutta la fase progettuale è uno strumento che non termina con oggi ma che nella sua struttura contiene anche la previsione e l'individuazione di tutti quegli elementi di monitoraggio che dovranno servire a valutare nella fase di attuazione del piano stesso quelle che possono essere ricadute per far sì che l'amministrazione sia eventualmente in grado di qualora queste inducessero e producessero dei risultati non attesi di mettere in atto tutti quegli elementi correttivi per avere quello che ormai l'Europa ci chiede in modo chiaro e definito ovvero che qualsiasi azione noi si vada a fare nel nostro territorio non determini un peggioramento dell'ambiente nel quale noi viviamo un elemento voglio sottolineare le professioniste che hanno seguito il percorso di VAS hanno fatto un lavoro estremamente importante perché hanno assunto anche il ruolo di coordinamento delle VAS e degli altri strumenti in fase di pianificazione all'interno dell'amministrazione e quindi la VAS del piano regolatore tiene anche conto dei contenuti del PUMS del piano acustico di zonizzazione acustica e del piano energetico questo lavoro di sistema che si è costituito con tavoli paralleli durante la redazione del piano e che hanno visto interagire da un lato i professionisti che hanno appunto avuto l'incarico per la redazione dei vari strumenti ma che hanno visto nei professionisti che invece hanno redatto la VAS l'elemento di coordinamento dà un valore aggiunto dal nostro punto di vista alla validità della VAS che abbiamo intenzione di utilizzare proprio come sistema di monitoraggio congruo rispetto a quelle che sono anche le capacità dell'amministrazione di continuare a gestirlo nel futuro passo quindi la parola all'ingegner Buon pomeriggio il processo di valutazione ambientale è come ricordato dall'assessore strettamente connesso con il processo di piano in quanto i due sono legati fra loro a partire dalle prime fasi di orientamento e impostazione per passare poi alla fase di elaborazione e redazione dei vari documenti fino all'adozione all'approvazione spingendosi appunto anche oltre attraverso il monitoraggio ambientale proprio alla fase di vera e propria gestione e attuazione del piano comunque il processo di valutazione ambientale ha caratteristiche di autonomia nel senso che vi sono degli enti di competenza ambientale che sono preposti alla valutazione e al controllo dei documenti di VAS i contenuti del rapporto ambientale sono chiaramente definiti nella legato 6 del testo unico ambientale della 152 del 2006 e in particolare sono quelli che poi sono stati inseriti nel presente rapporto ambientale viene richiesta un'analisi di coerenza interna che nel seguito vedremo più approfonditamente fra azioni e obiettivi di piano lo studio dell'evoluzione della situazione attuale senza la realizzazione del piano che è chiamata opzione zero quindi cosa accadrebbe se non vi fosse la modifica del piano vigente un'analisi ambientale di caratterizzazione di tutto un ambito di indagine e studio del trend nel in un lungo periodo vi sono richieste inoltre delle analisi di coerenza esterna sia con obiettivi di sostenibilità ambientale punto molto importante poiché è quello che consente di valutare l'effettiva coerenza del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale sia a livello europeo che a livello nazionale e ci siamo spinte anche a livello regionale ma anche questo poi verrà più approfondito è richiesta lo studio di scenari e ipotesi alternative ampiamente discusso con la previsione degli impatti ambientali per ciascuno degli scenari oltre che poi la scelta la definizione della proposta di piano ottimale per la quale vengono anche delineate delle prescrizioni e delle indicazioni che serviranno proprio come mitigazione e compensazione degli impatti indotti dalle trasformazioni del piano definitivo la fase di monitoraggio e reporting potrebbe portare a degli eventuali riorientamenti e comunque delle valutazioni periodiche dell'attuazione del piano oltre ad una sintesi non tecnica di tutti questi elaborati quindi allo stato attuale è stato redatto il rapporto ambientale a partire da un rapporto ambientale preliminare questo rapporto ambientale preliminare RAP è stato pubblicato sul sito web ed è a disposizione dei cittadini anche se non esplicitamente richiesto dalla normativa e questo rapporto ambientale tiene conto di tutta una serie di pareri ed osservazioni e contributi forniti dagli enti competenti in materia ambientale quindi ARPA quindi azienda sanitaria servizio valutazioni ambientali provincia autorità di bacino e chi appunto ha fornito il proprio contributo che sono state recepite nel rapporto ambientale come si è formato qual è il nucleo di partenza sono state analizzate tre fasi principalmente la prima quella relativa alla partecipazione quindi non è più facile che ha fatto scaturire delle indicazioni degli indirizzi proprio a partire da quelle criticità e quelle opportunità che sono state durante un itera piuttosto lungo che sono state elencate è stata studiata appunto come detto prima l'evoluzione della configurazione attuale senza l'attuazione del nuovo piano ma considerando il piano regolatore vigente e sulla base dello studio ambientale socio-economico e demografico sono emerse ulteriori criticità e opportunità confluiti tutti in un sistema di obiettivi di sostenibilità questo ha consentito di definire 14 obiettivi di piano che già nel RAP quindi nel precedente documento sono stati messi in coerenza attraverso un'analisi con gli altri obiettivi di piani a livello regionale o a livello coordinato e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento al momento ci si è spinti a un livello successivo cioè questi obiettivi sono stati declinati in azioni di piano che sono state prima elencate e è stato importante valutare in che modo queste azioni si ponessero nel confronto degli obiettivi di piano cioè se ci fosse coerenza in coerenza o meno e per calare il piano all'interno del territorio le criticità e le opportunità ambientali emerse dall'analisi territoriale ambientale sono state messe in relazione con queste azioni di piano per vedere in che modo nel territorio il piano andasse a influire o meno a quantomeno a non peggiorarle come ricordato lo scenario zero ma l'analisi richiesta per legge si è composta di una parte residuale dell'attuazione dello stato del piano regolatore vigente quindi le previsioni urbanistiche della variante 77 a cui sono stati associati i trend ambientali analizzati e i trend demografici per avere una lettura dinamica dello stato quindi come si sarebbe evoluto con il proseguio delle previsioni urbanistiche della variante 77 questa analisi ha dimostrato che ci sarebbe un tendenziale peggioramento un progressivo peggioramento di pressoché tutte le componenti ambientali e sistemi analizzati gli obiettivi di piano sono 14 e sono stati suddivisi in sistemi di riferimento anche questi che sono stati prima espressi per ciascun obiettivo sono state definite le azioni di piano ed è con queste che ci si è confrontati per la coerenza esterna per la coerenza interna e per valutare appunto gli effetti ambientali delle trasformazioni è stato attribuito un codice per facilità di lettura vengono riportati due esempi di coerenza interna la prima che vede l'incrocio fra le azioni di piano e le criticità ambientali suddivise per componente ambientale la seconda quella che vede invece l'incrocio fra le azioni di piano e gli obiettivi di piano che appunto il PRG nuovo si prefigge per quanto riguarda la coerenza esterna è stato importante ciò per verificare la congruità di quello che è del nuovo piano rispetto al contesto pianificatorio più ampio più vasto e dal punto di vista delle strategie d'azione a livello ambientale sono stati considerati quindi sia gli obiettivi di sia i dieci criteri di sostenibilità ambientale a livello europeo sia le strategie d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia a livello nazionale e sono stati considerati anche le azioni di risposta per il territorio del Friuli Venezia Giulia quindi è un ambito regionale vengono inoltre considerati tutti questi piani che potete trovare elencati è importante dire che questo contesto pianificatorio è stato richiesto esplicitamente e nasce dall'insieme dei contributi dei vari enti i quali hanno chiesto l'analisi di coerenza proprio con tutti questi piani per concludere le analisi di coerenza non hanno consentito di non riscontrare obiettivi in contrasto né con le politiche in materia di tutela ambientale né con gli obiettivi disunti dai programmi e dai piani analizzati passo la parola alla mia collega ecco allora il rapporto ambientale poi ha previsto un approfondimento di uno studio già riportato nel rapporto ambientale preliminare che era la caratterizzazione dell'ambito di indagine quindi per ricordare abbiamo definito identificato un ambito di indagine che quindi va al di là dei confini comunali all'interno di questo ambito di indagine possono si è considerato questo ambito entro cui possono manifestarsi diciamo i principali impatti ambientali legati al piano all'interno appunto di questo ambito di indagine sono state valutate approfondite tutta una serie di tematiche ambientali che qui vediamo elencate aria, acqua, suolo o geologia e sono state nel rapporto ambientale rispetto a quello preliminare sono state integrate rispetto ad espliciti contributi di alcuni enti tipo azienda sanitaria con la quale si è approfondita appunto la parte di salute umana in particolare appunto l'esposizione della popolazione rispetto a inquinanti di tipo atmosferico legato sia al traffico veicolare che a impianti di riscaldamento oppure tematiche sempre legate alla salute umana quali la qualità delle acque superficiali che poi sono destinate a consumo umano oppure altre diciamo altre tematiche quali il rumore e i risvolti sulla salute umana alla fine di questa analisi che qui vediamo incrociato quindi ambito di indagine aspetti ambientali interessati e caratterizzazione dell'ambito di indagine territoriale abbiamo individuato quindi all'interno di questo ambito territoriale tutta una serie di criticità che adesso emergono e che sono state diciamo codificate con un codice per permettere l'analisi di coerenza interna che è stata descritta dalla mia collega in particolare per esempio per fare un esempio per l'aria le criticità sono dovute a superamenti occasionali di polveri sottili piuttosto che la presenza di ozono per quanto riguarda l'acqua abbiamo una problematica dovuta alla qualità delle acque superficiali e soprattutto quelle destinate al consumo umano quindi tutta una serie di criticità rispetto alle quali si è posta una particolare attenzione sulla valutazione della sostenibilità delle scelte di piano che ovviamente non devono andare a peggiorare queste criticità già individuate abbiamo riportato nel rapporto ambientale per dare evidenza del percorso metodologico effettuato la valutazione qualitativa delle ricadute ambientali sull'ambiente dei tre scenari individuati queste valutazioni qualitative si sono basate su una serie di fattori valutativi rappresentativi che hanno permesso di valutare qualitativamente appunto i tre scenari questa valutazione è stata fatta rispetto allo stato di fatto in quanto rispetto allo scenario previsto dalla variante 77 quindi all'attuazione del residuo di piano vigente ci sarebbe stato comunque un miglioramento rispetto a tutte le componenti ambientali da qui si è passato alla valutazione ambientale del piano dello scenario di piano come prevede appunto la normativa di VAS per valutare queste ricadute ambientali si sono diciamo valutate le azioni di piano individuate e descritte precedentemente sia nel breve che nel medio termine e si sono valutate queste azioni di piano rispetto ad alcuni fattori di pressione negativi e positivi che qui vediamo elencati ad esempio come fattori di pressione negativi abbiamo valutato le variazioni rispetto alla tematica alterazione della qualità dell'acqua scarichi idrici aumento di consumi idrici interferenza con le falde piuttosto che con fattori di pressione positivi quindi abbiamo verificato se le azioni di piano vanno a valorizzare o a ottimizzare tutta una serie di fattori positivi individuati quali ottimizzazione del sistema delle acque come risorsa energetica risparmio delle risorse idriche controllo e riduzione degli inquinamenti in atmosfera per tornare alla valutazione questa è una valutazione di area vasta che quindi fa vedere che sostanzialmente le azioni di piano vanno a innescare tutta una serie di fattori di pressione positivi ad esempio per prendere un'azione incentivi per la riduzione delle emissioni del patrimonio esistente questa azione di piano è stata incrociata con i vari fattori elencati e abbiamo potuto dare evidenza di tutti questi aspetti positivi ad esempio la riduzione dell'inquinamento atmosferico legato comunque a una rigenerazione energetica piuttosto che uno sviluppo di attività economiche legate per esempio alle green economy si è voluto fare un passaggio ulteriore rispetto a quello previsto dalla valutazione ambientale strategica proprio per dare per rendere efficace tutta una serie tutti quegli studi che abbiamo precedentemente visto quindi abbiamo voluto costruire per questo delle schede di valutazione relative alle fragilità e opportunità del territorio locale di Pordenone territorio all'interno del quale si sarebbero poi si possono avere appunto le aree di trasformazione per cui abbiamo fatto un'analisi di tutte queste fragilità e opportunità ad esempio per quanto riguarda l'area abbiamo identificato tutte quelle tramite le schede di progetto che abbiamo visto precedentemente tutte quelle aree di trasformazione che vanno a interferire con la vicinanza di assi viari esistenti o di progetto a traffico intenso e per queste aree di trasformazione abbiamo previsto delle misure di mitigazione e compensazione che sono qui identificate nell'ultima colonna con indicazioni e prescrizioni che sono sostanzialmente dovute alla realizzazione di fasce di mitigazione di varia ampiezza che fungono non solo come filtro per gli inquinanti in atmosfera ma anche come diciamo murofono assorbente per la parte di rumore oppure abbiamo identificato tutte quelle aree di trasformazione che sono nella vicina che ricadono vicine praticamente a aree industriali e artigianali che quindi possono in qualche modo andare a incidere sulla popolazione che va a spostarsi in quelle aree di trasformazione anche per questo abbiamo previsto delle fasce di mitigazione per mitigare appunto questa esposizione sostanzialmente dovuta a inquinamenti atmosferici di rumore per fare altri esempi abbiamo individuato tutte quelle aree di trasformazione che ricadono vicino o all'interno del cono che abbiamo individuato di cono di vulnerabilità dei pozzi ad uso acquedottistico per queste specifiche aree di trasformazione le norme di piano hanno previsto delle attività che vanno ad essere vietate si vanno a vietare per esempio la terebrazione di nuovi pozzi piuttosto che l'uso particolare di pesticidi è rilevata come la criticità più importante attualmente rispetto alla qualità delle acque destinate al consumo umano abbiamo verificato altre criticità quali per esempio la presenza di sorgenti sonore quindi abbiamo identificato le schede delle aree di trasformazione in prossimità a queste aree particolarmente critiche dal punto di vista acustico e per questo abbiamo identificato appunto delle azioni di mitigazione e di barriere fonoassorbenti in ultimo ma diciamo è forse l'aspetto più importante della valutazione ambientale strategica c'è appunto il piano di monitoraggio anche in questo abbiamo voluto dare evidenza dell'approccio interdisciplinare e quindi abbiamo messo a sistema nel monitoraggio non solo gli indicatori previsti nel piano nel nuovo PRG ma anche gli indicatori relativi agli altri piani quali il piano energetico il piano della mobilità e il piano acustico abbiamo quindi creato una piattaforma integrata di indicatori comuni che ci permetteranno poi in fase di attuazione del piano di verificare effettivamente la sostenibilità delle scelte di piano nel caso in cui si verificassero dei trend negativi rispetto ad alcuni degli indicatori individuati il piano potrà essere riorientato anche tramite delle varianti questo è uno strumento molto potente che sarà poi accessibile al pubblico proprio per dare evidenza di queste valutazioni periodiche del piano ecco quindi concludendo come è bene dopo la presentazione quindi di quello che è lo strumento che ha valutato e che ha accompagnato in tutta la redazione del piano ovvero la VAS passo la parola all'architetto Giuliani che trae le conclusioni e fa un sunto di tutto quello che il lavoro fatto e ciò che ci aspettiamo da quello che è stato presentato fino adesso e che abbiamo messo appunto abbiamo presentato a questo consiglio sia negli strumenti che con le finalità grazie ok posso partire ok noi presentiamo adesso la vision della città e può sembrare una contraddizione la regola potrebbe essere partire dalla vision e poi dire in successione quali sono i modi e i criteri per descrivere le azioni a breve a medio termine però è anche un metodo che sembra logico molto illuminista ma anche è un metodo che non funziona non funziona perché non fa capire ai decisori cioè a voi che dovrete valutare e decidere se dare via a questo piano quali sono le soluzioni di continuità che ci sono adesso qual è la situazione sia creata e come la vision di questo piano può aiutare la città nelle complesse trasformazioni che la tendono in questo periodo e quindi noi dobbiamo fare un ragionamento dammi la prima immagine questa è un'immagine molto importante a me piace molto perché è l'immagine della operosità dei pordenonesi quando avevano il futuro e lo tenevano saldo tra le mani e con la costruzione della man che è la fabbrica che si vede in fondo con l'utilizzo delle con l'utilizzo dei canali e dei corsi d'acqua e dell'energia che la città esprimeva attraverso l'acqua cominciavano a porre le premesse per il futuro questo è stato anche il momento in cui Pordenone ha fatto la sua scelta ha tirato i suoi dadi e ha scelto per il futuro lo sviluppo industriale un modo di essere un modo di sviluppare la città di creare ricchezza e di pensare allo sviluppo delle future generazioni questo è stato un punto di soluzione di continuità dove Pordenone ha scelto una strada strada che ha seguito per i successivi cento anni fino a oggi momento in cui una crisi di dimensioni colossali che molti giustamente paragonano a una guerra ha cambiato le carte in tavola e quindi la nostra vision del piano è la vision vai delle trasformazioni che già sono contenute nel piano operativo quindi sapete quello a breve termine che vi proponiamo un piano che per la prima volta da quando si fanno i piani regolatore a Pordenone non prevede la sua vision in un'ulteriore espansione della città ma prevede un lavoro ancora più complicato di quelli che l'hanno preceduto nel riqualificare nel riorganizzare e nel ripensare alla città che esiste operazione ancora più complicata un'operazione che è resa necessario da quello che voi avete sentito in termini di sicurezza in Italia amo fatto amo detto è lo slogan che tutti usano però le cose si fanno veramente fino in fondo poche volte i problemi della sicurezza voi avete l'occasione di prenderlo in mano e di risolverlo perché questo costa la città in termini economici in termini di incapacità di essere efficaci e efficienti costa a tutti e quindi questo è un tema che deve essere affrontato l'amministrazione ha approfittato di un finanziamento per la microzonizzazione sismica non è una roba che bisogna come si dice toccarsi per è una cosa che noi dobbiamo sapere bene perché la nostra città è delicata e noi dobbiamo convivere con questi elementi e la pianificazione ne deve tener conto e dobbiamo trovare gli strumenti per convivere con la realtà ambientale che dà tanti vantaggi ma richiede chiede e richiede a voi che date le regole un minimo di attenzione come comportarsi per avere il massimo del vantaggio e il minore degli svantaggi questi sono gli elementi che ci permettono di affrontare in maniera più efficace spendendo meno soldi quando voi parlate di bilancio una grande quota del bilancio ogni anno è dovuto a rimediare ai problemi agli inconvenienti che spesso si verificano noi dobbiamo voltare pagina e considerare che certe cose non sono convenienti e noi dobbiamo scegliere la strada della sicurezza e dalla qualità della città e questa è una vision che se volete nel piano operativo cesà e voi dovete sposarla vi proponiamo di sposarla perché questo è vantaggioso per la città è vantaggioso adesso e ogni anno che passa sarà anche vantaggioso dal punto di vista economico e quindi non solo ambientale altro elemento che costituisce una soluzione di continuità è una vision che se volete avete già nel piano operativo è rappresentato dal modo che è stato usato nel costruire il piano per la prima volta i professionisti che fanno il piano e il sindaco e l'assessore non vengono a dirvi noi abbiamo il piano migliore del mondo e meglio di così in questa situazione non c'è e non lo diciamo perché per la prima volta un piano a Pordenone ha subito una valutazione ambientale strategica che ha illustrato tutti i problemi tutte le criticità e su cui abbiamo cercato di portare ulteriori miglioramenti quindi questo non è un piano che è bello perché ve lo dice il vostro sindaco è un piano che funziona perché è stato presentato proposto sono stati trovati gli errori e le criticità ambientali tutti errori e criticità che sono tipiche di qualunque operazione di trasformazione anche la realizzazione dell'ospedale ha degli impatti certo noi non è che blocchiamo la realizzazione dell'ospedale perché ha degli impatti perché crea una serie di parcheggi perché i parcheggi richiedono le persone che vanno in macchina e quindi emettono inquinamento atmosferico è un problema non c'è il giusto e lo sbagliato quello solo nei fumetti ci sono vantaggi e svantaggi e noi dobbiamo essere in grado di valutare e di quantificare i risultati vantaggi e svantaggi quello è questo che è quello che vi proponiamo nella vision che è il piano operativo se volete avete già un nuovo modo di realizzare i servizi un nuovo modo che è attraverso che si attua attraverso la perequazione e la compensazione che il 90% dell'Italia già pratica da anni ora noi non possiamo dire non l'ho mai fatto è sbagliato non l'ho mai fatto forse vale la pena di prendere esempio dai casi migliori e vedere se è possibile migliorare perché qual è la posta in gioco la posta in gioco è avere un piano più equo che non decida quelli che hanno le aree edificabili e quelle che hanno le aree a standard che l'amministrazione che ha dei prezzi molto bassi per l'acquisizione delle aree pubbliche neanche riesce ad acquisire perché questa è la verità andate a chiedere quante aree sono state espropriate negli ultimi dieci anni perché questa è la verità e quindi in questo modo attraverso la perequazione voi avrete la possibilità di acquisire delle aree e di non far torto a nessuno perché perequazione è stata creata dall'inuo e il termine è equità lo stesso valore per tutti i proprietari delle aree noi abbiamo aggiunto la compensazione che mi permetto di fare un po' il presuntuoso è la perequazione anche con i cittadini che non sono proprietari neanche di un metro quadro perché dal punto di vista ambientale noi abbiamo ricevuto una prescrizione doppia che è quella gli interventi che tu prevedi nelle aree greenfield di cui vi abbiamo già parlato e di cui avete avuto già una illustrazione che mi sembra almeno per questa giornata abbastanza esaustiva erano subordinate a una realizzazione di servizi attraverso proprio l'aperequazione di nuove di acquisizione di nuove aree a verde per compensare la costruzione delle aree che adesso sono inedificate che noi definiamo greenfield sull'andasso job act greenfield e anche noi ci siamo un po' inglesizzati e allora il tema è che questo non basta e la richiesta della valutazione ambientale strategica è stata anche il miglioramento dell'efficienza energetica per diminuire le emissioni non è solo un problema di produzione di energia risparmio individuale è un problema di diminuzione delle emissioni climaalteranti questi due elementi insieme sono gestiti dalla perequazione e così la perequazione permette un'equità tra i cittadini proprietari di aree ognuno dei quali ha una volumetria e quindi non c'è più discriminazione ma anche la partecipazione al piano di quelli che non sono proprietari di aree ma hanno un normalissimo appartamento che possono beneficiare dei diritti volumetrici per la riqualificazione energetica perché l'altro tema e se voi lo vorrete questa è una vision che avete già nel piano operativo è quella di trovare dei modi per stimolare la riqualificazione della città esistente e la diminuzione delle emissioni vai la leggenda non ci serve questa è la componente strutturale voi per la prima volta avete l'occasione di adottare un piano che ha una componente operativa che dà le regole che sono in vigore il giorno dopo l'approvazione e la pubblicazione sul bollettino regionale e un altro strumento che mette insieme per la prima volta tutti gli obiettivi a medio a lungo termine strumento inutile no è uno strumento utilissimo perché al di là del fatto che quelle norme in quel momento non siano cogenti danno un'agenda delle cose che si possono fare e dei modi per farle e noi se non abbiamo l'agenda quando noi abbiamo veramente tanto da fare siamo disperati perché abbiamo più cose da fare di quelle che possiamo fare la prima cosa che facciamo è ci fermiamo un attimo e scriviamo su un pezzo di carta l'ordine e le priorità scriviamo le cose mettiamo uno due tre quattro cinque questo la città insieme collettivamente lo fa col piano struttura e non se le dimentica e a mano a mano cerca quando viene l'occasione di trasformare gli obiettivi a medio termine in nuove azioni politiche da fare per la città e all'interno del piano struttura e questa è la cosa che avete come vision della città ci sono una serie di obiettivi di possibilità di aperture che magari non serviranno nei prossimi due tre cinque anni ma che sono a disposizione è un peccato non mettere a disposizione dei nuovi cittadini che magari avranno delle visioni diverse vorranno intraprendere nuove strade e si troveranno come al solito le strade chiuse da una burocrazia che si avvita su se stessa se la politica non gli dà una direzione che è quella apriti verso il nuovo e quindi il fatto che nessuno sta facendo queste cose ora non è un buon motivo per impedire vietare e non cercare di promuovere cose che si stanno facendo in moltissime parti dell'Italia e dell'Europa anzi cosa che l'Europa con delle direttive una via l'altra che spesso l'Italia viola e di cui paga le multe gli chiedono di fare ovvero l'efficienza energetica del 2020 io abito a 30 km dall'Expo e questo è un pessimo esempio che noi dobbiamo cercare di evitare su come facciamo le cose in Italia il 2020 è qua dietro l'angolo e le politiche da applicare per sviluppare e riqualificare la città e diminuire i consumi e migliorare la qualità ambientale sono ore sono mesi e noi non possiamo perdere tempo questa è l'altra slide che rappresenta la componente strutturale sovraccomunale del piano e su questa slide io vi parlo di tante cose che noi vediamo che esistono che danno i loro effetti ma che non hanno nome per ora non hanno nome e come noi sappiamo le cose che non hanno nome sono difficili da raccontare da classificare e da manovrare cos'è questa? questa è la rappresentazione di Pordenone all'interno di una serie di altre realtà che insieme costituiscono una realtà più grande che non è classificata che formalmente non esiste che non trovate sulla carta geografica anche se negli ultimi cento anni è l'unica cosa di cui si stanno occupando i geografi perché i geografi parlano della grande struttura metropolitana a scala padana che va dal Piemonte a Trieste i geografi li descrivono nelle carte geografiche non ha è rappresentata ma non ha un nome voi avete la grande possibilità di dare un centro e un cuore a questa conurbazione che già funziona perfettamente facendola funzionare meglio creando delle regole di convivenza che esistono all'interno di una città ma non esistono tra città anche se vicine noi l'abbiamo fatto cercando di non nuocere che è la prima regola dei medici ma anche degli urbanisti primo non nuocere cercare di fare delle cose che non creino un vantaggio a una realtà ubana per poi creare uno svantaggio ma dietro questo e ne abbiamo parlato nelle tantissime riunioni e io adesso non mi ricordo più in quale riunione e chi è che devo citare e però mi ricordo di una serie di incontri dove è emerso questo tema se questa è la grande Pordenone e dentro c'è Pordenone Pordenone è il centro storico è il centro urbano è il motore e allora come si comporta il motore rispetto agli altri pezzi come dobbiamo riatteggiare il nostro modo di essere dobbiamo essere il centro e quindi crescere come compattezza perché siamo attrattivi o dobbiamo essere un centro diverso che trasmette servizi ma anche un nuovo livello qualitativo della città ecco questo è il tema su questo noi abbiamo una serie di idee di elementi che sono rappresentati all'interno del piano struttura e che se voi vorrete potrete sviluppare chiedere di organizzare ma anche tenere lì per svilupparlo negli anni a venire la mia vision è però anche una vision che va al contrario e se noi andiamo indietro noi a mano a mano che avremo delle nuove idee che avremo perfezionato sperimentato le cose le potremmo inserire nel piano struttura e dal piano struttura le potremmo riportare alla componente operativa noi voi non dovete immaginare il piano come una cosa scolpita sulla roccia è scolpita nella realtà e quindi è multiforme certo tiene conto di tutto quello che esiste e che si modifica in maniera stratificata e anche dei valori che cambiano noi abbiamo preso una prima analisi che ha fatto l'ordine degli architetti di circa 120 edifici di architettura contemporanea e senza fare troppe discriminanti li abbiamo introdotti nel piano perché ci interessava dare un messaggio a tutti che era il messaggio che dobbiamo anche noi cambiare i valori con cui vediamo la città Pordenone ha avuto un piccolo centro storico e Pordenone è famosa per la città nuova che ha costruita sarà orgogliosa della città storica ma la città storica erano poche case lo si vede in questa prima immagine va indietro ecco qua questa era la realtà quindi un piccolo centro storico che poi attraverso l'industria ha generato un grande e una nuova città è pieno di testi letterari di scrittori friulani e non che parlano del nuovo Pordenone della nuova città che è stata costruita noi abbiamo smesso di attribuire valore alla città contemporanea e all'architettura contemporanea ma questo è sbagliato perché non è vero e noi dobbiamo ripensare e anche cambiare un po' l'atteggiamento che abbiamo nei confronti della città nuova perché la città nuova non è poi così brutta come i pordenonesi se la dipingono ma soprattutto è la città che ci ospiterà senza grosse trasformazioni in esterno per molti decenni e se non ci piace dobbiamo fare di tutto per migliorarla voglio chiudere con questa cosa perché con questa immagine che è un'immagine dell'ultimo momento in cui Pordenone ha deciso e ha scelto una strada una strada di sviluppo economico che era quello industriale della prima della seconda industrializzazione che fino a pochi anni fa sembrava una strada obbligata ma quello che è successo in questi anni ci ha dimostrato che non è vero e io penso che anche se in una nuova situazione con questo piano Pordenone può essere ancora in un punto dove per la prima volta dopo circa un secolo è libera di decidere un nuovo modo di costruire la città grazie e invece abbiamo deciso di farlo intervenire per ultimo a chiudere proprio per mantenervi attenti in tutta la parte antecedente tranquillo no adesso dopo questa lunga maratona consideriamo conclusa la presentazione dei contenuti del piano regolatore e quindi passo la parola al presidente ringraziando naturalmente tutti i professionisti intervenuti nella giornata odierna per presentare le varie componenti grazie grazie sessore mi associo anche io ai ringraziamenti ai professionisti per la chiarezza e la sostività però adesso dovremo organizzare i lavori cioè adesso apriamo la fase dei chiarimenti che credo ce ne saranno molti allora come preferisce scusi come preferisce che ci organizziamo diamo risposta a ogni singola richiesta di chiarimenti ne accorpiamo due o tre perché ovviamente potrebbero essere i chiarimenti con una risposta sintedia e i chiarimenti con una risposta un po' più articolata vuole che iniziamo e vediamo sì proviamo a vedere come si sviluppano proprio per capire se vale la pena accorparli o se invece li valutiamo un po' alla volta va bene allora iniziamo con i chiarimenti il primo iscritto il consigliere Giannelli prego grazie accendiamo anche la luce per cortesia non sono così bravo aspettiamo un po' di allora assessore io non ho domande e chiarimenti relative al piano ma perché è molto comprensibile si capisce e lunghi si può dire dopo volevo sapere se avete avuto poi contatti siccome avete ascoltato i cittadini e le operazioni di ascolto e di partecipazione è stata molto importante volevo sapere se avete poi avuto contatti con gli ordini professionali che vi hanno fatto una critica feroce ferocissima molto dura eventualmente vedremo dopo ci sono alcuni passaggi molto molto duri e che tipo di rapporti questa era la prima domanda seconda domanda che tipo di rapporti avete intrattenuto fino ad oggi con la regione e ovviamente con gli uffici preposti in ordine al problema delle osservazioni vincolenti e quello che interessa a noi è poi la probabilità del progetto sono stato chiaro? e un'altra domanda il numero cellulare della collega e per sdramatizzare più forte di lei prego assessore consigliere rispondo direttamente per quanto per quanto riguarda i contatti con gli ordini professionali e non solo cioè con quelli che normalmente si definiscono i portatori di interesse questi sono stati sviluppati nella seconda parte soprattutto della stesura del piano regolatore cioè noi siamo partiti abbiamo deciso di partire in una prima fase con un'apertura dove non vi erano identificati dei portatori di interessi privilegiati rispetto alla cittadinanza che invece volevamo ascoltare quindi si è attivato il percorso di Pordenone più facile che è stato aperto a tutti coloro che avevano voglia di parteciparvi e che avevano e che aveva l'obiettivo di andare a costituire questa banca questa base di analisi che in sé contenesse anche le pulsioni per quello che era il possibile sviluppo della città questo lavoro è stato affiancato al al lavoro redatto da una società la Tolomeo Studi che aveva vinto l'incarico per la stesura dello studio socio-economico del territorio e tutto un lavoro invece sviluppato dagli uffici sullo stato di attuazione dei piani il tutto appunto è diventato come si diceva prima il testo unico che aveva la finalità di dare la base di conoscenza ai si 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 no no ho capito che cosa voleva dire arrivo nel gennaio 2015 gli ordini ingegneri e architetti vi fanno una nota e scrivono una serie di cose volevo sapere da dopo questa data se c'è stato un contatto prima so bene cosa avete fatto tanto di cappello volevo sapere sì allora dopo la nota che è stata fatta dall'ordine degli architetti degli ingegneri e dal lance abbiamo risposto alla stessa pubblicando sia la nota che la risposta alla stessa dopodiché a seguito di quell'incontro ci sono stati delle interlocuzioni con l'ordine su alcune tematicità ad esempio il lavoro sul sul catalogo delle architetture contemporanee e alcuni incontri con l'ance per ragionare su quelle che potevano essere le modalità di attuazione dello strumento comunque ci sono state altre interlocuzioni per quanto riguarda invece l'interlocuzione con la regione la regione naturalmente è stata interessata nella trasmissione del rapporto ambientale preliminare del RAP dopodiché l'interlocuzione è stata naturalmente di massima per far capire come stavamo agendo in modo che i vari uffici che poi si sono anche espressi di settore mobilità idraulica fossero informati del processo di che cosa gli sarebbe arrivato e quindi tutto il lavoro è stato accompagnato da una stretta sinergia per arrivare all'espressione dei pareri e per preparare il lavoro che da qui avrà la regione nella stesura delle riserve che stanno in carico alla regione grazie così è piccinato prego un'altra domanda o si collega a queste si collega se no poi facciamo un po' di alternanza sono una precisazione cioè se ho capito bene il progetto che voi ci avete illustrato oggi che ormai noi conosciamo è conosciuto dalla regione cioè la regione lo conosce e quindi quando farà i suoi pareri e o riserve e o opposizioni osservazioni che peraltro sono vincolanti diciamo non dovresti aspettarvi gravi criticità ricordo che il piano regolatore di Udine ci ha messo due anni dall'adozione all'approvazione noi siamo molto preoccupati del passaggio regionale che è una delle spade di Danocle per tutta l'urbanistica insomma normalmente volevo essere certi che volevo chiedere se pari pari siete andati in regione a dire stiamo facendo questo avete nulla da icipere in ben formale che invece c'è avete nulla da icipere stiamo procedendo così quando vi arriverà il piano non vi arriverà uno strumento sconosciuto o un progetto che vi abbiamo illustrato e questo non per noi per voi al fine di evitare dei tempi lunghissimi voglio sapere se avete agito così o no scusate per quanto possibile in coerenza con quelli che sono i reciproci ruoli abbiamo proceduto in questo modo per quanto di competenze è possibile compatibilmente ma abbiamo più che questo in fase di completamento di ITER c'è il piano di Trieste che ha anch'esso introdotto degli elementi innovativi quindi abbiamo molto ad esempio interloquito con Trieste che aveva già messo nel suo piano alcune con modalità un po' diverse dalle nostre ma insomma si era già confrontata su alcuni temi come la perequazione ed altro e quindi abbiamo con loro capito no loro non hanno ancora approvato il nuovo piano lo hanno adottato meno di un anno fa e sono in conclusione di ITER e comunque sono più avanti rispetto a noi rispetto a quello che è l'interlocuzione diretta con la regione su determinate specifiche problematiche grazie consigliere Piccinato prego grazie presidente chiederò una serie di chiarimenti può essere risposta data risposta puntuale ad ognuno direttamente se no mi perdo allora cosa significa all'interno della relazione nello specifico una delimitazione permeabile quindi vorrei appunto capire cosa potrebbe risultare effettivamente da questo tipo di cosa poi cosa intendeva l'architetto Giuliani durante la sua presentazione quando ha parlato di per equazione anche con chi non è proprietario dell'area si del terreno ecco poi se può rispondere direttamente perché se no poi mi perdono nei vari chiarimenti che sono molti delimitazione permeabile allora io all'interno della relazione che sono oltre 250 pagine la parola delimitazione permeabile appare non vorrei esprimermi erroneamente ma chiaramente nel ecco adesso corralmi supporta con la pagina perché letteralmente la 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 permeabilità dei terreni sapete di che cosa si tratta cioè che il fatto che non siano cementificati e quindi banalmente quando piove l'acqua non venga captata da superfici minerali di parcheggi ma entri nella falda tramite il filtraggio del terreno e quindi tutto il sistema diciamo di terra che rimane quindi permeabile permeabile cioè che percola può essere effettuato anche tramite superfici filtranti alcuni parcheggi hanno la caratteristica di rimanere permeabili e così via quello sul quale si insiste è nel caso delle delimitazioni cioè nel caso dei confini delle aree di confine soprattutto a bordo delle infrastrutture dove intendiamo rafforzare la fascia ambientale è quello di mantenere un alto grado di permeabilità che evita così l'accumulo di acqua in caso di cadute eccezionali aumentando il livello di sicurezza ma soprattutto che dà diciamo un confine che è più improntato sul rafforzamento del sistema naturale piuttosto che sul sistema del rafforzamento minerale e su eventuali barriere che vengono create artificialmente quindi in quel caso era il rafforzare il limite tramite interventi naturali chiamiamolo così ma per esempio voi pensate tutte scusa sì pensate tutte le cancellate che disegnano quella che viene chiamata città diffusa e come lo spazio pubblico alla fine viene caratterizzato da dei percorsi molto spesso in mezzo a una quantità di ferro enorme che aumenta solo un problema di sicurezza di gestione di manutenzione nel tempo eccetera quando invece sistemi di fossato più siepe sistemi di reti all'interno di alberature oggi sono usati per disegnare banalmente una città che ha un più alto livello di vivibilità e di qualità per quanto riguarda la seconda la perequazione allora il concetto che si è voluto introdurre è quello dell'ampliare l'uso dello strumento della perequazione che in modo classico viene legato all'accessione di superficie e che quindi interessa i proprietari dei terreni per la realizzazione di servizi quindi io ti riconosco una certa cubatura sul tuo terreno che tu calcoli su tutta la superficie del tuo lotto che poi concentri in una zona e cedi all'amministrazione quello che serve per fare l'asido bene e questo è chiaro il concetto della perequazione invece viene ampliato anche e viene esteso anche al miglioramento energetico ovvero chi va a fare un intervento di rigenerazione edilizia del tessuto edilizio costruito con l'azione della rigenerazione e naturalmente in proporzione con la qualità della stessa genera dei crediti edilizi questi vengono poi utilizzati e sono condizione necessaria per poter rendere trasformabili aree che sono invece da riqualificare quindi il cittadino che va ad agire sulla sua proprietà e che non è proprietario di un terreno ma è proprietà di una casa ha un incentivo in più a rigenerarla dal punto di vista energetico strutturale architettonico rispetto a quelli che sono già previsti dalla legge e che sono il 55 65% ma che sappiamo che ogni anno sono in forse con questo con questo elemento e quindi la perequazione non è più solo legata al terreno libero ma viene legato anche alla proprietà della della residenza questo noi non lo immaginiamo come unico elemento da mettere su in atto per incentivare ulteriormente la rigenerazione della città costruita è uno degli elementi ed è per questo che all'inizio del mio discorso facevo puntualizzavo come il piano regolatore è uno degli strumenti che ci saranno per attuare determinate politiche altri elementi di incentivazione andranno obbligatoriamente ad interessare altri settori vedi il settore finanze con il quale è già iniziata un'interlocuzione nella quale stiamo cercando di pesare quali possono essere gli incentivi a prescindere dagli incentivi statali a prescindere da quelli che speriamo essere confermati ampliati come estensione di incentivi regionali quello che possiamo mettere sul piatto anche a livello locale perché noi sappiamo perfettamente che la rigenerazione del tessuto esistente che è l'obiettivo principale perché è la città costruita sulla quale noi dobbiamo andare a intervenire in primis riusciamo ad ottenerlo solo nella misura in cui riusciamo a favorirlo e lo dobbiamo favorire proprio con una molteplicità di azioni che sommando si riescono a dare una risposta positiva a questo tipo di azione grazie prego allora poi questa è una cosa siccome nella relazione ho trovato che dal punto di vista vostro l'agricoltura mantiene la biodiversità a me questo concetto non torna ma comunque volevo appunto chiedere su questo concetto quanti che non è chiaro secondo me quanti e quali incentivi economici avete intenzione di dare agli agricoltori e quant'è la vostra stima di impatto ambientale sul totale che con questa manovra avete intenzione di portare in ambito della città scusate non ho capito la seconda se è sempre legata all'agricoltura qual è l'impatto effettivo sul totale che con questo tipo di operazione di incentivi economici avete previsto di ottenere allora quando noi parliamo di agricoltura di mantenimento di biodiversità parliamo di una determinata tipologia di agricoltura che è quella che ad esempio viene prevalentemente identificata nella fascia nord dove si parla di agricoltura di prossimità e dove la e dove la complessità e la compresenza della parte dell'agricoltura e del disegno agricolo tradizionale vedi vedi tutta la questione delle siepi dei rivi delle capezzagne di quella gestione del territorio è sempre stata con forma di biodiversità l'abbiamo perso nel momento in cui si è passata ad una agricoltura intensiva che ha annullato o nel momento in cui sono state scelte determinate azioni che magari hanno comportato una razionalizzazione di determinati sistemi faccio riferimento ad esempio alla politica della nostra del consorzio Cellina Meduna che per avere un maggior governo e una maggiore tutela del sistema idrografico minore di irrigazione dei campi passato da quelli che erano tutti i canali aperti che però erano sempre costeggiati dal filare di alberi che facevano effettivamente confine che garantivano un disegno del nostro paesaggio il paesaggio agricolo nel momento in cui le ha interrate tutto questo l'abbiamo perso naturalmente ha portato un vantaggio sostiene il bacino e quindi ci credo nell'utilizzo di una risorsa importante come l'acqua ma dall'altra parte ha comportato una perdita di quello che invece oggi dobbiamo andare a ridisegnare che è proprio questa tipologia di paesaggio agricolo non è l'amministrazione che mette in atto i finanziamenti ma noi sappiamo che all'interno delle politiche comunitarie e delle politiche nazionali ci possono essere e ci sono dei filoni che finanziano e incentivano questa tipologia allora cosa cambia anche rispetto al passato cambia che l'amministrazione e qui uso la sua domanda per ampliare con un altro esempio diventa insieme alle categorie promotore di percorsi che portano al raggiungimento o a quanto meno alla partecipazione a bandi che poi servono per il territorio la stessa cosa ad esempio è stata suggerita ed accolta dall'ASCOM che chiedeva che all'interno della città costruita ci fossero degli ambiti nei quali si identificava già una potenziale rigenerazione perché negli accordi che si stanno prendendo ora a livello europeo qualora nel piano regolatore questi siano già presenti costituiscono punteggio per poter partecipare alla gara e questa è l'ottica con la quale noi stiamo agendo quella del mettere in atto degli strumenti che siano facilitatori nell'ottica del poter partecipare a delle politiche nei vari settori produttivi quindi agricoli di trasformazione energetica di miglioramento e solo se già recepiti in qualche modo contenuti nel piano guadagnano quei punteggi che sono necessari la ringrazio intanto per la puntualità con cui risponde poi volevo chiedere la questione delle praticamente delle statistiche demografiche sono aggiornate solo al 2012 punto di domanda risposta secca così si sulla base del censimento del 2011 perfetto poi qui una domanda un po' più tecnica sulle norme tecniche di attuazione allora per quanto riguarda nel come chiamarle insomma i requisiti delle zone o le specifiche ecco delle zone di insomma di abitabilità le zone B quindi B1 B1 e mezzo B2 B3 B4 B6 rispetto alle vecchie norme tecniche di attuazione almeno nel testo poi non so se ci siano altri riferimenti perché appunto io non avevo la complessità totale dei file a disposizione c'è rispetto a prima una differenza del 20% nella zona B1 B1 e mezzo del 30 nella B2 e B3 del 40 e del 50 insomma così via per il cambio della destinazione d'uso ok quindi cosa cambia praticamente adesso in che percentuale si può fare se si può ancora fare posso si può ancora cambiare quel 20% oppure perché poi adesso ci sono anche dei cavilli che non è così chiaro nel senso che in alcuni casi adesso deve rimanere comunque al 51% mentre poi ci sono insomma se può specificare un attimo questi cambiamenti allora io do la parte di risposta più che da scusi io do la parte di risposta generica nel senso che indico qual è l'obiettivo e da che presupposto siamo partiti se poi necessita di maggiore allora uno dei problemi che dal nostro punto di vista caratterizza la norma urbanistica fino a qui applicata sta nella rigidezza che sa nella rigidità grazie non mi veniva la rigidità non ha portato a dei controlli poi della situazione reale ha solo ingessato in molti casi quella che poteva essere che deve essere la capacità del territorio di essere rispondente a quelle che sono le necessità della città stessa quindi la monofunzionalità o delle percentuali fisse come quelle presenti negli anni si sono dimostrate eccessivamente vincolanti il principio dal quale siamo partiti è stato quello dell'interpretare invece una volta valutate le congruenze rispetto alle possibilità di azione rispetto alla vocazione principale dell'area le zone B sono prevalentemente residenziali che però potesse essere quella multifunzionalità che determina la vita reale della della porzione di città faccio un esempio il centro commerciale all'ingrosso scusate perché stavo cercando di non chiamarlo col nome con cui lo chiamiamo sempre il Bronx e così non vai il centro direzionale ha sofferto negli anni del suo essere totalmente direzionale cioè un blocco enorme di uffici che aveva l'obiettivo di diventare il polo del terziario e la spinta verso la terzializzazione della città di Pordenone che però poi alla fine ha determinato la presenza del vedi IMS catastro cioè mega destinazioni legate anche al pubblico tutte monofunzionali talmente monofunzionali da arrivare a determinare anche al fallimento di quelle poche attività commerciali che negli anni hanno cercato di insediarsi perché in assenza di quella relazione di vita che è data proprio dall'esserci durante tutta la giornata perché si usa quello spazio in modo differenziato a seconda di come lo viviamo già l'inserimento della scuola che c'è da un po' di anni è stato in grado un po' di cambiare questo ma la struttura il pensiero di quell'area ne determina molto l'utilizzo effettivo e l'integrazione con il tessuto urbano bene con questa modifica degli indici noi vogliamo spingere e favorire azioni che proprio neghino quella vocazione e quella modalità perché siamo convinti che sia uno dei principali problemi uno dei principali problemi anche nell'ottica di come noi oggi sempre di più in modalità diverse siamo portati a vivere la città anche a seguito del cambiamento ad esempio delle abitudini di lavoro è vero che a Pordenone ancora abbiamo poco telelavoro o la possibilità di lavorare in casa e quant'altro ma questo magari negli anni porterà ad un ripensamento degli spazi lavorativi e ad una maggiore compresenza loro compresenza in relazione con la residenza e perché non metterci anche una capacità di accogliere microservizi che fanno rete sociale come il piccolo asilo condominiale vi dicendo ecco questa norma che naturalmente si modula a seconda degli indici perché ha un senso più limitato nell'indice che indica la casetta monofunzionale e invece ha un significato maggiore laddove l'indice disegna il condominio ha questo obiettivo ok grazie ancora nella zona C stessa cosa nelle zone C assolutamente la stessa cosa nel senso che proprio è una volontà di cambiare una modalità che è incessante ecco tant'è vero che con non poco sforzo quando tornerà l'architetto se volete glielo facciamo poi ah eccolo è tornato abbiamo anche inserito il concetto dell'uso temporaneo nel senso che non solo siamo convinti che ci sia necessità di avere questa molteplicità di funzioni ma anche che in determinate zone per tempi contenuti ci possono essere altre destinazioni faccio l'esempio che magari mai si verificherà ma perché ad oggi io all'interno del PIP che ha dei capannoni non posso per un certo periodo fare un posto per concerti so che dal punto di vista acustico può essere problematico ad oggi la norma non me lo permette in uso temporaneo invece che è quello che noi abbiamo identificato in norma ha proprio la volontà di far partire questi mettere in atto queste dinamiche che possono essere solo dinamiche positive per la vivibilità del nostro territorio poi come si è parlato sempre di trasparenza massima come mai non è stata pubblicata la questione delle anomalie nel sito punto di domanda la verifica delle anomalie a queste io farei rispondere al segretario che però in questo momento non vedo ok comunque la domanda si quindi quanti sono i fondi totali messi a disposizione preventivati per questo piano regolatore se ci sono il piano regolatore di per sé non mette fondi perché non sta nella natura del piano regolatore mettere fondi ciò che determina l'attuazione del piano regolatore sono altri strumenti ma il bilancio il bilancio le tassazioni eccetera poi per quanto riguarda siccome io sono nuovo e un piano regolatore non capita tutti i giorni faccio anche questo tipo di domanda un po' tecnica è possibile modificarlo in aula cioè oggi oppure in ogni caso no ed eventualmente come fare il piano regolatore è possibile modificarlo con degli emendamenti sì dopodiché i cittadini si apre un periodo di pubblicazione e i cittadini hanno diritto di esprimere osservazioni o opposizioni a seconda che siano proprietari o meno a seguito della pubblicazione c'è un periodo che sono i 30 giorni per le osservazioni al quale l'amministrazione deve dare naturalmente risposta insieme a quelle che sono invece le riserve che potrà presentare la regione e che sono relative alla congruenza tra ciò che noi abbiamo dichiarato nelle direttive la proposta del piano struttura e la corrispondenza con le norme regionali vigenti tutto questo porta poi ad una istruttoria che valuterà tutte le osservazioni e l'opposizione dei cittadini le riserve e concluderà l'iter con l'approvazione del piano regolatore approvato il piano regolatore entrerà in vigore e da lì in poi sarà solo modificabile tramite varianti che se non cambiano il piano struttura saranno varianti comunali se cambiano il piano struttura la componente strutturale saranno varianti sostanziali che tornano in regione Perfetto Poi per quanto riguarda la questione del rumore quindi la questione del rumore appunto il piano prevede un cambiamento spazio a giovani musica con che norme se sono cambiate Allora il piano prevede delle azioni che sono di pianificazione nel senso che all'interno del piano struttura noi abbiamo identificato degli ambiti che ci sembrano possa nel tempo che pensiamo possano avere nel tempo vocazione per spostare anche intrattenimento che oggi si concentra soprattutto in certe parti della città Faccio presente però che in fase di conclusione un altro strumento che è quello della zonizzazione acustica e che verrà approvato attorno a settembre che ha fatto un'analisi precisa di quelle che sono le zonizzazioni che noi abbiamo inserito all'interno del piano definendo la congruenza tra la loro vicinanza e anche delle azioni di mitigazione laddove ci siano delle situazioni più problematiche ad esempio se io ho una zona industriale la norma della zonizzazione acustica non prevede coerente che ci sia una zona residenziale al fianco se ciò è devo inserirci degli elementi di mitigazione che poi sono quelli di cui vi ha anche parlato l'ingegner body quando parlava della valutazione ambientale strategica però il piano in sé identifica degli altri ambiti nella componente strutturale dove sarà possibile fare questo e che sono previsti in trasformazione che potranno essere realizzati o dall'amministrazione in funzione delle capacità di spesa o dal privato che ha questo tipo di destinazione prevista e a fianco a questo però ci sarà un altro strumento che vedrete voi in aula a settembre che è la zonizzazione acustica ok poi volevo chiedere se mi dà una spiegazione un attimo puntuale perché nelle tavole tecniche non mi era così chiaro per quanto riguarda allora mi riferisco a tavola CS10 per capirci perché c'è scritto che l'area del riferibile allo SME è attuata graficamente ma sotto nella tabella ancora cioè c'è una secondo il mio punto di vista uno scollamento un'incongruenza tra guardiamo la tavola che ambito scusi la CS10 sì no perché non ho capito a che cosa si riferisce tra l'attualizzazione dell'area dello SME della SME quindi centro commerciale esatto lì e quindi perché c'è scritto che ancora 14.750 metri quadri se e poi insomma forse possiamo portare su se mi lascia due minuti noi recuperiamo la tavola e magari possiamo portare su i faldoni e poi come mai vabbè quello sulla tavola glielo chiedo dopo sempre portiamo sui faldoni che è così come? portiamo sui faldoni che è così sì sì questo vabbè lo chiedo dopo e questo anche poi nel nello specifico per esempio per quanto riguarda nei centri storici per quanto riguarda i casi di soffitte che non hanno i prerequisiti igienico-funzionali l'amministrazione adesso con questo nuovo piano regolatore permette non permette di abitare di modificare lo spazio con abbaini rialzi cioè c'è qualche sistema di regolarizzazione ho capito cosa allora faccio due specifiche la prima se lei si riferisce proprio agli ambiti del centro storico gli attuali nostri due corsi sono sono assoggettati a piano di recupero attualmente vigente il piano di recupero è uno strumento molto più spinto del piano regolatore perché identifica un ambito per il quale si identifica la necessità di una pianificazione di dettaglio i piani di recupero vigenti non entrano all'interno del piano regolatore perché hanno una loro vita autonoma e parallela quindi sta in quello e in ogni caso la questione delle soffitte calcoli eccetera sta all'interno non del piano sarà all'interno non del piano regolatore ma del regolamento edilizio per il quale stiamo procedendo alla stesura del nuovo regolamento edilizio in coerenza con quelli che sono anche le modifiche di legge che ci hanno portato a modificare il piano regolatore e che ci porterà a modificare il regolamento edilizio e che verrà approvato insieme all'approvazione del piano regolatore cioè quando noi arriveremo a quel punto approveremo anche il regolamento edilizio che va nello specifico su questi quindi ok quindi era sensata poi grazie ancora quindi per quanto riguarda come mai con gli altri comuni siete riusciti poi a fare un po' di fronte comune o perché ho letto nella relazione che ci sono state più volte problematiche di interfaccia no no non ci sono state problematiche di interfaccia nel senso che noi abbiamo organizzato tutta una serie di incontri con gli altri comuni ne abbiamo avuto tre nei quali abbiamo presentato le tappe principali che hanno interessato la stesura di questo piano in quel caso avevamo invitato insieme ai professionisti tutti i sindaci di quell'area vasta che era stata interessata anche dalle prime fasi di analisi e allora abbiamo presentato quello che stavamo ipotizzando come lo facevamo abbiamo anche indicato delle tematiche comuni che potevano e che possono già essere messe in atto come ad esempio i ragionamenti sull'asse della Pontebana che è un'asse commerciale ma che dovrebbe essere pensato in coerenza lo sparpagliamento delle aree produttive quali possono essere invece le connessioni tutte le aree di margine o ad esempio lo avete visto all'inizio della trattazione i problemi ambientali di protezione dei posti e vi dicendo questo è stato presentato appunto in tre incontri che ci sono stati dopodiché ci sono stati invece anche una serie di incontri specifici con alcune municipalità con le quali ci siamo addentrati maggiormente sia sulle modalità di attuazione eccetera quindi siamo andati a Fontana Fredda ci sono stati degli incontri con il comune di Fontana Fredda e con il comune di Porcia iniziavano ad esserci dei confronti anche con il comune di Fiume Veneto diciamo che la questione poi della definizione dell'Uti ha portato a sospendere l'azione perché nel momento in cui ma le dico l'ultimo incontro con loro è stato due mesi e mezzo fa tre mesi fa non all'inizio sì della primavera siamo andati ad esempio a Porcia a ragionare su questioni comuni comunque c'è una disponibilità da parte dei comuni con termini di approfondire le tematiche e anche da quanto emerge a livello regionale le prime azioni per quanto riguarda l'Uti relative alla pianificazione consisteranno proprio nella messa al sistema dei piani strutturali per andare a correggere le incongruenze che si possono determinare nei perimetri nel momento in cui i piani strutturali verranno attaccati ciò che noi abbiamo fatto e non era previsto dalla norma ma abbiamo voluto seguire questa strada è stato ad esempio quello di mandare il rapporto ambientale preliminare anche ai comuni con termini considerando che loro potessero darci una serie di apporti o fosse corretto che avessero tutti gli elementi per capire quali erano le azioni a limite del confine proprio perché come si vede nelle tavole fin dall'inizio abbiamo voluto restituire tutte le tavole del piano regolatore non con un bianco intorno ma con la cartografia del tessuto per capire quali possono essere anche le future connessioni poi quanti sono gli alloggi attualmente invenduti se sa dirmi questo dato anche flash quindi così andiamo avanti scusi un attimo siamo riusciti a aprire la Sbè un secondo sì nella tavola a me viene dato come attuato come attuato e poi sotto dite se non sbaglio che ha ancora capacità edificatoria di 14.750 metri quadrati non dovrebbe essere parzialmente domanda è un piano a fianco quale e lo stesso vale anche per la zona Pittarello cioè voglio capire se sono le le tabelle sbagliate la mia interpretazione che è errata o sì no sì ecco se mi cancellata e cosa fai poi non avevamo tutto in mano non avevo non avevo i documenti in mano allora la cartografia lo indica come attuato e mette la superficie che aspetti eh passiamo alla seconda scusi andiamo avanti perché guardano la tavola la seconda cioè la seconda la quattordicesima dire il vero allora allora per quanto riguarda quindi il discorso del 30% in più possibilmente realizzabile quindi elimina il riferimento alla legge Berlusconi sulla casa no in ogni caso le leggi del piano a casa sono leggi a termine sì nel senso che in Friuli Venezia Giulia sarà è stata prorogata fino al 2017 sì quello intendevo ecco no non la può eliminare perché è una legge sovraordinata qui no è stato detto chiaramente che questa questa azione cioè delle due azioni di perequazione di perequazione per la trasformazione in questo ambito se ne da adesso in poi se ne fa fino solo una e quella invece sostituirà il piano casa nel momento in cui si conclude il piano casa quindi entrerà in vigore per noi dal 2017 a conclusione del piano casa come incentivo dal 2017 perché altrimenti sarebbe stato un 30 più 30 sì no infatti io chiaramente quindi siccome poi erano state emesse le clausole di salvaguardia sì decadono naturalmente sì quelle che decadessero sì ma ci sono stati problemi richieste durante questo anno nessuna richiesta quindi nessuno è stato svantaggiato zero richieste una bella domanda che le faccio adesso dal 2017 chi è già in classe A e ha già tutta la verifica della struttura sismica non può accedere al bonus sbaglio? in che senso? nel senso che se io ho già costruito un palazzo in classe A con struttura sismica apposta non ho la possibilità di accedere al bonus e beh ma ha già costruito quindi i più bravi sono no ma non dal 2017 col 2017 termina il piano casa e col 2017 io non immagino che si sia riusciti da qui che si riuscirà da qui al 2017 a recuperare tutto il patrimonio edilizio esistente no appunto cioè dal 2018 c'è l'azione invece compresa nel nel piano regolatore che vi proponiamo che proseguirà questi incentivi finalizzati alla rigenerazione sì ma nel caso uno abbia già il palazzo in classe A e sia già con la verifica strutturale sismica a posto certo come fa ad accedere a un bonus non ce l'ha perché dovrebbe accedere a un bonus quindi i più bravi sono penalizzati perfetto no 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 assolutamente lui per costruire una casa in classe A avrà già avuto già accesso a quelli che sono gli incentivi per costruire una casa nuova in classe A sì ma siccome la regola è nuova qua perché entra cioè pieno a casa è una cosa questa è un'altra questione noi abbiamo due azioni da un lato la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente da un altro ci possono essere nuove costruzioni noi sappiamo ad esempio che una norma alla quale abbiamo aderito ci porta a dire che entro il 2017 per gli edifici pubblici e dentro il 2020 per gli edifici privati le costruzioni dovranno essere a consumo quasi zero e questa è una norma che entrerà in vigore quindi diventerà a livello nazionale quindi diventerà obbligatorio per quindi diventerà obbligatorio per chi costruirà nuovo costruire rispetto a determinate prestazioni energetiche perché perché ormai l'attenzione nella qualità della costruzione la richiesta anche del mercato ci spinge sempre di più a volere una casa che ci costa meno come manutenzione e che ha determinate prestazioni questo è il mondo del nuovo poi abbiamo l'altro mondo che è quello della rigenerazione sulla rigenerazione del patrimonio esistente si agisce con diverse tipologie di incentivi tra cui anche quella del bonus volumetrico che ad oggi con una certa mentalità è dato dal piano casa e cioè se tu vuoi puoi anche ampliare del 30% il volume però il piano casa ti dice te lo ampli lì in loco dal 2017 quello che noi invece andiamo a proporre è quando terminerà il piano casa tu hai lo stesso bonus energetico scusate un bonus volumetrico che invece potrai o esprimere nel sito qualora tu ne avessi necessità oppure puoi far conferire per creare quei diritti volumetrici che servono per la trasformazione quello che ci siamo detti prima ma questo non mi porta a dire che chi più è virtuoso più viene vantaggiato perché è il vantaggio che hanno tutti coloro che fanno parte della famiglia che deve rigenerare il suo bene cioè sono due famiglie distinte da un lato il nuovo avrà delle prestazioni che rispondono al nuovo tutti gli altri vengono trattati nello stesso modo ok no non è vero che tutti vengono trattati nello stesso modo perché all'interno in ogni caso ci sarà una modularità rispetto a quanto sei bravo chiaramente più sei virtuoso più ti premia poi per quanto riguarda la questione del prerequisito sismico scusi un secondo ecco come c'è ragione il 14.000 sono stati tutti autorizzati quindi non ha più potenzialità è sbagliata la colonna del 14.000 ah quindi è un refuso dovranno spostarlo nell'altra colonna sì no no fino al 2018 pieno casa 17 fino a fine il 17 pieno casa dopodiché entra in vigore questo no lo lasciano a termine dopodiché non è più vigore posso sì scusi per quanto riguarda il prerequisito del sismico sì quindi attualmente nessun edificio quasi lo ha se non sbaglio con le norme vigenti insomma la quasi totalità non è a norma no 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 dico cioè a norma con le ultime norme sono pochi quelli che hanno questo no per il livello residenziale no ok no ma comunque che tipo di procedura comporta per poter accedere al bonus cioè devi solo in ogni caso anche per il piano casa attuale viene richiesta la verifica sismica di quella che è la sopraelevazione nel senso che qui siamo però più che a livello quindi se si demolisce così beh se si demolisce lo si fa spesso certo la classe della riqualificazione arriva fino ma questo non perché lo definiamo noi perché è la norma regionale che lo definisce fino alla categoria della demolizione con ricostruzione questa è proprio la norma regionale poi scusi consigliere un'informazione quante domande ha ancora altre tre mi pare tre perché se no potevamo accorparle visto che sono molte ma ormai va bene va bene allora quindi il saldo totale della di cubi di questa operazione se me lo sa dire deve essere rispetto alla cioè in riduzione rispetto alla 77 va bene adesso lo tiriamo fuori quindi cubi volume insomma no ma come superficie loro chiedono di cubi era con le che sono da dopo però adesso abbiamo rispondito però io posso dicerci Le volevo dire che sulla tavola della SME è effettivamente scritto nella colonna sbagliata. Lo correggiamo con un emendamento subito. Quindi la possibilità edificatoria possibile. Come mai non avete agito in quel tipo di strutture, eliminando cubi da quelle strutture che ancora, tipo l'area Paradiso per esempio o altre strutture? Veramente quelle le abbiamo ridotte. Abbiamo agito su quelle strutture, abbiamo ripianificato quelle strutture. Allora dopo le chiedo, perfetto. Poi, nel 10, degli alloggi il numero sa dirmi? No, perché il piano regolatore non va a fare un discorso sul numero di alloggi. Abbiamo tentato un discorso relativo con l'Agenzia delle Entrate per l'incrocio dei dati, ma bisogna incrociare più dati e ultimamente questo ragionamento stiamo cercando di capire se ha una sua sostenibilità per arrivare effettivamente ad un dato reale con le utenze, con la valutazione delle utenze. Però è in fase di elaborazione perché è veramente molto complesso. Ok, poi una notazione, non vorrei, ma insomma a pagina 100 c'è scritto che volete diminuire il consumo da rinnovabili del 20%, è un errore, è un refuso? No, è un refuso, no. In realtà, chiaramente è l'aumento. Quelli sono documenti ufficiali, quindi ho visto che sono fatti abbastanza male, quindi chiedo perché ci sono un sacco di refusi, errori, quindi vabbè, questo volevo chiarirlo. Poi l'ultima cosa che volevo chiedere, quindi per quanto riguarda i cubi, sa dirmi? Noi non abbiamo agito sui cubi, ma sulla superficie. Ok, sulla superficie. Ed erano i dati che erano stati proiettati prima rispetto all'1,03. Poi ci sono state previsioni che hanno sottratto sostanzialmente cubi, ma è il consumo di suolo che è un dato più sensibile. Perfetto, e l'ultima cosa, se non sbaglio, aspetto poi la risposta sulla trasparenza, che volevo vedere un attimo in maniera anche breve come flash per capire cosa succede nelle seguenti aree. Quindi nell'Amman, nella zona del Molino, nella zona dell'olcese veneziano e... E sempre l'Amman? Sì, sì, scusi. Sì, infatti. L'ho segnato insieme, infatti. E poi della zona del carcere e di fronte al cimitero a Capuccini. E ho finito poi. Stia tranquillo che tutti faranno le domande che vogliono fare. Prego. Ha terminato, consigliere? Sì, sì. Però non sono riuscita a sentire dopo carcere che cosa ha detto? La zona di fronte al cimitero di via Capuccini. Ah, ecco. Sì. Allora, carcere è stata tolta dalla zonizzazione, quindi torno agricolo. Allora, carcere, torno agricolo. Sì? In fronte al cimitero, cioè l'area davanti, rimane la previsione del piano di attuazione indiretta con la previsione di scuola, piazza e realizzazione di un fronte di piccolo commercio di quartiere. Quindi c'era un'ipotesi di spostamento della posta e della farmacia comunale, eccetera, rilasciando tutta la zona a sud invece di carattere ambientale perché c'è una polla di risorgiva molto interessante. Per quanto riguarda la manna, la previsione è quella e su questo procederemo dopo con anche un emendamento. Allora, la previsione per la manna è quella dell'eliminazione delle previsioni in atto a seguito anche di quanto indicato dal PAIL. Quindi nella manna o il CESE si potranno fare sistemi per la produzione di energia e attività ricreative per il tempo libero. E altre attività non connesse all'identificazione. Perché fate rumore. Allora, riparto da dove? A manna. Questa le piaceva. Allora, la previsione della manna. Il cotonificio a manna si trova in zona PAIL definita alveofluviale, di conseguenza è una zona nella quale non è più possibile reperire edificabilità. E noi concordiamo con questa indicazione da parte della regione, no, dalla regione, dall'autorità di Baccino, perché il PAIL lo ha fatto l'autorità di Baccino, perché la messa in sicurezza dell'ambito è eccessivamente onerosa per garantire qualsiasi tipo di intervento. Quindi, come previsione di piano, per l'ambito a manna viene naturalmente eliminata la possibilità dell'attuale piano regolatore, viene identificata la possibilità di fare o attrezzature sportive, per il tempo libero, ricreative, e quindi di relazione alla città anche nell'ottica che noi abbiamo messo di sviluppo dell'asse del fiume legato ad altre azioni, quale nel tempo la trasformazione del parcheggio Marcolin in parco verde di connessione con l'imbarcadero e la pedonalizzazione di un tratto della riviera asca, tutto questo asse trova nell'amman questo polo ricreativo per il tempo libero, che può essere, prima lei si riferiva alle questioni incustiche, vedere anche funzioni come quelle per concerti all'aperto o ricreative di quel tipo, perché appunto non adeguate rispetto alla vocazione. Oltre a tutte quelle possibili per la produzione energetica, perché siamo vicino all'acqua, ci sono dei salti, possono essere ripristinati dei salti, c'è una presenza di tetti che possono essere messi a fotovoltaico e via dicendo. Quello che l'amministrazione poi si tiene come possibilità è quella di identificare con una variante specifica azioni per promuovere e incentivare la rigenerazione anche del patrimonio di archeologia industriale. E quindi, già che ci siamo, perché credo che questo fosse un tema che interessava, in confronto con la maggioranza abbiamo deciso che rispetto alla scheda presentata e mandiamo la parte relativa all'identificazione come azione, come unica azione, della possibile traslazione degli 8.000 metri quadri già presenti nell'amman dal vigente piano regolatore, che erano stati identificati nel 1993 con legge regionale, dicendo invece che gli incentivi potranno essere anche di forma varia e che saremmo, nel momento in cui partirà l'operazione, pronti ad identificare quelli più congrui per attivarsi in quel momento. Ok, manca il molino. Scusi, per il molino Zuzzi la previsione è varia, nel senso che obiettivo importante dal nostro punto di vista per la città e quello della traslazione, dello spostamento dei molino Zuzzi all'interno del territorio comunale in ambito più congruo rispetto alle attività produttive che loro svolgono. Per quale motivo? C'è un problema di camion ad oggi e il molino, se collocato vicino al centro commerciale all'ingrosso, dove è in fase di realizzazione la dogana e lo scalomerci, potrebbe anche riattivare quelle politiche che negli anni sono state abbandonate proprio per la soppressione dello scalomerci che oggi abbiamo in città. Quindi, qualora il molino si sposti nel centro commerciale all'ingrosso, dove è stata identificata già un'area che ha le caratteristiche adatte per il molino ed è fronte scalomerci, il molino potrà essere recuperato con le volumetrie di archeologia industriale e anche i silos come centro recettivo, quindi alberghiero, un albergo di un certo livello con tutte quelle che possono essere poi attività correlate. In assenza di questo legame contro lo spostamento, e quindi pensando che a un certo punto il molino non voglia più insediarsi nel territorio di Pordenone, voglia chiudere l'attività, la possibilità di trasformazione e di recupero sarà solo degli edifici di archeologia industriale. Quindi non può, tra virgolette, vendere quel tipo di quote? Beh, se lo vuol vendere, basta che questo sta nella libera attività imprenditoriale del privato. Perfetto. Il consigliere Piccinato, se ha altre domande le farà dopo. No, non ne ho altre, solo l'ultima che mi deve rispondere sulla questione delle... Scusi, segretario, il consigliere Piccinato chiedeva per quale motivo non è stato pubblicato nel sito... La verifica delle anomalie. La verifica delle anomalie. Sul bando di gara. Sul bando di gara. Al volo non riesco a darle la risposta, anche perché io non c'ero quando è accaduto, quindi non ho seguito l'iter, cioè non c'ero quando nella fase di gara del... Però penso sia stato pubblicato quello che è previsto che vada pubblicato, quindi il verbale di gara e quant'altro. So comunque che tutta la documentazione relativamente a quella procedura è stata mandata al palazzo di Viale Martelli, quindi è stata mandata alla Procura della Repubblica per le valutazioni del caso e non abbiamo notizie di avvi, di procedimento o altro. Quindi dobbiamo desumere, fermaristando i tempi, che non abbiano ravvisato violazioni o elementi per attivare un procedimento. Posso comunque, nel corso della seduta del Consiglio, magari mi informo con l'ufficio gara e vedo... Quindi è perché non è stata pubblicata l'anomalia. Sì, va bene, grazie. Allora la risposta sarà dopo. Bene, il consigliere Dalmas, prego. Innanzitutto, mi associo anch'io con coloro i quali si sono complimentati con i relatori di questa giornata, perché sono dei giovani, di bravi ragazzi, capaci, hanno detto delle cose intelligenti. E anche il capo staff ha fatto un discorso molto politico da urbanista e quindi non ha detto cose sulle quali credo che questa comunità sia chiamata a pronunciarsi con senso di responsabilità. Allora, io faccio tre domande velocissime, fermo restando che il collega Piccinato ha esaurito lo scibile. Allora, la prima, ma probabilmente c'è già qui dentro, ma voi siete anche più veloci, quindi siete più diretti. Per quanti abitanti è tarato questo piano? Perché ricordo che la variante 77 voleva ridurne, era sui 65.000 quella del... No? Poi, 77 di Bolzonello. Poi una seconda considerazione che chiedo così all'assessore, evidentemente può rispondere anche al termine del dibattito generale, ma è una mia curiosità questa. Cioè voi qui a pagina 89 nella relazione, crisi finanziaria, primo capoverso, secondo comba di questa cosa, e dite delle cose che sono molto gravi. Gravi non perché voi siete cattivi, perché fotografate una realtà. Avete fotografato una realtà. E dite, è molto ragionevole per vedere che nei prossimi anni le città non avranno più le risorse per produrre interventi di riqualificazione, e nemmeno la capacità economica necessaria per mantenere i servizi e le infrastrutture esistenti. Allora, io capisco che il concetto che voi volete far passare è Pordenone è una città smart, e quindi deve avere anche dei cittadini smart, non è detto che questo Consiglio lo sia, anzi non lo è, in talunni casi per quanto riguarda il sottoscritto, e quindi si punta su alcune cose, quindi la rigenerazione, il verde è concepito come occasione di sviluppo, non come qualcosa che sta lì, il parco urbano dove non vado a passeggio semplicemente col cane, pensando di incontrare uno Red de Balzac piuttosto che un'altra persona, perché non c'è, al massimo incontrerò quello di Pordenone Legge, ma praticamente sarà altro, un altro da sé che emergerà. Quindi prima Pizzinato vi ha chiesto che cosa volete fare a Lamman, che cosa volete fare nella zona dei Lorai, che cosa volete fare a Torre, qualcosa avete cercato di fare a Torre, non è che non si sia fatto. E quindi la domanda è questa, pensate veramente con quello che è successo in questo Paese dal 2011 in poi, e qui chiamo in causa direttamente il Sindaco, il quale non è a colpa, si è messo a fare l'amministratore in questo periodo, che possiamo fare piani regolatori distinti dall'andamento economico delle casse di questo Comune. Cioè lo ha detto prima l'architetto, lo ha detto chiaramente, cioè mi rendo conto che c'è questo problema, ma non pensa che questa pianificazione urbanistica sia un po' datata, come idea della pianificazione sia un po' datata rispetto alle sfide di una legislazione che ci ha cambiato tutto? Per cui è possibile immaginare interventi, come pensate, come pensate che funzioni per equazioni e compensazione che in questa regione abbiamo dalla legge 5 del 2007, o legge 7 del 2005, scusate, a 5 del 2007, e non mi pare che sia stato un grande successo. Quanti esempi abbiamo avuto, operativamente, concretamente, quante interventi ha fatto questa amministrazione sulla perequazione che già c'era? Bene, seconda questione, se il piano casa finisce nel 2017, chi vi dice che non verrà prorogato? Il buon senso vi dice che non verrà prorogato, perché il piano casa non ha funzionato. Quindi questo vostro progetto di risanamento sicuramente avrà una sorte più consistente, ma se non funziona neanche questo, allora la domanda è proprio, il tema è, non è forse il caso di immaginare che tutti questi interventi, e esula evidentemente dalla normativa urbanistica, ma un po' uno sforzo di fantasia, non ci impone, lo chiedo a lei, Assessore, di immaginare che il recupero del patrimonio edilizio, il rimettere in moto l'economia, non presupponga una politica fiscale, tributaria, del peso che ha avuto sulla casa, per il quale da tempo noi stiamo insistendo, fino allo sfinimento, fino allo sfinimento, che qui è completamente ignorata. Ignorata perché forse non era la competenza, non sto dicendo, non è una critica che rivolgo a coloro i quali hanno speso il piano, dico completamente ignorata perché forse noi non ragioniamo abbastanza su questa cosa, e quella potrebbe, o avrebbe potuto essere, sicuramente una spinta. Allora lei non mi dice sì in modo compiacente, lo vedremo e verificheremo ciò che oggi dirà nel prossimo, nelle variazioni se ancora ci saranno, ma dal punto di vista finanziario siete a posto perché ormai avete speso tutto. no? Tu argento un po' ce l'hai speso per il prossimo. Non avevo altro. Mi viene chiesta una cosa molto difficile, di rispondere ai chiarimenti ma non alle considerazioni, allora io mi permetto invece di rispondere ai chiarimenti. 57.425, quindi fin qua ci siamo. E poi vedo di considerare chiarimento le considerazioni e non è per essere compiacenti, credo che il dibattito possa essere talmente onesto da non aver bisogno di cercare compiacenze. Sono perfettamente d'accordo con lei, nel senso che ad oggi anche nazionalmente noi vediamo che quelle azioni che hanno dato un po' di respiro sono quelle di natura incentivante ma finanziaria. sicuramente delle azioni fiscali sono estremamente più efficaci di altre modalità che però sono quelle in carico alla disciplina urbanistica. Quindi noi col piano ci siamo mossi in quell'ambito. Io sono convinta che sia necessario che vengano affrontati i temi ma più che a livello locale, mi perdoni, a livello nazionale e a livello regionale. Ad esempio quello che è stato il disegno di legge che ha portato questo contributo a fondo perduto sulle case zonizzate B0 che ha fatto la Regione con un incentivo del quale, mi perdono in questo momento, non ricordo la cifra, se 20 o 40 mila euro, ma ha dato e ha avuto una risposta da parte dell'utenza notevole. Quindi vuol dire che quelle sono le strade sicuramente più efficaci, quelle o le detassazioni, come dicevo io prima al consigliere Piccinato, a fianco a quello che noi abbiamo fatto di competenza urbanistica che è cercare di ragionare con un'ottica diversa, cercare di capire quali sono le risposte rispetto ad una situazione che non abbiamo avuto problemi a fotografare com'è perché ci sembrava importante partire dalla realtà, non da quello che ci sarebbe piaciuto. E l'abbiamo fatto mostrando le varie problematicità sia nella parte della relazione ma anche a livello ambientale, cioè non abbiamo cercato scorciatoie. A fianco a quello sicuramente, e come dicevo prima stiamo cercando di farlo, stiamo ragionando su quelle che possono essere le possibilità dell'amministrazione comunale di trovare ulteriori incentivi. È logico che però, come mi dice coerentemente il mio collega Assessore Mazzer, che è il settore interessato da queste modalità, il livello di equilibrio deve essere attentamente calibrato perché quella è la parte che garantisce anche la qualità dei servizi che noi eroghiamo e diamo ai nostri cittadini. Quindi trovare come agire mantenendo il livello di servizi che noi vogliamo garantire ai nostri cittadini e quindi identificando puntualmente quelli che possono essere i margini di intervento è una delle sfide che secondo me dobbiamo giocarci da qui ai rapidamente prossimi mesi. delle piccole cose le abbiamo già identificate ma da un mio punto di vista sono ancora troppo deboli. Però vanno a comporre quel paniere o quella complessità di azioni che potrebbero essere incentivanti per ragionare su quella che è la trasformazione della nostra città costruita. E in ogni caso consigliere questo è un argomento sul quale da anni ci si sta confrontando e che ad oggi ancora in tutti i simposi sul riuso e in tutte le sedi che abbiamo frequentato non è riuscito a portare strade certe. Sono tutte strade in sperimentazione ed è per questo che affiancare al piano gli strumenti di valutazione e di potenziale correzione è fondamentale per vedere se quello che noi mettiamo in atto constatato che le modalità con cui agivamo prima non sono più sostenibili possono essere effettivamente premianti e migliorative. Grazie. Consigliere Betti, prego. Grazie Presidente. Allora, io mi scuso in anticipo con l'assessore e con i professionisti se troveranno le domande alquanto banali però non sono tecnico della materia non credo di aver avuto non certo per colpa dei professionisti il tempo di prepararmi adeguatamente l'ho già detto prima forse tediandovi quindi faccio le domande che credo farebbe l'uomo della strada o almeno quelle che mi sento di fare sono poche, sono due o tre domandine allora da quello che ho avuto modo di capire e mi sembra di aver percepito una grande attenzione all'aspetto ambientale allora volevo capire come si colloca e se c'è nel piano poi concretamente un'opera di valorizzazione sempre nell'osservanza di quelli che possono essere vincoli dati da fasce di rispetto o quel che si vuole di una risorsa che a mio modo di vedere è indiscutibile che abbiamo in città come può essere l'area del fiume Nocello quindi se concretamente mi fa capire come all'interno del piano regolatore viene valorizzata quest'area sia dal punto di vista ambientale mi sembra che prima di aver percepito qualcosa sulla pedonalizzazione di una parte insomma volevo capire proprio dove si va a concretare si proprio nell'area nell'ambito che può essere anche magari gli sconfinamenti visto che c'è ho letto nella mia guida che c'è un'interazione anche con le altre città con gli altri paesi limitrofi quindi se c'è un progetto qualcosa in mente per valorizzare il fiume in tutta la sua lunghezza e chiaramente in città principalmente questa è la cosa faccio? tutte le domande Presidente? o ne facciamo? no tre una, due, tre quattro sono quattro o cinque domande questa è la prima poi sempre mi sembra di aver percepito una particolare attenzione più che all'espansione di zone al recupero di quella che era l'edilizia però voglio capire sono state ipotizzate le zone di espansione immagino che sia una zona nord non sono state ipotizzate cioè solo un recupero dell'esistente come viene immaginata poi concretamente lo sviluppo e questo sia per l'area diciamo per i fabbricati abitativi ma anche e qui forse la domanda è un pochino più particolare per le aree industriali cioè ho letto nelle mie guida dove si chiaramente evidenziava quella che è la crisi del settore quindi la liberazione di spazi eccetera mi sembra aver percepito prima nell'illustrazione l'idea di mettere pannelli fotovoltaici sopra gli edifici industriali dismessi per mi sembra 15 ettari 14 non ricordo quindi ecco qual è diciamo per il tessuto economico industriale l'idea di questo piano regolatore poi un'altra domanda riguardava quello che può essere l'attenzione non so quello che può essere il piano di trasporto il piano del traffico comprese anche le piste ciclabili più di qualche non so guardi questa è una domanda comprese le piste ciclabili non so se rientrano o meno no però all'interno dell'area ma io lo spiego perché c'è una motivazione più di qualche volta all'interno di questo consiglio quello che può essere l'idea all'interno di questo piano regolatore del sistema dei trasporti del traffico e ho detto poi comprese le piste ciclabili perché non lo devo vedere ne abbiamo discusso più di qualche volta con posizioni diverse tra chi sta da quella parte in particolar modo mi dispiace non ci sia stasera l'assessore Conficoni non lo vedo almeno io non l'avevo visto va bene ma adesso era per dire mi dispiace che non ci sia presente però più di qualche volta ci siamo scontrati a mio modo di vedere molte di quelle che sono il vanto dell'assessore Conficoni non sono piste ciclabili da vantarsi quindi voglio capire se il nuovo piano regolatore cosa ci dice che vorrebbe fare cosa ci dice che vorrebbe fare se c'è non dico un confronto che non si può non dico un confronto che non si può fare però almeno che si prende atto di questa situazione ci dicono avete le piste ciclabili bellissime non riusciremo a migliorarle oppure ci dice siete dei caproni perché fanno la pista ciclabile come quelle di Vieramiani da delinquenti a mio modo di vedere già detta più di una volta non so se avete visto la pista ciclabile dove passano in mezzo metro due senso di biciclette con i pedoni che ci attraversano ecco se ci dite qualcosa anche su quello e poi un'ultima domanda che forse è più tecnica e dico la verità me la sono fatta a suggerire perché ho cercato di chiedere a qualcuno nel senso secondo te cosa intendono con questa cosa e mi dico ma allora prima mi è sembrata una risposta data al consigliere Piccinato si sia parlato di riqualificazione più che altro di crediti energetici allora io francamente non ho capito soprattutto per quanto riguarda i sottotetti i solai eccetera però da quello che ho capito un po' dalla risposta un po' dalle linee cioè l'idea è quella di fare una perequazione piuttosto che oneri di urbanizzazione ti ridiamo ecco se mi spiegate bene questo passaggio perché francamente non l'ho capito ecco queste sono le domande grazie rispondo in ordine sparso ma rispondo a tutto allora tessuto e traffico il tessuto e traffico il piano regolatore si occupa di un fino ad un certo grado di viabilità il grado poi invece territoriale lo fa il PUNS allora noi abbiamo avuto un'interlocuzione naturalmente con i professionisti che hanno esteso il PUNS che verrà in aula per l'approvazione prossimamente naturalmente noi abbiamo recepito nel piano regolatore quelle che sono le previsioni del PUNS credo che per quanto riguarda la questione delle piste ciclabili nella loro complessità della rete urbana quello sia lo strumento corretto per quanto riguarda invece il traffico su più ampia scala quello che è stato l'atteggiamento del piano regolatore è stato quello del naturalmente di identificare le opere della grande viabilità tipo la bretella sud e quelle che quindi vanno che sono in fase di attuazione abbiamo previsto e ci sembra che sia una scelta logica a fronte del polo scolastico che si attesta su via interna che si preveda in futuro la realizzazione di un terminal del trasporto extraurbano sulla pontebana in modo da non portare quel traffico all'interno della città vicino no 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 questo è del traffico urbano extraurbano cioè quello che da fuori ci porta tutti gli studenti perfetto ecco lì abbiamo fatto quello nella in corrispondenza diciamo al proseguo dei pompieri c'è quell'area che oggi è già di proprietà dell'ATAP e che avrebbe tutta la vocazione per diventare un terminal studenti dell'extraurbano cioè di tutti quei pullman che portano i ragazzi alle scuole superiori e che provengono da fuori questo porterebbe ad una razionalizzazione del sistema di penetrazione questo era previsto è stato tolto noi lo riconfermiamo perché consideriamo che sia un no ma era una strichetta cioè era una situazione per ora vengono fatti due stalli lì c'è nel piano struttura un'idea più importante che collega anche l'attuale area dei vigili del fuoco sui quali c'è un ragionamento nel piano struttura perché come avete capito c'è sempre questo doppio binario ciò che possiamo fare subito e ciò che invece prevediamo nel futuro lo spostamento dei vigili nella Monti nella caserma Monti che ha un certo nel senso che lei si è voluta in modo che eh ma io devo rispondere alle no infatti in modo che ci sia la collocazione congrua della in sede propria magari da fare perché ad oggi i pompieri sono in una sede in affitto mentre questo affitto se venisse destinato alla realizzazione al pagamento di un mutuo per la realizzazione della caserma sarebbe ottimale e questo legato al fatto che per la caserma Monti noi abbiamo la dichiarazione di interesse da parte del ministero dell'accessione l'operazione è fattibile quindi sono tutte operazioni che giocano insieme e quindi vedono il trasferimento di certe funzioni più congrue rispetto al sistema territoriale l'accorpamento di altre legate alla vocazione dell'ambito nell'area delle scuole la funzione che oggi viene occupata dalla caserma potrebbe essere invece di sostegno ai ragazzi che utilizzano il quartiere quindi sono queste le modalità dopodiché abbiamo anche inserito azioni che sono congrue con come indicavano le redatrici della VAS che sono di area sovracomunale come la Noncello Mare che è una pista ciclabile che interessa quell'asse fluviale e qui mi leggo alla sua prima domanda che viene immaginato come uno un elemento e un polo attrattivo per la nostra città noi abbiamo immaginato il fronte del Noncello con una duplice valenza da un lato ha un'importante caratteristica e valenza ambientale dall'altro può essere un verde invece che viene vissuto e più e reso fruibile ai cittadini per questo l'idea della trasformazione del Marcolin in grande parco con affaccio sull'imbarcadero e per questo abbiamo fatto anche le verifiche della sostenibilità dell'eliminazione della viabilità perché si tratta che oggi divide il Marcolin dall'imbarcadero perché quello non è una diga è un rilevato solo per portare la strada e quindi l'eliminazione di quella viabilità e il giocare con un ampliamento dell'affaccio al fiume possa essere una potenzialità per il nostro territorio veramente molto importante ad esempio a questo si è legato anche un cambio di destinazione di quella casa d'angolo che potrebbe invece diventare un punto ricettivo se lì ci si sviluppa come collettività un parco e avere un'attestata anche di funzioni che poi si connettono alla Riviera Asca che pedonalizzata diciamo fino a garantire l'accesso naturalmente al parcheggio dell'ex tribunale che diventa invece un polo importante di una porta al fiume può essere in connessione con questo sistema di affaccio della città costruita verso il fiume che ha come quinta invece l'elemento naturale di biodiversità dove effettivamente abbiamo degli indicatori che ci segnalano l'importanza e la valenza di quell'area che diventa la quinta naturale importante su quest'asse si attesta poi la man con quelle che erano le funzioni che si dicevano e può essere raccordata come percorso con la noncello mare con il progetto che poi è stato recepito dal Pums e che può con altri elementi ed eventi che sono presenti nel piano struttura dare un un'asse verde che diventa un'asse attrattivo perché ricordiamoci che su questo poi guarda caso si attestano tutte le superfici museali che possono essere connesse da questo grande asse ambientale e che possono vedere poi la conclusione per quanto riguarda il territorio di Pordenone con il parco del seminario il museo archeologico e vocazioni di accoglienza per quanto riguarda altre proprietà comunali in quell'ambito per quanto riguarda le aree industriali e le aree in trasformazione l'operazione che noi abbiamo fatto è quella del valutare tutte le aree già zonizzate dalla variante 77 che era l'ultima variante generale che il comune di Pordenone ha fatto partiamo da una definizione partiamo da una definizione ovvero che quando a livello europeo si parla di consumo di suolo e anche la regione ha dato questa affermazione anche recentemente visto che ha in discussione una bozza di legge sul consumo di suolo delle aree D e H quando si parla di consumo di suolo si riferisce ad ulteriore suolo zonizzato in più rispetto a quello già presente negli strumenti urbanistici bene allora noi abbiamo preso in esame quello che avevamo già zonizzato abbiamo eliminato quelli che ci risultavano inconguri rispetto alle caratteristiche che avevano ad esempio tutti quelli nelle zone zondabili oppure alcuni troppo lontani e sparsi che non avevano logica rispetto agli impatti che avrebbero dato per quanto riguardava quelli invece di completamento rispetto al tessuto li abbiamo continuato a mantenere nell'ottica di legarli a quei crediti edilizi che vengono generati dalla rigenerazione del tessuto urbano questo perché la relazione tra le due azioni i crediti edilizi che nascono dalla rigenerazione energetica del tessuto non ho negli industriali nelle residenziali lei mi aveva detto di tutti e due forse mi sono persa anch'io no no parlavo delle aree in genere scusi per quanto riguarda le residenziali per quanto si riguardava le residenziali noi abbiamo guardato quelle congrue e quelle le abbiamo legate a doppia mandata alle azioni di rigenerazione nel tessuto esistente ho un credito e chi vuole trasformare la sua area rispetto alla potenzialità edificatoria che ha ne deve acquistare una percentuale dal credito edilizio generato dalla rigenerazione lo può fare in vari modi lo può fare così lo può fare ad esempio perché l'impresa propone lei di rigenerare edifici che ci appunto perfetto benissimo tutto questo noi lo andremo a normare precisamente nel regolamento dei crediti edilizi che porteremo e discuteremo insieme all'approvazione del piano regolatore quindi abbiamo tempo per affrontarlo ragionarci limmarlo e quant'altro per quanto riguarda invece le aree si 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 e come lei sa il credito edilizio è un credito che è anche previsto dal codice civile quindi si si no è stato noi ci siamo guardati intorno cioè abbiamo cercato verifico e abbiamo capito quali potevano essere le azioni dei correttivi per contestualizzarle con la nostra realtà per quanto invece riguarda le aree industriali lì noi abbiamo già una saturazione di territorio non abbiamo bisogno di altre aree industriali ed infatti no 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 non sono ne è stata prevista solo una che è quella per lo spostamento dell'ex Zuzzi cioè del mulino quella scusi non dell'ex ma del mulino Zuzzi perché al centro commerciale perché la destinazione del mulino è una destinazione industriale e non di commercio come invece è il centro commerciale all'ingrosso però il centro commerciale all'ingrosso che ha lo scalo merci quindi è il centro ed è fatta in ogni caso su di un'area di proprietà del centro commerciale all'ingrosso quella che dicevo prima del mulino Zuzzi sì come dicevo prima scusi come dicevo prima al consigliere Piccinato la trasformazione del mulino Zuzzi è legata al suo trasferimento e qualora si trasferiscono recuperano tutta la volumetria compresi Silos con una destinazione ricettiva alberghiera spa e tutto quello cioè un polo legato all'attrattività della città qualora invece non facciano l'operazione dello spostare il mulino in territorio comunale lì recuperano solo l'archeologia industriale cioè gli edifici bassi no forse non l'ho risposto sì ho risposto tutto voglio capire da il sottopasso che comunque in quell'epoca siccome era legato alla mi ricordo la cifra dell'epoca che era attorno ai 6 milioni di euro per realizzare no no ve lo dico come dato ma sul piano della mobilità però non è previsto il sottopasso mi sembra di averle risposto a tutto passiamo al consigliere De Bortoli prego no per capire Assessore rivolgo direttamente alle sì allora cerco di ripercorrere un po' l'iter di questo di questo PRG pratica per essere sicuro di quello che i suoi passaggi il sindaco ha detto prima che uno dei punti qualificanti è la partecipazione e la trasparenza proprio per questo volevo chiedere sono 4 anni che ci lavoriamo su questo piano giusto a occhio e croce mi pare no insomma se non sono qua sono 3 di sicuro dunque se noi oggi adottiamo il piano oggi o domani deve andare la pubblicazione dopo l'adozione va al burvero sì e dopo ma va immediatamente avete un tempo voi che decidete va immediatamente dunque si è approvato il 7 l'8 il tempo necessario vabbè ci sarà una settimana insomma una settimana in 7 giorni dopo abbiamo 30 giorni per le osservazioni come per la consultazione ecco no ditemi 30 giorni io a me risulta che sono dopo una volta ammesso al burro ci sono 30 giorni per le osservazioni poi la regione prese l'osservazione ci rimanda indietro e noi andiamo a riapprovazione no mi dica com'è l'iter però non astrettamente mi piace sapere i tempi che c'è i tempi definiti 30 giorni e vi diciamo bene questa è una dunque dal tempo che avete lavorato su questo piano a oggi e domani che è l'adozione fino al rientro in pratica per l'approvazione finale anche da parte del consiglio comunale va bene capito tutto sì bene l'altra cosa io non ho potuto vedere ma chiedevo in questo piano del nostro comune viene anche considerata il progetto del traffico cioè sentendo il professionista c'è una visione nel futuro è un piano sappiamo quanto dura importante sulla sostenibilità sull'ecologia sulla riattivazione del verde allora in questo piano è previsto anche una forte modifica di una cosa che abbiamo rilevato da tanti anni che c'è un traffico filtrante parassitario in queste città che crea una situazione ecologica mostruosa nel senso che un inquinamento è previsto che uno per andare a Borgovedù non deve più passare dal centro di Pordenone cioè previsto nel senso che con bretelle autostradali perché per me la bretelle autostradali di oggi che una è confinata per il centro commerciale all'ingrosso e una per la fiera a mio avviso non sono come si dice non sono sufficienti perché escono a Porcia per andare a Borgovedù dunque filtrano parassitariamente il centro di Pordenone siccome il centro è centro e vogliamo rispecchiare quello che il professionista ha detto mi auguro che poi lei mi dirà quali sono i punti in cui questo non succederà più cioè se uno viene converge in centro a Pordenone in modo stellare ma non passa il centro a Pordenone per raggiungere una quota periferica in pratica se poi mi puoi dire anche per favore un paio di cose che qualificano il rilancio della città di Pordenone cioè rilancio intendo abbiamo sostituto più volte in questo consiglio comunale che Pordenone negli ultimi anni è morente morente come attrazione sia l'abbiamo visto anche turistica anche l'ultima quest'anno ci sono state tre province italiane in Friuli in Sagiulia che non sono state molto attrattive hanno fatto dei record nei musei eccetera Pordenone in quel periodo ha fatto zero può darsi perché anche i musei erano chiusi non so però non è turisticamente siamo quasi se non l'ultima provincia del Friuli come attrazione turistica e dobbiamo diventare anche quello che ci ha costituito città attrattiva visto che siamo ancora capologo di provincia per il momento dove se qualcuno vuole investire nel commercio o magari nelle zone industriali servite dovrebbe venire a Pordenone per mantenere quello standard dei 50.000 abitanti in su per poter avere una città che dica la sua nel territorio allora ho sentito quella di Zuzzi ed è una cosa che auspichevamo del mulino Zuzzi auspichiamo da quando fu fatto l'intervento della stazione con lo spostamento con lo spostamento dei carri dei carri armati cioè della trasporto militare al centro commissario di Grosso dunque già auspichiamo e nel progetto c'erano dei tunnel per raggiungere la stazione c'era un progetto e va benissimo se questa attività che è effettivamente industriale vada a collocarsi nella zona giusta e non in centro a Pordenone l'auspicio è anche che il carcere prima o poi faccia la stessa fine non so se voi lo prevedete già collocandolo a San Vito ecco e vediamo come rivalutate poi la zona di Piazza della Motta però un'altra area grande strategica assessore era l'olcese veneziano ne abbiamo parlato per tantissimi anni c'erano progetti sull'olcese veneziano fatti dalla regione allora oggi sento parlare che l'olcese veneziano diventa una per salvarlo sotto l'aspetto architettonico si la domanda non so sono quello che ha parlato meno se vuoi metto anche di parlare Presidente non so è l'ultima cosa che vi sto chiedendo non so gli altri hanno parlato due ore e mezza non so l'olcese non è importante vabbè allora lo sto chiedendo visto che avete parlato di Zuzzi visto che l'olcese volevo solo capire se è vero quello che dice che viene fatto il recupero di archeologia industriale giusto è privato l'area vero bene allora bisogna fare un recupero di archeologia industriale adibito a sport cultura e tempo libero da quello che ho capito sport e tempo libero senza cultura non commerciale e non abitativo mi pare giusto perfetto dunque privato che deve investire su un'area non commerciale non abitativa va bene e poi facciamo un recupero di energia con cascate mi pare che ha detto c'è un recupero per energia alternativa no e ecco io allora intanto che troviamo il privato che faccia questo grande investimento per un per un utile così risicato io visto che c'è la fame nel mondo direi di coltivare un po' i mazzurini in modo che possiamo perché se stai fermo da 20 anni con queste prospettive starà fermo ancora per 30 dunque visto che ancora lì utilizziamo insomma per qualcosa ecco Nutri e mazzurini si potrebbe trovare lì la collocazione esatta io ritenevo che l'occedio veneziano lo dirò dopo era un'area strategica per Pordenone quanto la Zuzi ma quanto altre come il Bronx e via e dunque se voi pensate che un privato venga a investire su un'area di 8.000 metri quadri per recuperare la tecnologia industriale è soltanto perché voi avete deciso così che avete scadinato una promessa regionale di tantissimi anni fa quando raddoppiate strutture periferiche di questa città attrattive come l'Ipercop raddoppio avete concesso il raddoppio dell'Ipercop e adesso cancellate una possibilità una strategica come questa che era funzionale al centro eccetera per questa ecco mi dica se è vero quello che volete fare è chiaramente tecnico perché intendete trasformare quell'area da com'era destinata ho capito vabbè poi ne parleremo comunque ti ringrazio perché vedo che io sono qua seduto da parecchio tempo eh no ma ho capito ma sì mi sbaglio che non c'erano tutti gli interventi comunque mi dica il primo che poi così mi parlo per l'intervento quello allora una volta pubblicata sul Bur la delibera di adozione del sono tra quattro giorni ma insomma non so se dirle se il Bur la pubblica in quattro cinque giorni una volta sì al massimo è una settimana però forse sono anche quattro se sono quattro parte da prima da quel punto partono trenta giorni per la consultazione consultazione cioè per studiare è certo poi hanno trenta giorni per è ripartita l'aria condizionata per le osservazioni aspetti aspetti nulla c'entra con il percorso regionale che invece vede noi che mandiamo il tutto alla regione e la regione ha i suoi tempi per fare le sue valutazioni finite le la regione mi sembra che abbia 90 giorni per le riserve da quando gli arriva finito il periodo delle osservazioni è l'amministrazione comunale che dà risposta alle osservazioni dei cittadini non la regione e l'amministrazione comunale dà risposta all'osservazione dei cittadini e poi controdeduce le riserve regionali le eventuali riserve che provengono dalla regione fatto tutto questo pacchetto procede e va in approvazione io non ho sentito neanche mezza parola di quello che ha detto scusi noi speriamo entro fine anno entro fine anno e questa è uno riguardo alle questioni del traffico e che cosa è presente nel piano regolatore come dicevo prima il consigliere Ribetti il piano regolatore si occupa di una certa tipologia di viabilità credo che la sua domanda troverà risposte nella presentazione del Pums che arriverà in aula a breve dove tutto il sistema viabilistico della città viene analizzato posso dire che la fortuna che abbiamo avuto come amministrazione è quella dell'aver fatto vari piani tutti in contemporanea che questi quindi si sono messi bene in relazione tra di loro e parlo di Pums di zonizzazione acustica di piano regolatore e di piano energetico per quanto riguarda la questione dell'olcese rapidamente solo per specificarle alcune cose non è stata l'amministrazione comunale che ha deciso arbitrariamente di togliere la previsione l'olcese è stato declassato dal PAIL in quanto area fluviale l'area il rischio del resto chi ha fatto i cotonifici all'epoca li ha fatti nell'acqua alcuni sull'acqua altri nell'acqua perché servivano per la produzione energetica l'olcese è in un elevato rischio esondativo lo abbiamo visto di conseguenza lo strumento regionale non no non è lo strumento regionale lo strumento dell'autorità di bacino perché è l'autorità di bacino che è sovra regionale elimina per le aree che hanno quel grado di pericolosità idraulica la possibilità di fare destinazioni che comportino carico urbanistico quindi questo ente c'era ancora tempo fa certo però questo ente come ha detto l'ingegner il dottor Nicolini questa mattina ha redatto degli studi sempre più approfonditi perché mano a mano che passano gli anni la tecnica si evolve e l'ultima variante che ha fatto al PAIL è del 2012 ed è con quella che ha cioè l'olcese è sempre stato fatto a fianco al noncello certo dunque l'elettorità di bacino che esisteva quella volta quando la legione approvò l'area lucese commerciale con l'intervento a quell'epoca non c'era il PAIL non pensava ah non c'era no non c'era proprio il PAIL il PAIL viene fatto per la prima volta nel 2001 e la prima variante anzi la variante numero 2 è del 2012 beh di conseguenza il piano regolatore non può che prevedere lì che destinazioni congrue con il livello di vincolo che viene sovraordinato e che è sovraordinato a qualsiasi decisione dell'amministrazione perché parte dal presupposto della sicurezza del territorio e dei cittadini quindi è appunto non ho altri termini che ribadire sovraordinato grazie prego purtroppo l'aria condizionata sembra che non stia funzionando speriamo riesco a trovare la soluzione il consigliere Germani no presidente scusi posso dire una cosa allora guardi adesso andiamo tutti quanti in ferie fra poco io la prego prima di fine anno quando dovremo riapporare questo piano provate a sistemare intanto i microfoni che sono un disastro ogni volta e magari l'aria condizionata così lavoriamo un po' meglio no lo dico magari a tempo da qua a fine anno quando festeggiamo Natale che abbiamo pagato queste cose che funzionano e l'aria condizionata il consigliere scusi consigliere Cabibo consigliere Cabibo scusi consigliere Giannelli non c'è non c'è e allora consigliere Ribetti come scusate un'interruzione finché arrivano i consiglieri grazie a tutti Grazie. Manca presto ma non presti. Grazie. Allora c'è il consigliere Ribetti che chiede, ha ancora un chiarimento. Prego consigliere. Grazie, erano le due che avevo pronunciato prima che mi sono venute dopo la sua spiegazione, anzi durante. Allora la prima, il mio tormentone è una preoccupazione. Nello specifico il piano regolatore prevede mica ancora contenitori culturali, cubici, non so, un grattacielo al parco Galvani di altri 12 piani. Secondo, e se da collegato la prima domanda che avevo fatto, quella sul noncello, dove la ringrazio per l'esaustività, due cose. La prima, la pista ciclabile è la noncello mare, ecco si dice qualcosa perché forse mi ricordo tempo fa che, no volevo capire il progetto, c'è in unione con altri comuni, cosa paghiamo fino a una parte. E poi sulla navigabilità del noncello, io mi ricordo che tempo fa, chiedo scusa, mi ricordo che tempo fa avevamo fatto la commissione straordinaria e c'erano problemi legati a una legge, a un reggio decreto ancora, della qualcosa da uno sbloccare a livello regionale. Mi sembra ci fossero stati dei passi in avanti. Non so, se sapete qualcosa, il piano regolatore prevede, ci può dire qualcosa. Grazie. Allora, grazie dell'aver concesso l'interruzione. Non prevediamo ulteriori dotazioni di musei o di strutture museali. Invece per quanto riguarda la noncello mare, questa è, e qui chiedo conforto ai miei colleghi che seguono più precisamente, ecco, che è arrivato in bicicletta. Allora, è prevista nel piano. Passo la parola all'assessore Zille, che... Allora, la noncello mare è prevista nel piano regionale delle piste ciclabili di interesse regionale, nel Recir. E il PUMUS, il piano della mobilità sostenibile, chiaramente la riconferma, la prevede, e quindi prevede come connessione al sistema delle piste ciclabili, anche quella pista lungo il fiume noncello e tutto il sistema fluviale in cui prevede il collegamento con l'ivenza. Prego. Al momento non c'è, è dentro nel piano regionale, però al momento ancora non... abbiamo chiesto ma non sono previsti... Il PISUS, il tratto urbano... Il tratto, ecco, dalla Fiera fino al Maccò. Ricorda noi, quello è finanziato per i fondi del PISUS. Il resto... Il resto è nel piano regionale che deve essere finanziato. Mentre per quanto riguarda la navigabilità, l'assessore Conficconi mi dice che il regio decreto è stato abrogato, quindi risulta navigabile e noncello anche a motore. E che... Senza limiti, salvo. Salvo. Per le manifestazioni, adesso vede se... Per le manifestazioni è necessario ottenere una autorizzazione che viene rilasciata dal Comune a seguito del reperimento di tutta il parere di altri enti. Ma sul... Noi lo indichiamo come nel piano regolatore, abbiamo indicato nella componente strutturale un ambito che possa avere questa destinazione a Vallenancello, laddove c'era il vecchio... Quindi è quello che lui ha individuato. Noi abbiamo identificato quella e poi abbiamo come piano struttura e poi abbiamo individuato un altro ambito che è quello delle pompe di sollevamento che sono più a sud, che sono comunali, come possibili ripensamenti per attività attrattive e ricettive. Quello potrebbe essere ricordato. L'attracco presso il parcheggio Marcolini è stato riqualificato qualche anno fa, è stato realizzato ex novo culo della fiera. Recentemente in occasione di lavori di manutenzione straordinaria del fiume Noncello è stata data anche una sistemazione per quanto diciamo in economia della rampa di alaggio anche presso la vecchia dogana di Vallenancello. In più c'è una collaborazione con il Comune di Prata che per esempio anche in questi giorni in occasione delle escursioni sul fiume attuate in collaborazione con l'associazione Gomonauti ha ripristinato l'accessibilità del suo puntile e ci ha consentito quindi lo svolgimento della manifestazione. La possibilità dello stazionamento di un'imbarcazione sul fiume va autorizzata in particolare perché il fiume Noncello è soggetto in alcuni periodi dell'anno ad una grande escursione e quindi chiaramente questo è di ostacolo allo stazionamento permanente di un qualsiasi tipo di imbarcazione sul fiume. Consigliere Piccinato, prego. Grazie. Un flash, il costo totale del PRGC quindi con tutte le valutazioni quant'è? Allora i professionisti che hanno redatto il piano regolatore hanno avuto una parcella di 109 mila euro. Avranno. Avranno. Scusa, specifico. Grazie. Per quanto riguarda la MAN, realizzare una struttura di copertura per esempio fare un mercato ortofrutticolo è impossibile rispetto al PAIL o no? No, quando si parla di ristrutturazione dell'archeologia industriale ad esempio io penso alla filatura bassa che è l'edificio che c'è sul fronte del quale si vede il prospetto e che è la sagoma del cotonificio che ha già una copertura crollata ma ha tutta la presenza delle colonnine e che potrebbe essere tranquillamente ripristinata e sotto la quale potrebbero succedere mille cose come il mercato. Assolutamente sì. Bene. Consigliere Tavella, prego. Ah, la mia è solo una... non è una provocazione ma visto che tanti hanno chiesto tante cose e il clima è abbastanza caldo. Forse ho perso... fatto apposta così andiamo via subito, no? Volevo solo sapere se per caso nei vari progetti che avete la mia è molto mirata all'attività che svolgo che è di sicurezza stradale. Io mi ricordo che una volta un sindaco due mandati fa ha previsto un'area per fare un impianto di guida sicura. Nelle ipotesi è programmato questo oppure no? Nello specifico non è programmato o localizzato su un'area per una struttura del genere che però bisogna vedere con quali zonizzazioni risulta essere compatibile e quindi potrebbe anche esserci. Nel senso non avendo nessuna domanda specifica io vorrei fare qui un circuito di guida sicura, scusi, un impianto di guida sicura e non essendo nelle intenzioni dell'amministrazione farla come servizio collettivo naturalmente non è stata zonizzata. Non so in quale categoria urbanistica possa essere compatibile e quindi se vi siano già delle aree di determinate dimensioni già zonizzate nel territorio che potrebbero accogliere una cosa del genere. Questo non glielo so dire. Cioè non so se fa parte degli impianti sportivi o... Cioè non so come possa essere collocata urbanisticamente. Eccoci qua, se lo dico è perché ci sono gli enti preposti che stanno... Ci sono già stati fatti degli incontri in questo senso anche con chi ha la proprietà dell'area che è una proprietà parapubblica. Ok, quindi non è buttata lì. E l'ente che si propone per farlo è un ente pubblico. Cioè non è difficile intuire chi come dove. Però la mia domanda non è buttata là. È perché questo rientra nei progetti in un'area. Da capire se avete pensato, siccome mi hai detto che è una cosa che è fattibile. Cioè non è da pensare a un'area per attività sportiva. Quella non c'entra. Questa è un'attività di tipo tecnico per la sicurezza stradale. Ecco, di solito queste valutazioni vengono fatte a seguito della presentazione di una domanda di variante. Sì. Noi non avendo avuto... Non può esserci adesso. Non può esserci adesso. Quindi non la potevamo neanche immaginare. È in funzione degli spostamenti di alcuni uffici pubblici che facendo A più B più C. Ho capito. Ok, grazie. Grazie, Consigliere. Non vedo nessun altro iscritto per richiesti e chiarimenti. Bene, possiamo ritenere chiusa questa fase che ha richiesto più di due ore. Bene, allora passiamo adesso alla discussione. Pertanto dichiaro aperta la discussione, pertanto invito i Consigliere ad iscriversi per l'intervento. Ricordo che il primo intervento prevede un tempo massimo di mezz'ora e il secondo intervento di dieci minuti. Riccardo Piccinato, prego. Grazie. Grazie, grazie Presidente. Allora, io in questi anni in cui sono stato qua come Consigliere Comunale ho sempre accusato un po' la maggioranza per avere una mancanza di visione. Questa volta devo dire che invece c'è, assolutamente. e da questo punto di vista... Si rovina tutto. No, no, no. Devo dire che la visione c'è e mi piace anche. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente soddisfatto delle proposte, delle soluzioni anche innovative che sono state trovate. È chiaro, dopo elencherò perché alcune cose non sono d'accordo e perché alla fine poi voterò no. Però è un no che va a ritrovarsi per tante altre motivazioni, non tanto per le soluzioni innovative e anche interessanti che avete trovato. Quindi da questo punto di vista devo farvi i complimenti. e faccio anche i complimenti all'assessore per le risposte che mi ha dato che sono state estremamente puntuali, nonostante il numero. Devo però appunto dire questo. Allora, sul discorso del 30% delle salvaguardie, io onestamente col senno dei poi non ho ancora capito perché sono passati circa 16 mesi dall'introduzione delle salvaguardie che poi alla fine non hanno trovato riscontri effettivi per quanto ho potuto notare. Per cui si è, tra virgolette, dal mio punto di vista, danneggiato un settore per 16 mesi senza un motivo evidente. Io questa spiegazione me la do nel senso che l'intenzione della maggioranza era un'altra, nel senso che era molto più... voleva andare al di là di quelli che sono poi i risultati di oggi ma abbassare ancora il livello di possibile costruzione e invece si è dovuto poi evidentemente limitare a questo tipo di approccio. tant'è che appunto lo stesso sindaco e lo stesso assessore parlavano più volte di cubatura zero e addirittura sotto zero in qualche caso. C'è un articolo del 2012 dove appunto si dice che potrebbe... l'intenzione è quella di andare appunto in negativo nella cubatura, invece allo stato attuale, da quanto ho capito, non è così. Quindi questo è un punto di vista che da un lato o dall'altro in ogni caso si può vedere secondo il mio punto di vista in un fallimento nel raggiungimento di questo obiettivo. Dopodiché devo dire passata appunto insomma la prima parte in cui elogio questo tipo di visione dico anche che purtroppo risulta un po' un libro dei sogni perché effettivamente tutte quelle che sono le risorse che servirebbero non solo all'amministrazione per poter proporre in stato di fatto quanto elencato nella documentazione che peraltro non sono neanche riuscito appunto per tutti i vari problemi a vedere integralmente ma è difficilmente realizzabile anche per quanto riguarda il punto di vista della cittadinanza nel senso che vi faccio un semplice esempio si parla ad un certo punto della relazione del problema dello spopolamento della città cioè che i comuni limitrofi per non dire anche il resto degli arei del mondo sono attrattivi per quanto riguarda i cittadini proprio per una questione economica e la soluzione proposta dall'amministrazione è quella di dire noi incentiviamo i cittadini di Pordenone a venire a Pordenone sì i cittadini a venire a Pordenone o a restare a Pordenone alzando i prezzi perché alla fine il risultato di una politica anche illuminata energetica e strutturale insomma ecocompatibile è sicuramente quello di elevare in maniera molto forte i prezzi degli appartamenti delle case delle locazioni quindi è evidente che se lo scopo era anche quello questo scopo dal mio punto di vista è totalmente mancato ed è totalmente mancato anche perché non ci sono all'interno mentre ci sono tutta un'altra serie di divagazioni dalla piantina al fiorellino non trova una divagazione che vada a favore di una migliore e più importante spinta alla natalità dei cittadini di Pordenone quindi io beh allora diciamo aumentiamo togliamo un po' di tv no consigliere franchini togliamo un po' di tv no però da questo punto di vista devo dire che non ho trovato nessun riferimento e questo dal mio punto di vista è un estremo peccato perché anche le previsioni che vengono fatte dal punto di vista della demografica che appunto abbiamo visto anche prima assieme un po' nei chiarimenti non solo sul mio intervento ma anche sugli altri è da questo punto di vista a ribasso la tendenza cioè non c'è più quella spinta positiva nella città di vedere un futuro non dico di incrementare in maniera esponenziale perché io a me piace la dimensione che ha questa città però anche solo al mantenimento sarebbe importante arrivare a un limite insomma di mantenimento e comunque la città deve essere leggermente attrattiva e non depressiva per tanti motivi non ultimo appunto quello della questione lavorativa perché se è chiaro che a un certo punto in un territorio non ci sono più le capacità attrattive dal punto di vista lavorativo è chiaro che nel breve periodo breve medio periodo la città si spopola prima inizia a deperire la questione dei servizi dopodiché va a spopolarsi in maniera abbastanza vistosa per quanto riguarda quindi insomma risulta essere questo piano regolatore un libro un po' dei sogni perché veramente tante soluzioni proposte magari dopo ne dico qualcuna sono assolutamente pretenziose quindi probabilmente anche difficili da attuare oltre che costose ma torniamo un attimo su quello che è il concreto allora per quanto riguarda l'ortofrutta io chiedo all'assessore se poi mi dà una si scusi il cotonificio a man se poi mi dà una mano per capire come realizzare un emendamento per chiedere di poterlo trasformare in una zona di ortofrutticola può andare boh allora cancello per quanto riguarda invece la zona del molino Zuzzi io dal mio punto di vista la questione dei trasporti su camion eccetera risulta essere una motivazione un po' povera per poter fare il tipo di operazione che viene detto perché non ho mai notato i flussi così elevati da poter appunto suggerire questo tipo di operazione certo è una posizione scomoda nell'uscita quello si però non risulta un aggravio così pesante della viabilità per poter effettivamente facciamo questo tipo di operazione quindi da questo punto di vista non sono molto concorde eh vabbè ma quella è un'altra questione cioè è una questione di ho capito ma quella è una questione che esula da questo allora io voglio trasformare la mia casa perché no no sì vabbè ma non è esattamente così poi per quanto riguarda invece altre questioni mi perdonerà ma non ho allora per quanto riguarda un altro punto della relazione io a pagina 21 leggo che la la volontà è quella di integrare modelli della grande distribuzione all'interno dei centri storici e poi mi trovo sempre nella stessa relazione che si vuole realizzare una pista ciclabile verso Meduno che si vuole creare un mega parcheggio nell'area del Meduno che si vuole fare il bike sharing nell'area del Meduno il centro commerciale Meduno sì intendevo il centro commerciale Meduno io credo che questo sia in questo caso una visione completamente sbagliata perché l'obiettivo deve essere quello di riportare l'attenzione al centro città e a una periferia abitata non una periferia di un centro commerciale che nulla c'entra con quello che sono le fruibilità di una città e quindi da questo punto di vista vi contraddicete nella stessa nella stessa nella stessa nella stessa relazione quindi anche nelle stesse carte è chiaro che non può essere così da questo punto di vista il realizzato il piano questo è un errore secondo me estremamente grave che abbiamo già visto da anni e anni le capacità distruttive per un territorio di un centro commerciale dopodiché abbiamo in un altro punto in cui dite che la priorità è evitare il consumo di suolo e poi anche lì con i vari scenari dite ci fate vedere che alla fine aumentate il consumo di suolo nelle varie previsioni che sia 2-3% c'è scritto così poi ancora sempre per quanto riguarda la questione del parcheggio io se non la vecchia maniera però non riesco a capire come il centro possa tornare attrattivo se le aree del parcheggio vengono diminuite dall'1% allo 0,25% come aree quindi c'è scritto nella relazione e quindi io questa trovo una soluzione estremamente dannosa per il commercio cittadino è assolutamente dannosa per la città io non credo che parcheggiare in zona Meduna possa portare il centro commerciale Meduna possa portare aiuto al centro città e quindi da questo punto di vista non sono assolutamente d'accordo e tant'è che poi voi nella stessa relazione sempre un po' più avanti a pagina 150 ditte che è sempre minore l'utilizzo dei parcheggi a pagamento quindi perché perché costano probabilmente i cittadini giustamente fanno i conti con le loro tasche e dicono i prezzi dei parcheggi a Pordenone sono folli noi non parcheggiamo più quelli a pagamento e quindi è chiaro che poi evidentemente anche il centro dal punto di vista commercialmente ne risente e quindi è chiaro che voi potete pensare di ridurre le aree di parcheggio perché tanto non vengono utilizzate chiaro con i prezzi che avete sì è evidente anche che una persona normale non vada a pagare per due ore di parcheggio 3 euro e 20 in centro città a Pordenone che Roma costa meno quindi è evidente che da questo punto di vista è una scelta completamente sballata da tutti i punti di vista anche dal punto di vista delle casse perché se il cittadino non va a parcheggiare lì non è che prendete 1 euro 60 non prendete niente quindi meglio prendere magari 80 invece che 0 ecco quindi già i conti così li vedete dopodiché sulle piste ciclabili anche qui io non trovo abbastanza dire che verranno sviluppati 17 chilometri di pista ciclabile perché non è molto 17 chilometri in un'area come quella di Pordenone non va secondo me a risolvere tutti i problemi che ci sono delle piste ciclabili e quindi perché lo dite voi stessi sono estremamente frammentate sono estremamente tante parti sono anche mal combinate e quindi serve sicuramente un disegno che riesca a dare effettiva concretezza alle piste ciclabili dopodiché sempre andando un po' più avanti si vede la questione della riqualificazione come come si no questo l'ho già detto invece un'altra questione che proponete è quella del riavvicinarsi casa lavoro tra appunto per l'identità collettiva che crea una specie di identità collettiva ma mi chiedo io ma fino adesso abbiamo sempre parlato avete sempre parlato di multiculturalismo globalizzazione cioè adesso improvvisamente vi svegliate e cercate di pensare al contrario in quello che è una realtà cittadina dove appunto abbiamo anche sempre più spesso necessità lavorative che sono in maniera sempre più distante rispetto a quella che è l'abitazione quindi da questo punto di vista il progetto lo sposo anch'io in maniera assoluta però anche a causa delle politiche che il vostro stesso partito di governo dà risulta incompatibile quindi io qui non non riesco a trovare appunto un filo logico a questo tipo di operazione poi allora sul attendo la questione delle verifiche delle anomalie e anzi approfitto per chiedere l'intera documentazione quindi chiedo anche al segretario se me la può fornire appena ne entra in possesso quindi comunque prima della sulla questione verifica anomalie del bando di gara sì se mi può fornire l'intera documentazione in maniera fisica poi tornando un attimo nel nel pratico nelle questioni un po' più tecniche allora da quanto ho capito quindi la questione del 30% in più parte dal 2018 appena finisce insomma il pieno casa Berlusconi diciamo così insomma così ci capiamo quindi avrà effetto solo dopo nell'eventualità in cui ci sia un ulteriore proroga un ulteriore intervento in quel senso che cosa succede qua ecco questo è un aspetto che secondo me non è stato valutato in maniera così chiara io plaudo a questo tipo di iniziativa però risulta essere estremamente costosa perché non c'è solo il punto di vista energetico nel senso che il rendere energeticamente un edificio in classe A è estremamente esoso dal punto di vista economico però anche vi è anche la verifica strutturale che anche quella risulta per la questione dei sismi risulta anche quella estremamente costosa estremamente esosa dal punto di vista economico quindi fare questo tipo di operazione senza incentivi economici risulta estremamente difficile ed estremamente particolare e mi pare che anche voi nelle stesse previsioni siete abbastanza cauti da questo punto di vista perché essendo che con questo tipo di operazione si va ad aumentare il volume dell'abitazione insomma del 30% non dare uno sconto nell'Imu per compensare questo tipo per qualche anno per esempio uno sconto un'eliminazione dell'Imu perché appunto per il comune comunque va bene nel senso che aumentano i cubi aumenta la dimensione dell'appartamento e quindi può anche incassare come prima però almeno uno sconto può essere fatto quindi magari scriverlo in maniera chiara potrebbe essere interessante poi per quanto riguarda la questione dei dialoghi tra comuni io ho trovato un attimo affrettato la decisione di portarlo direttamente adesso senza dialogare un attimo con i comuni attorno per presentare un piano complessivo almeno di massima perché non chiedo di farlo che venisse fatto in maniera puntuale perché non c'erano i tempi tecnici probabilmente per questa amministrazione però almeno un piano complessivo di massima con le altre amministrazioni questo si si poteva e forse si doveva anche fare il per quanto riguarda il discorso della della questione agricola io per quanto riguarda la questione agricola io ho trovato estremamente fuori luogo il tipo di ragionamento ambientale che viene fatto perché l'impatto di coltivare una melanzana piuttosto che il pomodoro non va a variare il bilancio ambientale in maniera significativa da nessun punto di vista quindi il fatto di prevedere degli incentivi di qualsiasi sorta che siano normativi o meno o economici o strutturali o quello che vuole lo trova estremamente sbagliato anzi deleterio nel senso che si va a rischio di ingolfare la burocrazia per delle questioni che assolutamente non hanno niente a che fare con quello che è la realtà dei fatti cioè parliamo di possibili cambiamenti infinitesimali per quanto riguarda l'assorbimento del carbonio quindi assolutamente ridicoli insomma da questo punto di vista e quindi da questo punto di vista io spero che non si proceda in questo tipo di modo dopo per quanto riguarda invece le le quelle che avevo chiesto prima che adesso non mi ricordo le barriere permeabili come si chiamavano delimitazioni permeabili li trovo un grave danno rischio dal punto di vista della della sicurezza personale delle persone perché risultano essere barriere molto meno sicure appunto rispetto a prima quindi anche lì incentivare questo tipo di operazione magari sarà più carino avere Fiorellino però soprattutto in questo momento storico dove non abbiamo certezza della pena ci sono sconti depenalizzazioni risulta assolutamente deleterio fossimo in un periodo dove sicuramente si dice chi sbaglia paga eccetera eccetera sicuramente avrebbe un senso effettivo molto più utile ma in questo momento lo vedo estremamente fuori luogo dopodiché sempre le si le poi per quanto riguarda per quanto riguarda la questione del rumore io si ne abbiamo parlato quindi spero che si riesca a fare in maniera che tutti i portatori di interesse risultino soddisfatti che si riesca a trovare per i giovani soprattutto ma anche per tutti gli altri le strutture adatte per poter fare musica balli e altro senza danneggiare quelli che sono i residenti di altro abbiate un attimo di pazienza sì perché l'estrema velocità con cui è stato chiesto non mi ha permesso di organizzare in maniera organica gli interventi allora ritengo ritengo estremamente sbagliato un altro punto che secondo me è importante che è quello che avevo già in pratica fatto presagire nei chiarimenti che è quello dei premi per dal punto di vista energetico che di fatto escludono chi oggi è già stato bravo perché oggi ha l'appartamento la casa il condominio in classe A e ha già la verifica del del sismo sul sisma insomma a posto quindi ha già tutte queste caratteristiche quindi questo qui che è già stato estremamente bravo ha già speso tanti più soldi degli altri perché l'ha fatto in tempi ancora tra virgolette non sospetti quindi quando i costi di scala sono più elevati quindi che ha speso di più che è stato ha avuto una visione migliore ha addirittura anticipato quello che è il piano regolatore la fantastica visione che oggi il sindaco ci ha e il sindaco la giunta insomma tutti i tecnici ci hanno mostrato e viene escluso dalle possibilità di premio io questo lo trovo estremamente sbagliato trovate una formula per dire ti diamo a chi ce l'ha già abbiamo un bonus del 5% 10 20 30 però proponetelo vi regaliamo un'esenzione di 5 anni cioè qualcosa non lo so trovate una formula per dire anche chi è stato bravo e ce l'ha già pensato tutto questo perché deve essere escluso da questo tipo di bonus cioè non riesco a capire perché i più bravi in questo stato italiano vengono sempre bastonati rispetto agli altri chi invece arriva all'ultimo paga smissia non paga eccetera gli diamo sempre l'opportunità in più gli diamo un premio in più il biscottino in più perché siamo in Italia cioè io dico questi sono stati bravi voglio premiarli gli do qualcosa hai già fatto non importa ti regalo qualcosa ti do possibilità di fare qualcosa ma anche solo il gesto alla fine qualcosa che dica effettivamente questi sono stati bravi e quindi risulta anche qui poi attendo ancora il discorso delle anomalie quindi rimarco questo tipo di discorso e mi dispiace che questo tipo di approccio sia stato evitato dal punto di vista del confronto diretto con la vecchia normativa e quindi è un'occasione persa per quanto riguarda il discorso della concorsualità che di cui si è parlato rischia di diventare un bel caos io spero è un'idea anche interessante io spero che venga trattata nella maniera migliore però risulta magari un po' difficile nella sua attualizzazione chiedo ancora se era possibile ridurre di più eventualmente certi tipi di aree espansive e quindi da quanto capito era possibile farlo ma non è stato fatto in tutte le possibili forze con tutte le possibili forze poi qui ho chiesto per quanto riguarda questa mia risposta allora sì ho trovato davvero insomma ridicolo il fatto di dover piantare determinate cose in ambiti privati con delle norme che vedono decidono appunto che cosa poter piantare che cosa dover piantare questo davvero l'ho trovato assolutamente assurdo fuori da ogni grazia di ragionamento gli ultimi minuti invece li voglio usare per rimarcare quelle che sono state delle carenze secondo me totali nella comunicazione coi consiglieri per quanto riguarda questo tipo di piano non è possibile che i file vengano messi a disposizione datati primo luglio a pochi giorni quindi dalla discussione che io mi ritrovi a chiedere ai tecnici come fare mi diano una via che poi risulta essere non corretta e che soprattutto appunto mi impediscano fisicamente di poter avere il tempo materiale per poter leggere e capire tutto il possibile io mi ritrovo quindi nell'impossibilità di poter dare una valutazione effettiva generale su quanto è stato fatto un po' per ignoranza personale perché non era mai materia un po' per questione di tempo un po' per questione di quello che vogliamo ma non sono neanche stato messo nelle condizioni di poterlo fare e questo è gravissimo dal punto di vista oggettivo è stato sbagliato tutto abbiamo visto prima la violazione del regolamento ma voi volete andare avanti sempre forzare la mano in ogni caso perché potete perché avete i numeri allora lo fate passate sopra qualsiasi tipo di rispetto del regolamento e avanti ma questo non è la via corretta da fare perché i consiglieri devono essere messi nella possibilità effettiva di poter giudicare l'operato nella maniera migliore quindi io davvero sono rimasto allibito da questo tipo di scelta non effettivamente la materia tecnica avrebbe anche impedito probabilmente di valutare in maniera assoluta questo ma ciò non toglie che dovevano essere consegnate le carte quindi in ultimo davvero chiudo attendo la verifica sulle anomalie e poi nel secondo intervento dirò qualche cos'altro grazie grazie consigliere consigliere appiccinato non vedo nessun altro iscritto devo chiudere il primo intervento Giannelli a parlare Giannelli e poi ma se non si è arrivato la giornata deve intervenire ma non passa il piano voglio subito che c'è una sentenza del centro e l'ottore vogliamo sentire a parlare Bianchini che conosce tutto Bianchini che è un tecnico anche perché abbiamo sentito questi incontri del fiume che si incontravano in Ciglano sarebbe interessante chiedere No, no, no non siamo in casa C'è la maggioranza non interviene nessuno non interviene per la maggioranza non interviene nessuno non interviene senza non interviene siccome è vero Grazie. 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 Il sindaco che verserà il posto di nuovo piano non è quello a fare, che poi non voglio dire che ci sia il posto. Dico solo che questo amministrazione non vi opererà. Perché non arriverà questo in un anno l'opera dell'esercito per andare il posto. Voglio dire che facciamo il primo passo. Bisognerete qui non aprire, non trovassi nel momento, bisogna aprire una piccola parola di lì sul fatto che noi dovevamo anche 4 anni di mandato, che poi con il governo della regione, non solo il nostro ma nostro, dovevamo andare a trattare la cessazione di questo spagnolo del giallo da parte della regione. Non è pensabile che la regione viva. Non è pensabile che la regione viva. Non è pensabile che i lavori. Non è pensabile che la regione viva. Non è pensabile, che non è pensabile. Non è pensabile che se vuole anche le partenze valore. Noi siamo scegliati nel nostro territorio e nel sudimo, nel sudimo, potremmo i miei miei poverso i dokonali. C'è un ragione, che vi pari della nostra proiettana da l'iniani, pari, che vi pari nostri amici, ma tutti i numeri di internazionale, pari, di grande strategia, ma che la nostra comunità è andata. Che non ci mettere in relazione, colponulli, che ci chiede con me, per mille, la gronda, la faccia, la cosa. Noi, quando non ci sono, non ci sono, ok. Noi, non ci sono, faccio le faccio. Qui ci sono? il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 ma anche se non ci sono rispondenti. La mobilità, quindi anche parla di mobilità. La circondazione di superficie, una chimera, e abbiamo già detto che possiamo essere andati. Quindi non bisogno di controllo, ma non è finito. E' una storia anche finito. Quindi anche sulla mobilità non trovo operazioni sui da Regno. Stiamo parlando dei giorni della chimica della Ligia Rasca. Non trovo un disegno di reorganizzazione per Regno, passando da Nel Nel Nel. Non trovo un nuovo punto sull'incenno, assurdo del mondo della Foglia, che è il breve traffico di ambrosia verso la Ligia Rasca. Non trovo un punto che potrebbe essere fatto in parte del territorio per far passare un'unica che, se vogliamo allargare il Ligio, diventerà un posto di Ligia. Non trovo, onestamente, tutte le locatorie, le stracali, sia in un'ospedale treni, che nemmeno le stracali, che nemmeno le stracali, che nemmeno le stracali, che nemmeno le stracali. Per quanto riguarda il centro scolastico, non ho visto una strategia precisa e puntuale, che è l'unica cosa serve per farlo con il suo interno scolastico. Dopo, nella nostra internazionale, non ho visto. non ho trovato un livello organico per rivedere la sostanza scolastico, il campo scolastico. Voi sapete bene, che il centro scolastico è finito. Chi accompagna il figlio scuola alla mattina sa bene che non è possibile. non è possibile. Eppure, abbiamo il centro scolastico, e poi, un po' di segni, scolastiche, sbarnagliate. Ci sono delle aree a noi, che potrebbero essere ottimamente invitate a fare la cittadina dei miei figli, in modo da risparmiare le energie e vivere un po' di filosofia. non ho trovato nessun riferimento agli accreditamenti regionali per gli anziani. Voi sapete bene, che i prossimi, l'incubini, anzi, l'incubini dei prossimi edifici saranno anziani, anziani, extracomunitari. La regione ha ancora chiuso gli accreditamenti per il caso del mondo, con una comunità strana per quella della media. Cioè, invece, i nostri compiti sono, come si chiamano, 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 come si chiamano. le sedizioni non hanno provato il pilavano dare risposta a questo perché, di fatto, è bloccata dalla zeromenia dell'unico e dell'une. Ho provato che la internazione con gli extra comunitari, che sono il 17% della nostra operazione, è legata alla mediazione culturale. Non è possibile. Non è possibile perché in realtà questa gente saranno i prossimi contenti della nostra vita, perché la mia gente non mi fa così. La mia gente non mi fa così, ma è crescita bene. E adesso arriviamo alle notte del 20. Dove è questa? Ah, ora. Due ore, un'occasione storica per eliminare la situazione in realità. Che cos'è? Gli impiagni e fossili? C'è la birra del U. Cioè, i piccoli terali nevorgoncentrali. Non venite a dire che la birra, Marco come lui non c'è, ma non venite a dire che sono impatti dal mondo perché il mondo è vero. Diffugge, fa un ragionamento sulle zone di espansione. Ma da nessuna parte, è scritto, che non avresti potuto eliminare con tanta più agli attività. Diffugge. 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 Allora, voi dite, attraverso tale variante, la variante 77, ci ha dato un nuovo rimposso a rimontare 500 anni che sono centrati da piante animativi. L'iniziativa pubblica e privata, che per i primi microcelutari hanno intervinto per farlo la ristrutturazione e la rinnovizzazione di vaste aree della città. A parte del 3.8 si dice che gli aree non naturali sono 7.5 delle città. Ora, sole no, non è becoglata, che è un piano affattivo mostruoso e normale. Ma non sono becoglati neanche piccine, 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 di piccolissimi piani affattivi, dove ci sta dietro, deve andare a fare anche questo, che prenderà i soldi per fare il piano affattivo. Perché noi già andiamo per fare il piano affattivi e per non tenere le cose che sono costruite. Poi abbiamo un po' prima cosa, perché voi non vai a essere nuovato, ma non pensi, non è fondamentale. A parte il testo, perché è vero che la solitudine fa, però non pensi, non è fondamentale. Voi, Sassone, e me l'abbiamo chiesto, le regioni delle solitudini, no, scusate, non mi sono. Più di una volta. Tornetele questi piano che stanno rallentando la passione dell'unione della città. La punti proprio qua. Se in un piano ci sono un passetto maggiore, ma anche se ce ne sono due, è molto difficile raggiungere la città. Questo non l'avete fatto, non è per lì, perché eravamo cosiddetta per dire, almeno nelle aree centrali, anzi, nelle aree di prima pericadina, a progettune di letto, con delle belle aree, che le vediamo anche scritte, perché con le due scenari, ci hanno avuto la parte tutta una serie di criteri da l'unione. E quindi, io sono in faccio, io sono in generale, a poter vedere il nostro leggero, che ciò che potrebbero poter, nonostante, che sia un'altra, 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 un'altra. E ora, un'altra, un'altra. E tutto questo è proprio qui la dichiaro d'ungrenza che tiene anche il nostro eccl Yearsese. È il nostro territorio ed è un bezzongo greco, ed è un porto degli annominati per la maglia, ma anche anche il mioсе. Questa una cosa è un volontario, ha detto che sonate, interno a un'altra, un'altra. all'ambiente e, all'uso dei parchi che si vedrete, un'improvazione in questo senso. Ho trovato questo acronimo SPPI che sono, lungo la fascia delle strade, si può andare a blocare un'occhiata. Un'escritta, un'escritta, un'escritta. Un'escritta, un'escritta, un'escritta. Perché i bambini vengono con le mani, perché ci vuole giocare. Dopo che ci può andare a blocare un'escritta. Perché anche a un bar, che è una sera, ci dà un'escritta. L'amoria per il giugno in questa strada. E ci siamo sempre iniettati. Il consumo di sguardo. Il consumo di sguardo. Il consumo di sguardo. Il consumo di op Il consumo di sguardo. Il consumo di sguardo. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. 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 no. no 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 no. C'è sei d'accordo io posso posso concedermi tutti il secondo intervento ma lei dopo non fa il secondo intervento non è possibile secondo me ma secondo intervento lo facciamo domani ormai a questo punto. ma ragazzi stiamo provando un togliamo regolatore perciò calma uno ad ogni trent'anni. non lo facciamo sì 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 è che non lo facciamo Grazie a tutti. 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 Grazie per l'esposizione, molto interessante. Bene, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' stata una preparazione condizionata, questo voglio sottolinearlo, dal poco tempo a disposizione. E perché dico poco tempo a disposizione? Io ho preso atto di quanto riferito in questa sede dall'assessore Toffolo che adesso non vedo se è momentaneamente allontanata e mi dispiace perché parlare degli assenti non è mai bello. Non è mai bello. che poi agli atti, perché poi agli atti, ma poi agli atti, perché poi agli atti, ma io voglio rimarcare l'assenza del povero assessore Toffolo che è qua da stamattina che sta spiegando, illustrando, si è messa a disposizione. Quindi volevo rendere l'assessore. Quindi, però dicevo, dicevo, dicevo che la mia preparazione, faccio riassunto, è stata a quanto approssimativa, perché benché io abbia preso atto di quanto da lei riferitomi sull'iter della preparazione, io non posso che evidenziare quello che ho già detto, ma che ci tengo a lasciare avverbale anche nel mio intervento. Una cosa, assessore, è partecipare giustamente a dei lavori, a degli step, a qualcosa. Altra cosa, a mio modo di vedere, è fare un lavoro di sintesi dove va a prendere le conclusioni già raggiunte, soprattutto se raggiunte in tempi tanto lontani. Io, sa, mi ha appassionato, dico la verità, ero venuto qua con l'intenzione, a parte fare quell'eccezione che ho fatto sulla mancanza di tempo. Sto natato, non occuperò tutti i 30 minuti, mi chiedono di aspettare. Eh no, non me li hanno fatti dare, non me li hanno fatti dare. Eh no, perché ha detto il Presidente che ha utilizzato il secondo intervento di Giannelli. Cioè io li avrei dato tutti i 30 minuti, perché... No, no, chiede al Presidente, Giannelli ha usato... No, mi chiede la conferma, non ha usato i miei minuti Giannelli. Io gli ho concesso, ma lei ha detto che non potera, quindi ha fatto usare a Giannelli il suo secondo intervento. Stavo dicendo, ho perso anche il filo adesso. Stavo dicendo che io... Stavo dicendo che io ero venuto qua con altra intenzione stasera, Assessore, per spiegarne la differenza, o meglio, per spiegarne cosa intendevo io sul fatto che una cosa è partecipare a delle commissioni degli step, una cosa poi è trarre le conclusioni e la sintesi del lavoro una volta che io ho fatto tutto il lavoro. Ed ero venuto con l'intenzione di chiedere proprio a lei, su delle delibere da lei fatte, nelle stesse date o nello stesso periodo di quelle cose, di quelle commissioni a cui le faceva riferimento, se oggi, a distanza di tempo, poteva avere memoria di questo. Perché io lo dico? Perché ritengo una cosa gravissima, e ritengo una cosa gravissima, quella che ha fatto questa amministrazione, e questa maggioranza, il mio argomento è tanto delicato, il piano regolatore, l'hanno ricordato i professionisti nel loro lavoro, l'abbiamo visto noi, se andiamo avanti per variante, mi sembra ci sia solo il primo del 60, poi dopo lo chiamano variante 1, variante CQT, è qualcosa di importante che va a permeare la vita di una comunità. E allora ritengo che sia svilente, soprattutto se alle spalle c'è un lavoro tanto importante e tanto prezioso, anche dal punto di vista economico, perché i professionisti, sentivo prima gli importi, però giustamente hanno lavorato, quindi è giusto riconoscerlo, forse andavano pagati anche di più, però avevano fatto una gara, sappiamo quello che c'è stato dietro. Però è svilente, credo anche per loro, vederselo liquidare dell'amministrazione 4-4-8 in questo modo, ed è svilente, ed è svilente, credo, anche per i consiglieri di maggioranza, ma che senso ha venire qua e basarla tutta su una prova di forza, tanto abbiamo la forza dei numeri, tutto quello che dice la minoranza è perso e non si può fare quell'opera di convergenza su argomenti almeno che sono importanti per la vita della città, perché poi possiamo raccontarcela come vogliamo, ma siamo sempre allo scontro delle parti, ma anche sui argomenti importanti, quindi quello che dice la minoranza alla maggioranza non interessa niente. Non dico che noi siamo dei santi, non lo dico che noi siamo dei santi, e noi chiaramente, quindi io ritengo che gli argomenti tanto importanti, forse in buon senso, ed è questo cui mi facevo riferimento all'inizio giornata, dovrebbe regolare. Quindi, le ripeto, io ero venuto qua con l'intenzione stasera di tirare tutto insieme i dati e chiedere, lei si ricorda cosa ha fatto questo due anni fa, tre anni fa, come mai non se lo ricorda? Che è anche pagata da noi per stare lì a fare solo quello? Si figuri chi, come me, fa politica per passione e deve convivere con un insieme di cose. Per questo ritengo che ci serviva più tempo. Tutto questo preambolo, interrotto anche dalle campane, per dire che cosa? Per dire e ribadire che la mia preparazione non è quella che avrei voluto, perché avrei voluto avere il tempo di farmi il mio convincimento, in base al quale probabilmente avrei votato contro, lo dico, probabilmente si è arrivato alla fine dicendo guardi non mi ha convinto, non mi convincono determinate cose, però avrei avuto il piacere, come ho fatto altre volte, soprattutto in materia dove riesco magari con più celerità a guardare, non so, mi viene in mente il bilancio e altre cose, puntualizzare, come ho fatto già altre volte, guardi, questo non è che voto contro, io qua avrei fatto diversamente, avrei fatto questo, un po' quello che ha fatto già i consiglieri Zannelli prima. Invece mi tocca dire due, tre, quattro idee che ho io orando, purtroppo non come avrei voluto fare. Ecco, questo era il preambolo che ci tenevo a lasciare agli atti. E adesso vediamo quali sono queste due, tre cose, se ritrovo i miei appunti, ecco li qua. E poi sono fondamentalmente una parte di quelle che erano le domande che ho fatto prima, di cui le do atto delle risposte, la ringrazio per la disponibilità della risposta, però non mi hanno convinto totalmente. la prima riflessione che mi viene da fare. Dopo tanti anni che aspettiamo uno strumento importante, noto che, a mio modo di vedere, però lei prima mi ha dato una spiegazione, che non so se sto per dire un'eresia, però le ripeto, deriva dalla mancanza di tempo, trovo una carente informativa, almeno allo Stato, lei stessa mi ha detto che dovrà essere integrata in un lavoro successivo, sul piano della mobilità, lo so che è un altro strumento, però Pums, Pusso, che come, urba, su cui spero che il mobility manager qualcosa, abbia fatto, se ho già fatto i chiarimenti, no, ma perché dico, allora, con riserva, con riserva chiaramente poi di verificare successivamente a questo Pums, se quello che dico sarà una sciocchezza totale, una sciocchezza parziale o non sarà una sciocchezza, mi sarei aspettato delle indicazioni più invasive da parte del piano regolatore su questi aspetti che, lei prima mi ha detto, sì, il piano regolatore tocca anche gli aspetti sulla, però sono alcuni aspetti non tolgono. Ecco, allora, con riferimento a quell'area sulla quale avevo chiesto specifiche informazioni prima, che quella del mulino Zuzzi, quella zona, ecco, io dico che sia un'area, che siamo in un'area ridosso del centro cittadino, in pieno centro, che quello sia una criticità evidente che solo, che solo un'amministrazione cieca della quale non può rendersi conto, io non so se voi ci passate mai, io ci capito spesso, ma vi sembra normale che voi dovete buttare gli utenti che devono arrivare al di là di via Oberda, a buttarli verso il centro, dove poi si trova la biforcazione con quelli che vanno verso il corso, che spesso si fermano per non dare anche la precedenza a quelli che vengono dal corso Garibaldi, e si va in tasare, per poi doversi li buttare su via Oberda, quindi parte Oberring, per poi riuscire ad arrivare all'altra parte, e non siete, mettete rotonde da tutte le parti, lì non l'avete messo, non siete riusciti a fare neanche una rotondina di quell'infinitesimale, non lo so, un semaforo, non lo so, quella volta, questa cosa, le ripeto, è purtroppo un problema che c'è da parecchio tempo, io ne avevo parlato, non mi ricordo, non mi ricordo se c'era già il sindaco Pedotti, ma credo di no, credo se fosse ancora il sindaco Bozzonello, in opposita, forse addirittura una mozione, credo, che fosse una mozione, mi rispose, no, che stiamo rivedendo l'area, e facciamo sottopasso, facciamo, non abbiamo fatto, non avete fatto niente, ma non solo avete fatto niente, ma non avete neanche previsto, allora io non so, se la previsione, di questo intervento, rientra tra quelle linee generali, che credo siano contenute nel piano regolatore, oppure magari è una linea più specifica, che potrò ritrovare sul PUMS, ecco, e mi auguro se così fosse, come in questa seconda ipotesi, mi auguro di ritrovarlo nel PUMS, quest'opera di buonsenso, come per restare in quell'area centrale, in quella zona, un'altra cosa che riguarda il buonsenso, il mio modo di vedere, è quello stallo davanti al calice d'oro, io ne ho parlato spesso con l'assessore Conficoni, non so se vi siete mai messi, spalle alla stazione, venendo verso il centro, questo qua è vero, su via Mazzini, non so se avete mai notato, che disallineato rispetto a tutti gli altri stalli, c'era uno buttato lì, davanti al calice d'oro, con lo spartitraffico in cemento, dove le macchine, e con una pista ciclabile che ti viene in faccia, allora, quando trovi la macchina che deve andare verso via Damiani, si crea di ingorgo, perché? Perché c'è una macchina, uno stallo, uno stallo di parcheggio, e una macchina giustamente si parcheggia, tutto questo, per la mirabolante cifra, credo di 1,60 euro all'ora, e questo non ho mai capito, che solo questo stallo salva le finanze comunali, se è un'opera per cosa? Per rallentare in pieno centro, perché là c'è gente che va a 150 all'ora, e se solo se è un'altra mirabile opera, del nostro mobility manager, che magari l'assessore, che era Zilla, l'altra sera che mi ha fatto l'elencazione, si è dimenticato di indicare, ecco, quindi, ripeto, neanche questo so, se sono quello, non so, io l'ho detto, ho premesso, non lo so, perché non ho avuto tempo di studiare, chiedo scusa, io non sono purtroppo a ritenere un gruppo del fiume, che millanta incontri, e poi non si, che millanta incontri, e poi non parla neanche, perché io capisco che non siamo abituati a parlare, ma io quasi dispiaciuto, veramente avrei voluto farne parte, del gruppo del fiume, guarda, dovrò presentare, dovrò presentare, dovrò portare, dovrò portare la domanda di iscrizione al fiume, trecento, 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 no, si vede, si vede che il consigliere Bianchini, è stato un po' disattento, perché io ho fatto delle premesse, che forse non ho voluto ascoltare, come? no, no, ho fatto anche, ho fatto anche, ho fatto anche delle premesse, quindi guarda, Bianchini, se lei fosse stato più attento, avrebbe ascoltato, capisco che le premesse, ho detto che ci sono delle linee guida generali, se non ho capito male, sul piano del traffico, sul piano dei parcheggi, che un piano regolatore dovrebbe dare, io ho detto, io poi non ho, prego, prego, no, mi dica, mi dica, sì, sì, no, non chiedo neanche, prego, ma per chiarire, va bene, so che è totalmente, il rituale, mi scusi, ma ci sono dei diversi livelli di pianificazione, il piano regolatore, da il governo del territorio, poi la mobilità, fa parte di un altro settore, ma è una, è una delle, delle linee di confine, molto facilmente, per me, ecco, va bene, allora, tutte queste, quello che, ad esempio, potrei fare io, come piano regolatore, nel momento, se nel PUM, ci fosse quel sottopassaggio, è prevederne, l'individuazione urbanistica, ma questo lo posso fare, in qualsiasi momento, in cui, quest'opera, ci sta, economicamente, finanziata, come abbiamo, molto fatto, ad esempio, il piano regolatore, non si occupa, dei parcheggi, ecco, quindi è solo questo, che voglio dirle, credo che, quello che lei, giustamente, sta segnalando, e infatti, lei ha già colto, ha già colto la mia sottigliezza, caro assessore, perché lei ha detto, che vengono previsti, i macro interventi, e se il mio riferimento, alla scadenza temporale, di quando io feci, quella mozione, è proprio per dire, se in tanti anni, non siete riusciti a farlo, adesso che mettete mano, ai macro interventi, non lo prevedete, non ditemi, che forse, va nel Pums, perché nel Pums, non c'entrerà mai, un'opera di questo tipo, perché è una scelta politica, diversa, questo era, dove, questo era la riflessione, che volevo portare, quando ho detto, ho fatto questo esempio, particolare, ho fatto una nota specifica, che noto, lei ha colto, e non avevo dubbi, come non avevo dubbi, che qualcun altro, non lo accogliesse, ma anche questo, mi porta, una poca sorpresa, poi, poi, tornando, tornando a noi, invece, mi è piaciuto, mi è piaciuto, di quello che ha fatto vedere, Giannelli, il consiglio Giannelli, che è andato via, mi dispiace, perché, pur non essendoci noi parlati, per niente, io, gli ho dato una mano, ma giusto, ha colto anche quello, che era il mio pensiero, per quanto riguarda, la riviera, e l'allargamento del ring, io per carità, lungi, lungi, lungi da me, studi approfonditi, schizzi, come ha fatto Giannelli, eccetera, da semplice cittadino, pordenonese, prima ancora che consigliere, mi sono fatto, mi sono posto, delle, non ci credo, non ci credo, vabbè, mi ero posto, delle domande, delle riflessioni, dico, dico, mi sono, mi sono, no, prima la dottoressa, mi ero posto questa riflessione, dico, abbiamo, un fiume talmente bello, un aspetto naturale, tanto bello, all'interno della città, abbiamo fatto una commissione straordinaria, qualche tempo fa, proprio per valorizzarlo, e, francamente, non capivo, il perché, ancora, non fosse stato, non si possono pensare di tutto un insieme di accorgimenti, io, da profano e non tecnico, avrei detto, avrei previsto, avrei pensato, allargamento del ring, facendo, senso contrario su via San Giuliano, chiudendo l'accesso al Marcolin, cioè, la strada viene su, si ferma il Marcolin, vanno là, e, pum, pum, sentivo qualcuno che bisbigliava, pum, vedo qualcuno che bisbigliava, pum, ma, qualcuno poi non parla, si venga a parlare sotto gli altri, perché forse non si attiva la sintesi di quello che, dopo mesi e mesi di, pressante lavoro, comunque, cos'è sta roba, sto, emendamento, nuova, adesso, sì, solitamente, sentite proprio una sospensione, Francesco, solitamente, sì, infatti, guardi, la collega Piccini, la collega Piccini, che è molto più brava di me, è molto più, no, no, molto più acuta di me, è sicura, ecco, mi fa notare, giustamente, perché io stavo leggendo adesso, ma perché mi devo portare via tempo, visto che c'è un emendamento, che già è qualcosa che, che mi fa, inorridire, posso dirlo, dopo, no, io adesso, non lo so, oh, Bianchini, basta, parla, hai il microfono, prendi il dittino, premi i prenoti, no, c'è il Presidente, basta, io capirei se non potesse più parlare, ma il soldatino Bianchini, credo che possa parlare, parla, Bianchini, parla, premi, strucca il buton, infatti, no, ho letto, forse, vedi che non capisci, neanche quello che uno ti dice, quindi, evidentemente, adesso, credo, no, Presidente, può parlare, ma non può essere, diventa un dialogo fra voi due, diventa anche un po' noioso per gli aspetti, ma diventa noioso, se io ogni volta devo sentirmi uno, se io devo sentirmi uno sotto, ma lo dico a tutti e due, perché mi fa bla 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 bla, perché parla, non potere il merito di quello che dice lui, in questa sede, no, io volevo, io volevo fare una richiesta, volevo fare una richiesta specifica, di sospensione del mio intervento, perché, no, ma c'è notato, 5 minuti, devo capire cosa c'è scritto sull'emendamento, perché visto che il primo intervento, e può darsi che mi servono 10 minuti, eh no, Presidente, io devo essere messo a condizione, nel mio primo intervento, di fare, come no, scusi, Presidente, il rituale, ma scusi, allora, io non potrò mai interloquire, io non potrò interloquire su questo documento, come faccio, mi dica lei lo strumento, mi dica lei lo strumento, come, lo strumento a disposizione, mi dica lo strumento a disposizione di un consigliere, per interloquire su questo argomento, sì, e se io dovessi dire, e se io dovessi dire 15 minuti di, se io dovessi fare un'osservazione di 15 minuti su questo intervento, ma Presidente, lei è Presidente non a caso, cioè, lei è Presidente, è più veloce degli altri, ma il Presidente non fa valutazioni politiche, ma l'assessore l'ha già spiegato, ma l'assessore l'ha già spiegato, ma l'assessore, viaggiano, viaggiano, vatti inizi e usciranno, sì, ma che cosa, che cosa, è una cosa stucchevole, è una cosa pregnante e stucchevole, non che c'è, è impossibile, impossibile, allora, allora, cercherò di sintetizzare, cercherò di sintetizzare, cercherò di sintetizzare, cercherò di sintetizzare il mio, il mio pensiero allora su questo emendamento, allora, io, perché, no no, non voglio neanche, guardi, assessore, non voglio, no, non voglio, no, per carità assessore, io non voglio neanche, io non voglio neanche, Se accitiamo aumenta la temperatura. Se però per tutto il elemento il consigliere Bianchini ha detto perché mi dà fastidio mentre vi parlo. Sì ma non ti sento, sei sotto, scriviti, mandati un sms, mandati un sms. Allora io assessore, io per carità sbagliamo tutti quindi io non so neanche il contenuto, sono stato diffusi, però dopo quattro anni e dopo un percorso lungo, tormentato e tortuoso, soprattutto scoprire che fate degli errori e quando vi chiediamo una settimana in più ci rispondete no dobbiamo provarlo subito perché non casca il palco e beh forse non vi serviva anche per mettere a posto le carte di evitare la brutta figura di portarvi un emendamento su un documento che avete da quattro anni in elaborazione. Beh francamente credo che il buon senso ancora una volta, cioè almeno fare la bella figura di dire guarda Ribetti stai dicendo un fracco di sciocchezze perché noi in quattro anni che lavoriamo abbiamo un documento perfetto, pronto, preciso, siamo i più bravi del mondo, siamo i più belli del mondo e volete farci perdere tempo e invece resterà gli atti che dopo quattro anni di lavoro, dopo una richiesta di discutere una settimana dopo ci avete detto no perché abbiamo tutto pronto e dobbiamo votare il vostro emendamento che avete sbagliato anche a scrivere. Francamente io credo che sia paradossale o ridicolo ma può essere una idea mia. Va bene, comunque chi fa sbaglia ed era tutto pronto non si poteva rinviare la discussione. Va bene, torniamo a bomba sulla discussione, sul contraddittorio, torniamo a bomba sul piano regolatore Pumus o non Pumus che sia. Mi è piaciuto, ma però adesso lo dico seriamente, mi è piaciuto l'idea invece del noccello, cioè del noccello la parte che mi ha detto lei. Io ho già detto, avrei immaginato qualcosa di più pregnante. Quella parte che mi ha detto ne prendo atto, prendo atto delle navigabilità, prendo atto dell'idea che ci ha riferito l'assessore Conficoni, di mettere il parco largato. Mi è piaciuto a livello di coprire il marcolin di terra col parco largato, questo sì, questo è bello, però mi sarei immaginato, ripeto, più coraggio, poi non so se lo vedremo dopo, lo ripeto, non sono tecnico, se vedremo dopo sul Pumus l'allargamento del ring che credo sia necessario a quel punto, con via San Giuliano all'incontrario, levando, e non so se posso fare un riferimento sulle piste ciclabili, perché magari qualcuno si arrabbia, perché non vorrei, però se magari date le indicazioni, visto che il piano regolatore forse delle indicazioni può anche dare sul piano, o no, o non può interloquire, direi magari che le piste ciclabili non venissero fatte a tutti i costi, sempre e comunque in ogni caso, venissero fatte con buon senso. A me dispiace per l'assessore Conficoni che magari vuole vincere un premio particolare dell'uomo che ha fatto più piste ciclabili del mondo a scapito di tutti, dove è Conficoni? Però io credo che ci sia veramente dei limiti alla decenza, limiti che spesso vengono travaricati, e ripeto, come la pista ciclabile su via Damiani, vedo il consigliere Dalmas che agluisce, perché l'ottociclista, tu e Conficoni. Poi, un'altra cosa che volevo sottolineare, un'altra cosa che volevo sottolineare, e anche qua seguo un po' quello che ha detto il collega Giannelli che mi ha anticipato, è la carenza a mio modo di vedere, che questo l'avevo detto in qualche intervento, di come non essendo previsto il carcere, almeno non mi sembra di aver letto che sia previsto, ecco, io ritengo che sia un inaccettabile deroga da parte dell'amministrazione, forse anche per noi, continuo a riguardo, no, io credo che sia un inaccettabile deroga al proprio ruolo che la città deve avere di città capoluogo. Ci si riempie spesso la bocca di risparmio di costi, tagli di costi, l'abbiamo già detto in altre occasioni, ma voglio ripeterlo questa volta perché forse con questo atto, ripeto, uno strumento forte, l'amministrazione definitivamente dice il carcere lo facciamo noi, lo deleghiamo ad altri. Beh, pensiamo, l'abbiamo scandinato molte volte, pensiamo ai costi di trasferimento, ma non degli avvocati che fanno la professione, di giudici, di personale di polizia penitenziaria, personale di polizia penitenziaria, pensiamo ai trasferimenti dei detenuti, grazie Presidente, pensiamo ai trasferimenti dei detenuti in tribunale a Pordenone, perché siamo noi a città capoluogo e il tribunale sarà qua, quindi ritengo che non prevederlo il sindaco nel piano regolatore, lo so che è la sua precisa scelta, però per una città, no, una città capoluogo non dovrebbe abdicare questo ruolo, con tutto quello che ne consegue, tutto il personale di polizia penitenziaria potrebbe essere domani portato ad andare a trasferire più vicino al luogo di lavoro, come sarebbe normale, quindi la città che abbiamo già preso dalle carte, lo sapevamo già, però abbiamo la conferma che non siamo una città attrattiva, mi sembra di capire che continuiamo a scendere, non è che la gente sgomiti proprio per venire a vivere a Pordenone, e noi stiamo continuando a mandarli via, e noi stiamo continuando a fare di tutto, a fare di tutto per far sì che la gente a Pordenone non ci venga. Quindi detto del carcere, detto ciò, cosa restava qua? Le aree industriali, le aree industriali che questo è oggetto della mia richiesta di chiarimento, anche questo oggetto della mia richiesta di chiarimento, ecco qua invece devo fare un plauso all'amministrazione, forse più ai progettisti, non so se sta a merito dei progettisti o dell'amministrazione, per quanto riguarda la copertura, l'idea del fotovoltaico. Un plauso con un punto di domanda, io adesso non so oggi come oggi quanto sia l'introito, i pannelli fotovoltaici hanno avuto un grosso boom qualche anno fa, lo sappiamo tutti, sappiamo adesso che la situazione è diversa, mi auguro che le previsioni dei tanti ettari, 14, 18, 15, quelli che erano, possano veramente servire al fabbisogno e portare dei risparmi importanti, non lo so, lo vedremo col tempo. Ecco, l'unico piccolo appunto, se così si può dire, che sul punto delle aree industriali mi sento di fare, è che se da una parte posso condividere l'analisi dello scenario macroeconomico presente nella relazione, quindi è vero, siamo in un momento di contrazione, siamo in un momento in cui di cappannoni vuoti ce ne sono tantissimi, siamo in un momento in cui le nostre imprese, importante, e qua stranamente non avete colpa a voi, ma colpa al governo nazionale e anche a mio modo di vedere, guarda siete sempre voi però, vanno a delocalizzare, avete tutto, è difficile che non avete colpa e colpa, vanno a delocalizzare all'estero per una politica miope che prevede la tasse di cittadinanza, adesso la gente verrà a trasferirsi qua. Ecco, quindi stavo dicendo, se da una parte posso capire le premesse macroeconomiche, dall'altra vorrei, sperando, sono un ottimista, che in ipotesi, magari di una ripresa, che ci riporti a dei livelli diversi, il piano possa prevedere, potesse prevedere qualcosa, mi spiego, se domani riparte bomba l'economia e scopriamo che diventiamo noi attrattivi perché magari al governo va qualcuno che decida di dare incentivi, sarebbe brutto che a fronte di richieste un piano nulla prevede a riguardo, quindi sarebbe importante un'elasticità nei limiti del possibile, che a fronte di un'inversione di tendenza possa recepire delle domande e non essere, non diventare un vincolo ulteriore, non diventare un vincolo ulteriore ai tanti ed aggiuntivo rispetto ai tanti che già la burocrazia del nostro Paese ci dà. Grazie. Grazie. Ma perché non so se l'ho mai detto ma ho avuto poco tempo per prepararmi, forse a qualcuno era sfuggito, tutto il tempo mi ha fatto perdere Bianchini, allora vado a concludere velocemente. Io sono contento che questa amministrazione da una parte principalmente vada al recupero dell'edilizia, dell'esistente però sono anche contento che i professionisti in maniera chiara ci hanno detto qualcosa che noi da sempre l'abbiamo detto in quest'aula come in questa città siano stati costruiti troppi mobili, se qualcuno che ha buttato colate di cemento nella città con il bene placido di molti che siedono in quest'aula e che adesso si strappano le vesti dicendo che questo piano è bellissimo questa amministrazione, l'amministrazione precedente, questa, quella prima la stessa amministrazione gli stessi colori che siete voi avete riempito di cemento la città e adesso venite a dire per fortuna che il piano regolatore non lo prevede più, signori gran parte di quel metri cubi cemento è molto, anzi colpa vostra bene, grazie bene, consigliere Franchin, prego Buonasera, grazie per la parola Presidente e signor Sindaco dunque, siamo arrivati a una giornata stressante alla fine quindi non so che senso abbia il mio intervento a questo punto, però ci tengo a dire due cose che secondo me sono importanti la prima cosa che ci tengo a dire è che quando è partito il piano regolatore quando è partito il progetto si è portato subito sulla partecipazione allora io avevo pensato sbagliando che in effetti la partecipazione fosse anche un mezzo per in qualche modo togliersi delle responsabilità e cioè ho pensato che la partecipazione di tutti a un progetto così importante alla fine risultasse in una grande una grande così condivisione e quindi di fatto l'amministrazione era più leggera e questo ve lo dico che vale anche per la maggioranza io ho cercato di partecipare con quanto ho potuto per come ho potuto tutte le riunioni quindi a 4 anni di riunioni eccetera portando quello che era il mio piccolo contributo e che mi sono reso conto che quello che abbiamo detto è stato accettato è stato accolto cioè mi sono reso conto che il partecipare in questo caso ha significato per l'amministrazione avere più strumenti e fare delle scelte allora mi sembra che oggi ho sentito una grande così un tempo molto lungo dedicato alla parte tecnica fatta benissimo secondo me tre interventi che sono quelli del signor sindaco dell'assessore e dell'architetto che invece sono stati politici e cioè hanno fatto capire che dietro a quella che è stata una scelta di una proposta c'è uno studio e su questa cosa io mi trovo perfettamente d'accordo c'è uno studio molto approfondito cioè c'è un'analisi non solo geologica idrogeologica ma c'è uno studio sociologico è quello che abbiamo sempre pensato la città come tutto il paese in una fase in cui deve ripensarsi ripensarsi e in questo momento la città farebbe un gravissimo errore a proporre ai nostri cittadini dei sogni non realizzabili faremo faremo una cosa assolutamente poco deontologica secondo me e quindi io penso che l'amministrazione che alla fine si assume la responsabilità di fare una proposta si prende tutta la responsabilità sindaco giunta di una proposta che per la città sarà impegnativa sarà assolutamente così da verificare negli anni ma si prende la responsabilità di una visione la propone la città io ovviamente la condivido quindi interrogo subito il mio voto favorevole lo dico subito ma personale che non voglio fare un discorso di voto di gruppo perché lo faremo domani no? perché stasera ormai siamo andati oltre qualsiasi ma questa cosa a me sembra fondamentale cioè noi abbiamo chiesto i cittadini di partecipare ma la responsabilità è nostra cioè di quello che facciamo la responsabilità è di questa amministrazione a me sembra che sia un passaggio importante della politica no? che allo stesso modo mi hanno segnato i quattro punti che secondo me da tutte queste discussioni mi hanno rimasto in testa no? e cioè la sicurezza cioè come si fa a non dire ai nostri cittadini che non ti facciamo costruire lì perché ci costi tantissimo farti costruire lì cioè la nostra la nostra comunità non può farsi carico di metterti a rischio anche se tu volessi non può farsi carico perché noi abbiamo dovuto pagare un sacco di altri soldi e adesso aver tolto anche dei diritti secondo me è stata un'operazione coraggiosa però giusta cioè è quello che è giusto è giusto anche se per non tutti sarà giusto ovviamente la seconda cosa è questa di aver pensato una città che deve produrre energia attraverso le sue caratteristiche che sono quelle dell'acqua e attraverso una riqualificazione verde cioè è una scelta è una scelta di dire Pordenone è una città che avrà una grande secondo me Pordenone è una città che avrà un grande ne abbiamo parlato perché ho un'altra frequentazione ma dico che ne abbiamo parlato perché su alcune cose almeno lui ha questa capacità di essere visionario ma stasera un po' troppo perché di fatto su questa cosa noi non siamo d'accordo non vogliamo assolutamente che la città viva dei sogni non realizzabili abbiamo già rissuto questi esperimenti non hanno funzionato amministrazione seria vuol dire questo ti posso offrire e vediamo cosa possiamo fare insieme io è di questo che mi sento di condividere di questo piano quindi la sicurezza l'energia come motore del problema secondo me è importantissima ma è la la perequazione cioè la perequazione non è io ho i cubi tu hai la possibilità di costruire mettiamoci d'accordo è rimettere i cittadini allo stesso livello il mio valore del mio cubo vale quanto il tuo che costruisci e io amministrazione faccio da garante per la collettività no mi sembra una cosa assolutamente non dico che sia originale perché mi sono reso conto che tanti comuni ma è importante che anche questo comune l'abbia adottata no e l'ultima cosa che secondo me è fondamentale è che noi andiamo a chiudere una nostra amministrazione con un atto coraggioso allora questa è la dignità del fare politica cioè potremmo benissimo far littare no perché abbiamo fatto ci siamo messi in questa storia che tutti sappiamo inutile che ci veniamo no il piano lavoratore è spinoso no io l'ho capito almeno per quello che ho capito io l'amministrazione che se ne fa carico ha un coraggio io questo io questo penso che sia da dire in questo momento è un'amministrazione che ha coraggio e che permette a chi ci sarà dopo di noi se saremo sempre noi speriamo di essere sempre noi no di partire da una visione di città e quindi io penso che questa cosa sia non solo meritevole fatta bene e avrà il mio voto favorevole grazie consigliere 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 pericini prego mozione d'ordine presidente mozione d'ordine proprio perché visto l'orario visto anche la temperatura sforeremo di ha cominciato a funzionare ci piace sforeremo di 10 minuti perché il suo intervento se anche durasse mezz'ora sforeremo di 10 minuti il tempo previsto io devo fare mozione d'ordine sto facendo una mozione d'ordine non sto facendo un intervento allora motivo questa mozione d'ordine proprio perché vedo che c'è non c'è questo affollamento nel se ci fossero stati io l'avevo ritirata prima quando si è iscritto Bianchini no perché dovevo fare la mozione d'ordine se tu devi parlare è giusto che tu parli cioè non è posso fare la mozione a dirti di non parlare e quindi se Bianchini si era iscritto Franchini si era iscritto a parlare era giusto che parlasse però visto l'orario visto la temperatura visto la stanchezza con la quale da questa mattina siamo qui in quest'aula io la mia proposta era quella di anticipare di mezz'ora domani e perché anche gli interventi io so che molti devono fare gli interventi si sono preparati per farlo domani non intendono farlo stasera all'ultimo minuto e non tenevano in questo clima molto stanco cosa chiedo solo una mozione semplicissima anticipiamo di mezz'ora domani l'intervento faccio presente che ero qui puntuale stamattina e anche oggi pomeriggio ero addirittura fuori dalla porta chiusa quindi non è che lo dico perché voglio andare a casa prima il problema è se ci fossero iscritti a parlare ma non è neanche giusto che non facciano il primo intervento tutti i consiglieri che sicuramente lo faranno quindi chiedo sì ho capito ma non è che possiamo approfittare perché non si sono iscritti stasera di allora la mozione è io spero che sia condivisa ma per l'interesse del lavoro perché non perdiamo niente e domani siamo qui a portare avanti il lavoro la mia mozione consiste nel chiedere allora questi 20 minuti li anticipiamo domani di arrivare un po' prima e partire prima domani e recuperiamo il tempo e così tutto si possono iscritti allora guardi per quanto riguarda la sua mozione d'ordine dico il mio pensiero allora concordo sul fatto che stasera è stata un po' pesante la cosa vista la temperatura pertanto tutto sommato anche se dovessimo perdere 20 minuti non cambiarebbe nulla però una cosa non posso anticipare perché ho già indicato l'orario nella convocazione pertanto per i consigli che non sono presenti o comunque un attimo ecco allora si mi fa ecco non posso anticipare certo che se arrivassimo puntuali tutti quanti sarebbe già perfetto seconda cosa ricordate che domani dobbiamo chiudere l'argomento perciò potremmo arrivare a mezzanotte e anche oltre perciò tenete conto perché così è stato deciso anche come commissione capigruppo bene se c'è qualcuno che si oppone alla chiusura dei lavori adesso se non c'è nessuno io chiudo i lavori allora chiudo i lavori e ci vediamo domani alle 14.30 qui siamo sempre al primo intervento vi prego la puntualità così chiudiamo perché torniamo a casa prima